Capitolo primo. È cosa ormai risaputa che a uno scapolo in possesso di un vistoso patrimonio manchi soltanto una moglie. Questa verità è così radicata nella mente della maggior parte delle famiglie che quando un giovane scapolo viene a far parte del vicinato, prima ancora di avere il più lontano sentore di quelli che possono essere i suoi sentimenti in proposito, è subito considerato come legittima proprietà di una o dell'altra delle loro figlie. Caro Mr. Bennet, disse un giorno una signora al marito, hai sentito che Netherfield Park è finalmente affittato? Mr. Bennet rispose che non lo sapeva affatto. Oramai non ci sono più dubbi, ribatté la signora, perché è venuta qui poco fa Mrs. Long e mi ha raccontato ogni cosa. Mr. Bennet non rispose. Non hai voglia di sapere chi lo ha preso? esclamò sua moglie impaziente. Sei tu che hai voglia di dirmelo e non ho nulla in contrario a sentirlo. Come incoraggiamento poteva bastare. Dunque mio caro, devi sapere che Mrs. Long dice che Netherfield è stato affittato a un ricchissimo giovane dell'Inghilterra del Nord che arrivò lunedì con un tiro a quattro per vedere il posto. Ne fu talmente entusiasta da prendere immediatamente tutti gli accordi con Mr. Morris. Prenderà possesso della proprietà prima di San Michele e una parte della servitù arriverà per la fine della settimana ventura. Come si chiama? Bingley. È sposato Scapolo. Oh Scapolo, Scapolo, grazie a Dio. Scapolo e per di più ricchissimo. Quattro o cinquemila sterline di rendita. Che fortuna per le nostre ragazze. Perché? Che c'entrano loro? Come sei noioso, caro Bennet, rispose sua moglie. Puoi immaginare che spero ne sposi una, no? È questo il suo proposito nello stabilirsi qui? Proposito? Ma che sciocchezze! Che modi di parlare sono questi? Nulla però gli può impedire di innamorarsi di una di loro e di sposarla. Per cui, appena arriva, devi recarti immediatamente a fargli visita. Non ne vedo proprio la ragione. Puoi andare tu con le ragazze, oppure puoi mandarle da sole, cosa ancora migliore, dato che essendo tu graziosa come loro, Mr. Bingley potrebbe, fra tutte, preferire te. Ah, caro, tu vuoi adularmi. Non nego di essere stata graziosa ai miei tempi, ma non pretendo di essere adesso più niente di raro. Quando una donna ha cinque figliole da marito, è meglio che rinunci a pensare alla propria bellezza. Questo accade soltanto quando a una donna non rimane più molta bellezza. Ti ripeto, mio caro, che quando Mr. Bingley diventerà nostro vicino, dovrai farti un dovere di andarlo a conoscere. Mi stai chiedendo un po' più di quanto possa prometterti, ti assicuro. Ma così poco ti premono le nostre figlie. Pensa che partito sarebbe per una di loro. Sir William e Lady Lucas hanno già deciso di fargli visita e la ragione non può essere che questa, perché, come sai, generalmente non si recano dai nuovi arrivati. Davvero dovrai andare anche tu, perché a noi sarebbe impossibile farlo se tu non ci hai precedute. Mi sembri più che scrupolosa. Sono certo che Mr. Bingley sarà felicissimo di vederti e io, a mezzo tuo, gli manderò due righe per assicurarlo del mio cordiale consenso al suo matrimonio con quella delle nostre ragazze che sceglierà. E sarà mia premura mettere una buona parola per la mia piccola Lizzie. Oh, spero che non farai una cosa simile. Lizzie non vale più delle altre e non è certo bella come Jane, né ha il carattere ebrioso di Lydia, ma tu hai sempre avuto una preferenza per lei. Nessuna di loro vale molto, rispose Mr. Bennet. Sono tutte sciocchine e ignoranti come le altre ragazze, ma Lizzie è un po' più sveglia delle sue sorelle. Come può insultare così le tue figlie? Lo fai apposta per irritarmi, non hai nessuna pietà dei miei poveri nervi. Ti sbagli, cara. Ho un profondo rispetto per i tuoi nervi. Sono miei vecchi amici. Sono almeno vent'anni che te ne sento parlare. Ah, tu non sai davvero quello che soffro. Ma spero che ormai ti farai forza e che vivrai abbastanza lungamente per vedere stabilirsi nei dintorni molti giovani con 4.000 sterline di rendita. E cosa servirebbe che ne venissero 20 se tu non vuoi degnarti di far loro nemmeno una visita? Sta pur certa, cara, che quando saranno 20 andrò a far visita a tutti. Mr. Bennet era un tale impasto di vivacità e di sarcasmo, di riservo e di estrosità, che a sua moglie non erano bastati 23 anni di esperienza per comprenderne il carattere. Lei era invece meno difficile a capirsi. Era una donna di intelligenza mediocre, di poca cultura e di carattere volubile. Quando era scontenta, si immaginava di essere nervosa. Il grande scopo della sua vita era di dar marito alle figlie, le sue uniche distrazioni, le visite e i pettegolezzi. Capitolo secondo Mr. Bennet fu tra i primi a recarsi in visita da Mr. Bingley. Benché fino all'ultimo momento avesse garantito a sua moglie che non vi sarebbe mai andato, aveva avuto l'intenzione di farlo fin da quando Mr. Bingley si era stabilito a Netherfield. Mantenne però il più assoluto riservo e ne parlò soltanto la sera dopo la visita. Stava osservando la seconda delle sue figliole che si provava un cappellino, quando le disse a bruciapelo. Spero che piacerà a Mr. Bingley, dizzi. Non potremo essere certo in grado di sapere che cosa piace a Mr. Bingley, disse sua moglie risentita, dato che non conoscendoci non ci onorerà di un invito. Ma dimentichi, mamma, disse Elizabeth, che lo troveremo ai ricevimenti e che Mrs. Long ha promesso di presentarcelo. Non credo che Mrs. Long lo farà mai. Ha due nipoti anche lei. È una donna egoista e ipocrita. Non la stimo affatto. Tanto meno io, disse Mr. Bennet, e sono lieto di vedere che non conti su di lei per ottenere un piacere. Mrs. Bennet non si degnò di rispondere, ma non potendo più dominarsi, incominciò a strapazzare una delle figlie. Per amor di Dio, Kitty non tossire a quel modo. Abbi pietà dei miei poveri nervi, li metti proprio alla tortura. Ah, Kitty è veramente indiscreta con i suoi raffreddori, disse il padre. Li ha sempre al momento meno opportuno. Non tossisco per mio divertimento, ribatte Kitty stiziosamente. Quando è il prossimo ballo, Lizzie? Domani alle 15. Proprio così, esclamò la madre. E Mrs. Long non torna che il giorno prima, così sarà impossibile che ce lo presenti perché non lo conoscerà neppure lei. Allora, mia cara, il vantaggio è tutto dalla tua parte. Sarai tu che potrai presentare Mr. Bingley alla tua amica. Impossibile, Mr. Bennet, impossibile, poiché non lo conosco, perché ti diverti a tormentarmi. Apprezzo la tua prudenza. Infatti come ci si può arrischiare a dire di conoscere un uomo dopo appena 15 giorni che gli siamo stati presentati. Ma poiché se non lo faremo noi lo farà qualcun altro e poiché dopotutto anche Mrs. Long e le sue nipoti devono correre questo rischio, dal momento che essa giudicherà il nostro agire molto corretto, se non ti vuoi presentare tu, me ne incaricherò io. Le ragazze rimasero di stucco e spalancarono gli occhi. Mrs. Bennet si accontentò di mormorare «Sciocchezze! Sciocchezze!». Che significa questa tua esclamazione? Vuoi dire che le presentazioni e la irresponsabilità che ne deriva sono sciocchezze? Non posso essere d'accordo con te. Che ne dici tu, Mary, che sei la ragazza più riflessiva della famiglia, che leggi dei libroni e prendi anche degli appunti? Mary avrebbe voluto dire qualcosa di molto profondo, ma non sapeva come esprimerlo. «Mentre Mary raccoglie le idee», continuò suo padre, «torniamo a Mr. Bingley». «Oh, sono stufa di Mr. Bingley!» esclamò la moglie. «Ma mi dispiace! Ma perché non dirmelo prima? Se lo avessi saputo soltanto questa mattina, non sarei davvero andato da lui. È un peccato, ma ormai che la cosa è fatta, non possiamo più evitarne la conoscenza». Si era immaginato lo stupore con il quale sarebbero state accolte le sue parole. E la sorpresa di Mrs. Bennet sorpassò forse quella delle figlie, anche se dopo il primo moto di gioia si affrettò a dichiarare che, quanto a lei, non aveva mai dubitato che avrebbe voluto compiacerla. «Ma come sei stato buono, Mr. Bennet! Ma ero certa che alla fine ti avrei persuaso. Sapevo che vuoi troppo bene alle tue figlie per trascurare una conoscenza simile. Come sono contenta! E pensare che ci sei andato fin da stamattina e non ne hai parlato che adesso!» «E ora, Kitty, puoi tossire quanto vuoi», disse Mr. Bennet lasciando la camera per sottrarsi agli entusiasmi di sua moglie che minacciavano di soffocarlo. «Ma che ottimo padre avete, ragazze mie!» disse questa appena la porta si chiuse. «Non so proprio come potrete ringraziarlo per la sua bontà, come me per la mia del resto. Alla nostra età non è affatto gradevole conoscere ogni giorno gente nuova, ma per il vostro bene si farebbe qualunque cosa!» «Lidia, amor mio, nonostante tu sia la più giovane, sono certa che Mr. Bingley ti inviterà per qualche ballo alla prossima festa!» «Oh!» disse Lidia sicura di sé. «Non sto certo in pena per questo, perché anche se sono la minore, sono la più alta!» Il resto della serata trascorse impiacevoli congetture. Mr. Bingley, non si sapeva quando, avrebbe certamente restituito la visita a Mr. Bennet. Anzi, fu addirittura deciso che sarebbe stato bene invitarlo a pranzo. Capitolo terzo. Tutti i tentativi fatti da Mrs. Bennet, coadjuvata dalle sue cinque figlie, non valsero a ottenere dal marito una soddisfacente descrizione di Mr. Bingley. Lo attaccarono in vario modo, con domande esplicite, con abili insinuazioni e per vie traverse. Ma egli seppe eludere la tattica di tutte quante. E dovettero finire per accontentarsi di una notizia di seconda mano, avuta dalla loro vicina, Lady Lucas. Le sue informazioni furono assai incoraggianti. Sir William aveva subito simpatizzato con lui. Era giovane, straordinariamente bello, molto simpatico e, per completare il tutto, aveva intenzione di intervenire alla prossima festa con una folta schiera di amici. Non poteva darsi nulla di meglio. Amare il ballo era già il primo passo per innamorarsi. Il cuore della signora Bennet si apriva alle più rose e speranze. «Se potessi vedere una delle mie ragazze, felicemente stabilita a Netherfield», disse Mrs. Bennet a suo marito, «e tutte le altre ugualmente bene accasate, non avrei più nulla da desiderare». Dopo alcuni giorni, Mr. Bingley ricambiò la visita a Mr. Bennet e rimase con lui per dieci minuti nella sua biblioteca. Aveva sperato di poter vedere le signorine, della cui bellezza aveva tanto sentito parlare, ma non vide che il padre. In compenso, le signore furono più fortunate perché da una finestra del piano superiore poterono constatare che il giovane indossava una giacca azzurra e che montava un cavallo morello. Poco tempo dopo, gli mandarono un invito per il pranzo e Mrs. Bennet aveva appena finito di decidere le varie portate che avrebbero messo in maggior valore i suoi meriti di padrona di casa quando giunse una risposta che rimandava ogni cosa. Mr. Bingley doveva recarsi in città il giorno seguente ed era quindi nell'impossibilità di accettare l'onore del loro invito, eccetera, eccetera. Mrs. Bennet rimase male. Non poteva capire quali affari lo richiamassero in città così presto dopo il suo arrivo all'Earthforshire. E già temeva che fosse di quelli che sono abituati a correre da un posto all'altro e che non si sarebbe mai stabilito tranquillamente a Netherfield come sarebbe stato suo dovere. Lady Lucas placò le sue ansie, suggerendo che forse era andato a Londra per radunare gli amici per il ballo e ben presto si venne infatti a sapere che con Mr. Bingley sarebbero venuti al ricevimento dodici signore e sette uomini. Il crucio delle ragazze a sentire il numero delle signore fu grande, ma il giorno prima del ballo ebbero la consolazione di sapere che invece di dodici, sei soltanto lo avrebbero accompagnato da Londra, le sue cinque sorelle e una cugina. Quando poi il gruppo fece il suo ingresso nella sala, era composto di cinque sole persone, Mr. Bingley, le sue due sorelle, il marito della maggiore e un altro giovanotto. Mr. Bingley era alto e distinto, con un aspetto simpatico e modi semplici e disinvolti. Le sorelle erano belle ed eleganti. Il cognato, Mr. Hurst, si distingueva soltanto per il suo fare di gentiluomo, mentre l'amico, Mr. Darcy, attirò ben presto l'attenzione di tutta la sala per la sua alta e snella figura, il volto dai lineamenti bellissimi, il nobile aspetto e per la notizia che circolò dopo soli cinque minuti dalla sua entrata che possedeva diecimila sterline di rendita. Gli uomini dichiararono che era un tipo virile, le signore che era molto più bello di Mr. Bingley e per tutta la prima parte della serata fu circondato da una viva ammirazione, finché i suoi modi, disgustando tutti quanti, ne minarono la popolarità. Perché quando si venne a scoprire che era orgoglioso e che dimostrava di sentirsi superiore sia alla compagnia, sia a quella sorta di divertimenti, tutta la sua tenuta del Derbyshire non bastò a far dimenticare il suo contegno scontroso e antipatico, per nulla degno di quello dell'amico. Mr. Bingley si era fatto subito presentare alle persone più importanti che erano in sala, allegro e schietto, non persi una sola danza. Si dolse che il ballo terminasse così presto e parlò di darne uno egli stesso a Netherfield. Qualità tanto simpatiche parlavano di per sé. Il contrasto con il suo amico si mostrò ancora più evidente. Mr. Darcy ballò una volta sola con Mrs. Arst e una con Miss Bingley, rifiutando di essere presentato alle altre signore e passò il resto della sera errando qua e là per la sala o parlando ogni tanto con qualcuno del suo gruppo. Da quel momento fu giudicato per sempre. Era il più orgoglioso, il più antipatico uomo che si potesse vedere e tutti speravano che non sarebbe mai più tornato. La più accanita contro di lui era Mrs. Bennet, la cui antipatia verso il suo contegno in genere era maggiormente inasprita da un risentimento particolare dovuto al fatto che aveva disprezzata una delle sue figlie. Per la scarsità dei cavalieri, Elizabeth era stata costretta a rimanere seduta per due giri di danza, durante le quali Mr. Darcy le era stato abbastanza vicino perché ella avesse potuto afferrare una sua conversazione con Mr. Bingley, il quale aveva smesso di ballare qualche minuto per indurre il suo amico a prendere parte alle danze. «Sovì a Darcy», gli aveva detto, «vorrei proprio che tu ballassi. Mi dà veramente fastidio vederti lì, impalato a quel modo, faresti molto meglio a muoverti». «Per nulla al mondo. Lo sai che detesto il ballo se non conosco bene la mia compagna e in una riunione simile mi sarebbe addirittura insopportabile. Le tue sorelle sono impegnate e non c'è una sola signora in tutta la sala con la quale ballerei senza sacrificio». «Davvero se fossi in te non farai tanto il difficile», esclamò Bingley. «In fede mia non ho mai incontrato tante ragazze simpatiche come questa sera e molte sono addirittura deliziose». «Tu balli con la sola bella ragazza che ci sia», disse Mr. Darcy guardando la maggiore delle signorine Bennet. «È la più bella creatura che abbia mai visto, ma c'è una delle sue sorelle seduta proprio dietro di te che è assai graziosa e sono certo anche molto simpatica. Lascia che io chieda alla mia dama di presentartela». «A chi alludi», disse Darcy e volgendosi fissò per un attimo Elisabeth finché sorprendendone lo sguardo ritrasse il suo, dicendo freddamente «È passabile, ma non abbastanza bella per tentarmi e non sono affatto in vena di consolare le signorine trascurate dagli altri giovanotti. Faresti meglio a tornare dalla tua bella e a bearti dei suoi sorrisi perché con me perdi il tuo tempo». Mr. Bingley seguì il consiglio. Mr. Darcy si allontanò, ma e Elisabeth rimasero nell'animo sentimenti tutt'altro che cordiali verso di lui. Tuttavia raccontò con molto brio la storia alle sue amiche perché il suo carattere allegro e spiritoso sapeva cogliere spassosamente il lato comico delle cose. In ogni modo fu una serata piacevole per tutta la famiglia. Mrs. Bennet aveva visto la figlia maggiore particolarmente apprezzata dal gruppo di Netherfield. Mr. Bingley l'aveva fatta ballare due volte e anche le sue sorelle erano state cortesi con lei. Jane era soddisfatta come sua madre, anche se in tono più riservato. Elisabeth godeva della felicità di Jane. Mary si era sentita presentare a Miss Bingley come la più colta ragazza dei dintorni e Catherine e Lydia erano state così fortunate da non rimanere mai senza cavalieri, cosa che per il momento era tutto quanto esse chiedevano a un ballo. Tornarono dunque tutti di buon umore a Longbourn, villaggio dove risiedevano e del quale erano la famiglia più importante. Trovarono Mr. Bennet ancora alzato. Quando aveva un libro tra le mani perdeva la nozione del tempo e questa volta aveva contribuito a farlo rimanere alzato anche una buona dose di curiosità per gli eventi di una serata che aveva suscitato tante belle aspettative. Aveva quasi sperato che le illusioni di sua moglie sul forestiero fossero andate deluse, ma scoprì ben presto che non era affatto così. Oh caro Mr. Bennet, disse appena entrata, abbiamo avuto una serata deliziosa e un magnifico ballo. Avrei voluto che ci fossi stato anche tu. A Jane è stata talmente ammirata, non c'era nessuno che potesse starle a pari. Tutti dicevano che era uno splendore e Mr. Bingley l'ha trovata bellissima e ha danzato con lei per ben due volte. Pensa, niente meno, ha danzato con lei per due volte ed è stata l'unica signorina invitata per la seconda volta. Per prima ha invitato Miss Lucas. Immaginati la mia delusione quando l'ho visto rivolgersi a lei. Tuttavia non è sembrato affatto che la mirasse. D'altra parte, nessuno potrebbe ammirarla, lo sai bene. È sembrato invece assai colpito da Jane quando l'ha vista ballare. Ha chiesto chi era, si è fatto presentare e l'ha invitata per le due danze seguenti. Poi le due terze le ha ballate con Miss King, le due quarte con Mary Lucas, le due quinte ancora con Jane, le due seste con Lizzie e il boulanger. Se avesse avuto pietà di me, esclamò a questo punto suo marito con impazienza, non avrebbe ballato neppure la metà. Per l'amor di Dio, non parlarmi più delle sue dame. Gli si fosse storto un piede al primo ballo. «Oh mio caro!» continuò Mrs. Bennet. «Tu sapessi quanto è simpatico! Ed è così bello! E anche le sue sorelle sono delle signore squisite! Ah, non ho mai visto abiti più eleganti! Sono sicura che è il pizzo della gonna di Mrs. Arst!» Ma qui fu di nuovo interrotta. Mr. Bennet protestò contro ogni discorso sulla moda. Sua moglie dovete ripiegare su un altro argomento e raccontò con molta amarezza e alquanta esagerazione la sconveniente scortesia di Mr. Darcy. «Ti posso però assicurare», aggiunse, «che Lizzie non perde molto a non essere di suo gusto, perché è un uomo odioso e detestabile cui non vale proprio la pena di piacere. Così sprezzante e pieno di sé da rendersi addirittura insopportabile. Passeggiava in su e in giù credendosi chissà chi. Non abbastanza bella per ballare con lui. Avrei voluto che tu fossi stato presente, mio caro, per trattarlo come si meritava. Detesto quell'uomo!» Capitolo quarto. Non appena Jane ed Elizabeth rimasero sole, la prima, che fino allora era stata assai misurata sulle sue lodi per Mr. Bingley, disse alla sorella quanto ne fosse rimasta colpita. «È proprio quello che dovrebbe essere un giovane», disse. «Intelligente, con un buon carattere, e allegro. Non ho mai incontrato nessuno con modi così avvincenti, semplici e pieni di educazione». «Ed è anche bello», rispose Elizabeth. «Hai ragione. Non gli manca veramente nulla per essere il tipo del giovanotto ideale. Sono stata così lusingata del suo secondo invito. Non mi sarei mai aspettata una cortesia simile». «Non te l'aspettavi. Io sì, per te. È proprio in questo che siamo tanto diverse noi due. Ti stupisci sempre che la gente sia gentile con te. Io mai. Non c'era niente di più naturale che ti invitasse per la seconda volta. Non poteva fare a meno di accorgersi che eri la più bella di tutta la sala. Non è davvero il caso di avere della gratitudine per la sua galanteria. In ogni modo, è molto simpatico e sono d'accordo che ti piaccia. Hai ammirato persone ben più inconcludenti». «Ma, Lizzy!» «Oh, lo sai bene che sei troppo incline ad apprezzare la gente. Non vedi mai i difetti di nessuno. Per te sono tutti buoni e simpatici. Non ti ho mai sentito parlare male di anima viva». «Cerco di non essere facile alla critica, ma dico sempre quello che penso». «Lo so, ed è questo che mi sorprende. Tu, così piena di buonsenso, essere tanto onestamente cieca per le follie e le sciocchezze degli altri. Ostentare il candore è cosa abbastanza comune. direi che non si vede far altro. Ma essere come te, candida non per progetto o per ostentazione, ma per natura. Scoprire il lato buono di ogni carattere e renderlo ancora migliore e non rilevare mai il cattivo in niente e in nessuno. Questo è proprio una tua prerogativa». «E dimmi un po', ti piacciono anche le sorelle di Mr. Bingley? I loro modi non sono però da paragonarsi ai suoi». «No, a prima vista almeno. Ma starci un po' insieme sono simpatiche. Miss Bingley verrà ad abitare con suo fratello e dirigerà la casa. E penso di non sbagliarmi giudicando che sarà una vicina molto piacevole». Elizabeth ascoltava in silenzio, ma senza essere convinta. Il contegno delle signorine Bingley al ricevimento non era stato tale da accattivarsi la simpatia generale. Più pronta nei suoi giudizi e con un carattere meno arrendevole della sorella, non era troppo disposta ad ammirarle. Erano delle vere signore, non mancavano di allegria e sapevano rendersi amabili, ma si capiva che erano orgogliose e piene di sé. Erano piuttosto belle. Avevano ricevuto un'educazione perfetta in uno dei primi collegi di Londra, avevano una sostanza di 20.000 sterline e l'abitudine di spendere più di quello che avrebbero dovuto. Frequentavano gente della migliore società e si credevano in diritto di pensare molto bene di loro stesse e molto meno bene degli altri. Appartenevano a una rispettabile famiglia dell'Inghilterra del Nord, cosa della quale si ricordavano più volentieri che non del fatto che la loro ricchezza e quella del fratello erano frutto del commercio. Mr. Bingley aveva ereditato una sostanza di quasi 100.000 sterline da suo padre, il quale, pur avendo avuto l'intenzione di acquistare una tenuta, non aveva vissuto abbastanza per attuare il proprio progetto. Anche Mr. Bingley ci pensava, e sembrava aver fatto talvolta anche la scelta della contea, ma dato che ormai era provvisto di una bella casa, chi conosceva il suo carattere adattabile era convinto che avrebbe passato il resto dei suoi giorni a Netherfield, lasciando alla futura generazione la cura di comprare nuove terre. Le sue sorelle desideravano ardentemente vederlo padrone di una tenuta. Pure, anche se per ora era soltanto in una villa affittata, Miss Bingley non si mostrò restì a occuparsene, e anche Mrs. Arst, che aveva sposato un uomo più elegante che ricco, era dispostissima a considerare come sua la casa del fratello, quando le faceva comodo. Mr. Bingley era diventato maggiorenne appena da due anni, quando un'informazione fortuita lo aveva spinto a visitare Netherfield House. La vide e in mezz'ora si innamorò della località e della casa dentro e fuori. Soddisfatto delle lodi che gli faceva il proprietario, la fissò immediatamente. Con Darcy era legato da una solida amicizia, nonostante la grande diversità dei loro temperamenti. Bingley si era accattivato l'affetto di Darcy per la semplicità e la duttilità della sua natura aperta, pur così differente da quella dell'amico. Si sentiva sicuro dell'amicizia di Darcy e teneva le sue opinioni nella più alta considerazione. E per quanto Bingley non fosse privo di intelligenza, Darcy gli era infinitamente superiore. Nello stesso tempo, però, era altero, sostenuto e sprezzante, e i suoi modi, nonostante la perfetta educazione, non erano attraenti. Sotto questo aspetto Bingley valeva molto più dell'amico ed era certo di essere bene accolto dovunque andasse, mentre Darcy finiva sempre con l'urtare qualcuno. È logico che giudicassero le riunioni di Meriton ciascuno secondo la propria mentalità. Bingley non aveva mai incontrato gente più simpatica e ragazze tanto carine. Tutti erano stati pieni di attenzioni e di cortesia verso di lui. Non aveva trovato né formalismi né sussiego. In poco tempo aveva conosciuto tutti. Quanto a Miss Bennet, non esisteva creatura più angelica. Darcy, invece, aveva visto solo una sfilata di gente brutta e assolutamente priva di eleganza. Non una sola persona lo aveva interessato, o si era occupata di lui o gli era riuscita gradita. Riconosceva che Miss Bennet era bella, ma trovava che sorrideva troppo. Anche Mrs. Hurst e sua sorella convennero su questo punto, pur ammirandola e trovandola così simpatica che avrebbero avuto piacere di conoscerla meglio. E poiché Miss Bennet venne classificata come una ragazza graziosa, Mr. Bingley si sentì autorizzato da un così profondo giudizio a pensare di lei quello che più gli piaceva. Capitolo quinto. A poca distanza da Longburn abitava una famiglia con la quale i Bennet erano legati da particolare amicizia. Sir William Lucas aveva fatto una discreta fortuna nel commercio a Meriton e per un discorso rivolto al sovrano, nel periodo in cui era sindaco, era stato elevato all'onore della nobiltà. Onore che aveva mostrato di apprezzare anche troppo. Arrivato a questo punto, si era sentito in dovere di provare disgusto per gli affari, nonché per la vita in una piccola città commerciale. Così aveva abbandonato gli uni e l'altra, trasferendosi con la famiglia in una casa a quasi un miglio da Meriton, che da allora fu detta Lucas Lodge, dove poteva compiacersi amabilmente della sua nuova e importante posizione e, non più costretto dagli affari, dedicarsi soltanto al piacere di essere gentile con tutti. La soddisfazione della posizione raggiunta, lungi da renderlo altero, lo spingeva a ostentare una grande cortesia verso ciascuno. Di carattere inoffensivo per natura, cordiale e compiacente, la presentazione a corte lo aveva fatto diventare un modello di gentilezza. Lady Lucas era una brava donna, di intelligenza piuttosto limitata, ma non per questo meno preziosa vicina per Mrs. Bennet. Avevano molti figli. La maggiore, di 27 anni, una ragazza giudiziosa e intelligente, era intima amica di Elizabeth. Niente di più naturale che le signorine Lucas e Bennet trovassero necessario incontrarsi dopo il ballo per scambiarsi le proprie impressioni. E la mattina dopo il ricevimento, le Lucas andarono a Longbourn. «Hai iniziato bene la serata, Charlotte», disse la signora Bennet con voluta amabilità. «Fosti la prima ad essere scelta da Mr. Bingley?» Sì, ma poi lui diede indubbiamente prova di preferire la seconda. «Vuoi alludere a Jane? Perché ballò due volte con lei?» «Certo», mostrò apertamente la sua ammirazione e pareva realmente sincero. Ne era addirittura infatuato. Ho sentito dire qualcosa, non so di preciso di che cosa si trattasse, a proposito di Mr. Robinson. Parli forse del discorso che ho sentito io per caso tra lui e Mr. Robinson? Non ve l'ho raccontato. Mr. Robinson gli chiese se gli piacevano le nostre riunioni di Meriton e se non gli sembrava che ci fossero parecchie belle signore e signorine, chiedendogli quale fosse secondo lui la più graziosa. E lui, pronto, rispose immediatamente «Oh, senza dubbio, la maggiore delle signorine Bennet. È impossibile dare un giudizio diverso in proposito». «Ah, dici davvero? Più esplicito di così? Si direbbe quasi... Ma può ancora finire tutto in nulla?». «La conversazione che ho sentito io, invece, era ben diversa da quella sorpresa da te, Eliza», disse Charlotte. «Mr. Darcy è meno simpatico del suo amico, non ti pare?». «Povera Eliza, essere giudicata appena passabile». «Ma ti prego non mettere in testa Lizzie di essere seccata dalla sua scortesia. È un uomo talmente antipatico che sarebbe una disgrazia essere notate da lui. Mrs. Long mi disse che l'altra sera è rimasto vicino a lei per mezz'ora senza aprir bocca». «Ah, davvero? Non ci sarà dell'esagerazione?» Ho veduto io Mr. Darcy che ne parlava. «Sì, quando lei si decise finalmente a chiedergli se Netherfield gli piaceva e lui non poteva fare a meno di risponderle, ma pare che si mostrasse piuttosto infastidito dal fatto che gli venisse rivolta la parola». «Miss Bingley mi ha detto», raccontò Jane, «che non parla mai molto, tranne con gli amici intimi, con i quali però è particolarmente cortese». «Non posso crederlo. Se avessi avuto un minimo di gentilezza avrebbe parlato con Mrs. Long». «Ma mi figuro come saranno andate le cose. Tutti dicono che è divorato dalla superbia e certo avrà sentito dire che Mrs. Long non possiede una carrozza e che era venuta al ballo in una vettura a noleggio». «Il fatto che non abbia parlato con Mrs. Long», disse Miss Lucas, «per me non ha molta importanza, ma avrei voluto che avesse ballato con Eliza». «Un'altra volta, Lizzie, se fossi in te», disse sua madre, «sarei io a non voler ballare con lui». «Credo, mamma, di poterti assicurare che non ballerò mai con lui». «Tuttavia», disse Miss Lucas, «il suo orgoglio non è così criticabile come in altri casi, perché ha qualche attenuante. Non fa meraviglia che un giovane intelligente, con un bel nome, ricco, al quale tutto arride ed è favorevole, abbia una grande opinione di sé. Direi quasi che ha un certo diritto di essere orgoglioso». «È verissimo», rispose Elizabeth, «e potrei scusare facilmente il suo orgoglio se non avesse ferito il mio». «L'orgoglio», osservò Mary, che teneva a dimostrare la profondità dei suoi pensieri. È un difetto assai comune. Da tutto quello che ho letto, sono convinta che è assai frequente, che la natura umana vi è facilmente incline e che sono pochi quelli tra noi che non provano un certo compiacimento a proposito di qualche qualità, reale o immaginaria, che suppongono di possedere. Vanità e orgoglio sono ben diversi tra loro, anche se queste due parole vengono spesso usate nello stesso senso. Una persona può essere orgogliosa senza essere vana. L'orgoglio si riferisce soprattutto a quello che pensiamo di noi stessi, la vanità, a ciò che vorremmo che gli altri pensassero di noi. «Se io fossi ricco come Mr. Darcy», esclamò uno dei piccoli Lucas che era venuto con le sue sorelle, «non starei tanto a badare al mio orgoglio. Terrei una muta di cani da caccia e berrei una bottiglia di vino al giorno». «Vorrebbe dire bere assai più del ragionevole», disse Mrs. Bennet. «E se io ti vedessi, ti toglierei la bottiglia!» Il ragazzo protestò che non sarebbe stata capace di far questo. La signora invece continuò a sostenere di sì e la discussione si protrasse scherzosa per tutto il resto della visita. Capitolo sesto. Le signore di Longbourn, poco tempo dopo, si recarono a trovare quelle di Netherfield. La visita fu subito resa come di dovere. La grazia di Miss Bennet conquistò tutta la simpatia di Mr. Hurst e di Miss Bingley, che pur trovando la madre intollerabile e le sorelle minori insipide e insignificanti, espressero alla maggiore il desiderio di vederla più spesso. Jane accolse con grande piacere questo segno di cortesia, ma Elizabeth, notando l'aria di condiscendenza e di superiorità che usavano verso tutte loro, sua sorella compresa, non riusciva a trovarle simpatiche. Pure la loro gentilezza verso Jane aveva un certo valore, perché non poteva essere che il riflesso dell'ammirazione del loro fratello per lei. Ad ogni nuovo incontro la sua predilezione per la piccola Jane appariva infatti sempre più evidente, e per Elizabeth non era meno evidente che anche Jane si abbandonava a quella simpatia che aveva provato per lui fin dal primo momento, simpatia che era già sulla buona strada per diventare un vero e proprio amore. Vedeva anche, e se ne compiaceva, che nessun altro poteva accorgersi di questo, perché Jane univa a una grande profondità di sentire un temperamento così calmo e una così uniforme serenità di contegno che la salvaguardava da ogni commento maligno. Ne parlò con la sua amica, Miss Lucas. Forse può essere comodo riuscire a non tradirsi davanti alla gente, rispose Charlotte. Ma essere troppo prudenti può costituire anche uno svantaggio. Se una donna nasconde i suoi sentimenti con tanta cura anche all'oggetto amato, può perdere l'occasione di conquistarlo, e in questo caso sarebbe una ben magra consolazione pensare che nessuno ne ha saputo mai nulla. Vi è tanta parte di gratitudine e addirittura di vanità in quasi tutti i sentimenti che è più prudente saper far vibrare tutte queste corde all'unisono. Ognuno di noi si innamora spontaneamente, ma sono ben poche le persone dal cuore tanto generoso da amare senza essere incoraggiate. In nove casi su dieci, a una donna conviene mostrare ancora più affetto di quello che prova. A Bingley tua sorella piace di sicuro, ma se non lo incoraggia, questo sentimento rischia di rimanere una pura e semplice simpatia. Ma lo incoraggia, almeno per quanto è possibile alla sua natura riservata. Se mi accorgo io della sua preferenza per Bingley, sarebbe proprio uno stupido a non capirlo lui pure. Ma lui, Eliza, non conosce il carattere di Jane come te. Se una ragazza ha del tenero per un uomo e non lo nasconde, tocca a lui capirlo. Forse se ne potrebbe rendere conto se la vedesse di più. Ma benché Bingley e Jane si incontrino spesso, non stanno mai a lungo insieme, e vedendosi sempre fra tanta gente, non possono passare il tempo a parlare tra di loro. Jane dovrebbe dunque approfittare di ogni mezz'ora che lui le dedica. Quando sarà sicura di averlo conquistato, potrà concedersi di innamorarsi a modo suo. Il tuo piano sarebbe perfetto, rispose Elizabeth, se si trattasse solo di fare un bel matrimonio. E se io avesse in mente di cercarmi un marito ricco, o un marito qualsiasi, lo adotterei senz'altro. Ma Jane non pensa a questo, non agisce per progetto. Per ora non si è neppure resa conto del suo sentimento, né sa se è un sentimento ragionevole. Ha conosciuto Bingley solamente 15 giorni fa, ha ballato quattro volte con lui a Meriton, lo ha visto una mattina a casa sua e dopo di allora ha pranzato in sua compagnia quattro volte. Non può bastare per farsi un giudizio su di lui. Non è esatto. Se avesse soltanto pranzato con lui, si sarebbe soltanto potuta accertare se ha più o meno appetito, ma devi ricordare che hanno passato insieme quattro sere e quattro sere possono significare parecchio. Sì, e in quelle quattro sere hanno potuto assicurarsi che tutti e due preferiscono il 21 al mercante in fiera, ma non credo che abbiano avuto modo di approfondire argomenti più importanti. Insomma, disse Charlotte, auguro di cuore ogni successo a Jane e per conto mio credo che se lo sposasse anche domani avrebbe la stessa probabilità di essere felice che se ne studiasse il carattere per un anno. La felicità nel matrimonio è solo una questione di fortuna. Ammettendo anche che i due si conoscano da sempre e abbiano dei caratteri identici, non è detto che questo basti a renderli felici. Si scopriranno sempre abbastanza diversi, dopo il matrimonio, per provare la loro parte di guai ed è assai meglio conoscere il meno possibile i difetti della persona con cui si ha da passare tutta la vita. Sei proprio divertente, Charlotte, ma non direi che è una teoria troppo pratica. Sai benissimo che non ci sarebbe da fidarsi e sono convinta che neppure tu agiresti in questo modo. Occupata com'era a osservare la corte che Mr Bingley faceva a sua sorella, Elizabeth non si era neppure accorta di essere diventata lei stessa oggetto di interesse per l'orgoglioso amico di lui. Mr Darcy, che in principio si era appena degnato a trovarla graziosa, al ballo non l'aveva ammirata affatto e negli incontri seguenti l'aveva guardata unicamente per criticarla. In un primo tempo si era limitato ad affermare a se stesso e ai suoi amici che il volto di lei non era niente di straordinario, poi aveva cominciato a scoprire che quel volto rivelava invece una rara intelligenza, grazie anche a due magnifici occhi neri profondi ed espressivi. A questa scoperta ne seguirono altre ugualmente mortificanti per lui. Nonostante il suo senso critico avesse notato più di un difetto nei tratti irregolari di lei, dovette convenire che aveva una figura snella e flessuosa e benché avesse sostenuto che il suo comportamento non era il più adatto a una persona che frequentava la buona società, pure era incantato dalla sua spontanea vivacità. Ma Elizabeth non se ne rendeva affatto conto. Egli era per lei soltanto l'uomo che restava antipatico a tutti e che non l'aveva trovata abbastanza bella per invitarla a ballare. Darcy cominciò a desiderare di conoscerla meglio e come primo passo per arrivare a parlarle direttamente prestò attenzione quando discorreva con gli altri. Elizabeth lo notò. Si trovavano dai Lucas, dove c'era molta gente. «Che cosa salta in mente a Mr. Darcy?» disse a Charlotte. «Di stare ad ascoltare tutto quello che dicevo mentre parlavo col colonnello Forster. A questa è una domanda che dovresti fare a lui. Se ricomincia, gli farò vedere che capisco le sue intenzioni. Ha degli occhi troppo beffardi e se non lo attacco io per prima, finirò per avere paura di lui». Poco dopo Mr. Darcy si avvicinò, senza avere tuttavia l'aria di voler parlare con loro, e Miss Lucas sfidò la sua amica, che messasi d'impegno, si rivolse immediatamente a lui, dicendogli «Non vi sono sembrata abbastanza eloquente un momento fa, quando cercavo di indurre il colonnello Forster a dare un ballo per noi a Meriton?» «Avete dimostrato una rara energia, ma si trattava di un soggetto che desta sempre l'ardore di una donna». «Siete severo con le donne». «Fra poco toccherà a te», disse Miss Lucas. «Vado ad aprire il piano, Eliza. E sai che cosa ti aspetta?» «Sei un bel tipo di amica. Vorresti farmi sempre suonare e cantare davanti a tutti e a chiunque. Se fossi particolarmente fiera delle mie attitudini musicali, saresti proprio preziosa. Ma a dire la verità non ho nessun desiderio di espormi davanti a chi è abituato ad ascoltare i migliori esecutori». Ma siccome Miss Lucas insisteva, aggiunse «Va bene, visto che sei proprio decisa, ti accontento». E guardando con gravità a Mr. Darcy, aggiunse «C'è un vecchio detto, che qui tutti conoscono e che suona così. Serba il tuo fiato per raffreddare la zuppa. Io serberò il mio per cantare meglio». Cantava in modo gradevole, se non alla perfezione. Dopo una o due canzoni, e prima ancora che potesse consentire alle richieste rivoltele perché continuasse, la sostituì al piano sua sorella Mary, che come l'unica bruttina della famiglia si era dedicata appassionatamente agli studi e a tutto quello che serve per brillare in società, e aveva la mania di fare sfoggio della sua bravura. Mary non aveva né gusto né talento, e tutta la sua applicazione era servita solo a darle un tono pedante e presuntuoso che avrebbe fatto sfigurare anche un'abilità maggiore della sua. Elizabeth, semplice e naturale, era stata ascoltata con molto maggior piacere, per quanto avesse suonato molto meno bene della sorella. Mary, finito un lungo concerto, fu ben contenta di essere ringraziata e per delle aree irlandesi e scozzesi richieste dalle sorelle, che, con alcune delle Lucas e due o tre ufficiali, si erano messe a ballare allegramente a un'estremità del salone. Mr. Darcy stava lì vicino, indignato di un tal modo di trascorrere la serata che escludeva per lui ogni possibilità di conversazione, ed era così immerso nei suoi pensieri da non accorgersi di Sir William Lucas, fino a che questi non gli rivolse la parola. Che divertimento garbato per i giovani, non è vero, Mr. Darcy? Non c'è niente di paragonabile al ballo. Lo considero come una delle forme di svago più raffinate della società elegante. Senza dubbio, e ha fra l'altro il vantaggio di essere in voga anche tra le società meno raffinate del mondo. Qualunque selvaggio sa ballare. Sir William si accontentò di sorridere. «Il vostro amico danza alla perfezione», continuò dopo una pausa, vedendo Bingley unirsi al gruppo. «E non dubito che siate voi pure un cultore di questa arte, Mr. Darcy. Credo che mi avrete visto ballare a Meriton». «Sì, certo, e quella vista fu per me un vero godimento. Ballate spesso a corte?» «Mai, Sir». «Non vi sembra cosa che si confaccia a quel luogo. È una cosa che evito sempre, quando mi è possibile». «Avrete casa a Londra, immagino!» Mr. Darcy assentì con un cenno del capo. «Anch'io un tempo avevo pensato di stabilirmi nella capitale, perché adoro la buona società, ma non ero sicuro che il clima cittadino si confacesse a Lady Lucas». Tacque, sperando in una risposta, ma il suo vicino non era disposto a dargliene, per cui, vedendo Elisabeth che si dirigeva in quel momento verso di loro, credete di fare un gesto molto galante chiamandola. «Cara Miss Eliza, perché non ballate? Mr. Darcy, permettete che vi presenti questa signorina come una delle migliori dame. Certo, davanti a una simile bellezza non rifiuterete più di ballare». E prendendo una mano di Elisabeth, voleva metterla addirittura in quella di Mr. Darcy, che anche se sorpreso, non sembrava affatto riluttante, quando ella si ritrasse con prontezza, dicendo a Sir William, con un certo turbamento, «Davvero, Sir, non ho la più lontana intenzione di ballare. Vi prego di credere che non ero venuta qui a cercare un cavaliere». Mr. Darcy, con lo stile della più perfetta correttezza, le chiese l'onore di poterla invitare, ma inutilmente. Elisabeth era decisa a rifiutare. Nelle insistenze di Sir William valsero a scuotere la sua determinazione. «Ballate così bene, Miss Eliza, che è una vera crudeltà a privarci del piacere di contemplarvi, e sebbene il signore non sembri apprezzare questo genere di divertimento, sono sicuro che non vorrà rifiutarsi di compiacerci per una mezz'ora». «Mr. Darcy è la cortesia in persona», disse Elisabeth sorridendo. «Certamente, ma in questo caso, cara Miss Eliza, non c'è da meravigliarsi della sua arrendevolezza, perché chi rifiuterebbe una damina simile?» Elisabeth sorrise maliziosamente, allontanandosi. La sua fermezza non le aveva nuociuto agli occhi di Darcy, che stava pensando a lei con una certa simpatia, quando fu avvicinato da Miss Bingley. «Indovino l'oggetto dei vostri pensieri. Non credo. Voi state pensando a come sarebbe insopportabile dover trascorrere molte sere a questo modo, in un ambiente simile, e condivido pienamente il vostro modo di vedere. Non mi sono mai annoiata tanto. Sono tutti così insulsi e così rumorosi. Tutta gente da nulla. Eppure che importanza si danno? Come vorrei sentire le vostre critiche? Vi assicuro che siete in errore». I miei pensieri erano molto più piacevoli. Meditavo sulla gioia squisita che possono dare due begli occhi nel volto di una donna graziosa. Miss Bingley lo fissò stupita e gli chiese quale dama avessi avuto il dono di ispirargli tali riflessioni. Mr. Darcy rispose intrepidamente. «Miss Eliza Bennet». «Miss Eliza Bennet», ripetè Miss Bingley. «Possibile. Da quanto tempo siete un suo ammiratore? E ditemi, a quando gli auguri?» Era proprio la domanda che mi aspettavo. L'immaginazione femminile è veloce. Dall'ammirazione passa all'amore, dall'amore al matrimonio in un momento solo. Ero sicuro che mi avreste fatto gli auguri. «Se dite sul serio, considererò la cosa come già avvenuta. Avrete una suocera adorabile e che naturalmente sarà sempre con voi a Pemberley». Egli la lasciò dire con perfetta indifferenza, mentre lei ricamava da sola sull'argomento. Vedendolo così tranquillo, si persuase che nella cosa c'era molto di vero e insistette a lungo nei suoi motteggi e nei suoi scherzi pungenti. Capitolo 7. Il patrimonio di Mr. Bennet era costituito per la massima parte da una tenuta che rendeva 2000 sterline l'anno. Tenuta che, disgraziatamente per le figlie, era vincolata in mancanza di eredi maschi a un diritto di trasmissione che delegava unico erede un lontano parente. E la sostanza della madre, anche se abbastanza notevole per la loro posizione, non era certo bastante a superire alla mancanza di quella paterna. Il padre di lei, che era stato avvocato a Meriton, le aveva lasciato 4000 sterline. Aveva una sorella sposata a un certo Mr. Phillips, antico sostituto di loro padre e che ne aveva ereditato lo studio, e un fratello commerciante a Londra in un importante ramo d'affari. Il villaggio di Longbourn era a un miglio da Meriton, distanza assai comoda per le signorine, che due o tre volte alla settimana cedevano alla tentazione di andarvi, sia per trovare la zia, sia per fermarsi da una modista che si trovava proprio sulla loro strada. Le più assidue in queste gite erano le più giovani, Catherine e Lydia, che avendo delle testoline più vuote di quelle delle sorelle, se la giornata non prometteva di meglio, intraprendevano la passeggiata a Meriton per occupare le ore del mattino e per fornire gli argomenti alla conversazione della sera. Perché se la vita in campagna offriva pochi diversivi, trovavano sempre il modo di sapere qualche novità dalla zia. Ora poi stavano facendo ampia provvista sia di notizie che di felicità per il recente arrivo nei dintorni di un reggimento che doveva fermarsi per tutto l'inverno, con il quartier generale proprio a Meriton. Le loro visite a Mrs. Phillips diventarono una inesauribile fonte di novità. Ogni giorno imparavano il nome di un nuovo ufficiale e dei suoi amici. Riuscirono a scoprire dove abitavano e finalmente conobbero gli ufficiali stessi. Mr. Phillips li andò a trovare tutti, mettendo così le nipotine all'apice della felicità. Non parlavano d'altro. E perfino la grande ricchezza di Mr. Bingley, che destava tanto interesse nella loro mamma, scomparve ai loro occhi dinanzi alle fiammanti uniformi. Una mattina, dopo aver ascoltato un fiume di parole su questo argomento, Mr. Bennett osservò freddamente. Da quanto mi risulta dal vostro modo di parlare, credo che siate due tra le più stupide ragazze dei dintorni. Lo sospettavo da tempo, ma ora ne sono proprio convinto. Catherine, sconcertata, non rispose. Ma Lydia, con assoluta indifferenza, proseguì nel cantare le lodi del capitano Carter, esprimendo la speranza di vederlo in giornata, dato che l'indomani sarebbe andato a Londra. «Sono veramente sorpresa, caro», disse la signora Bennett, «che tu sia così pronto a dar delle sciocche alle tue ragazze. Se mi piacesse disprezzare i figli di qualcuno, non sceglierei proprio i miei». «Se le mie figliole sono delle stupide, spero di conservare abbastanza buonsenso per riconoscerlo». «Sì, ma c'è il fatto che sono tutte molto intelligenti». «Mi auguro che sia questo il solo punto in cui non andiamo d'accordo. Avrei sperato che il nostro modo di pensare coincidesse nei minimi particolari, ma purtroppo questa volta non ho le tue medesime opinioni e sono convinto di non sbagliarmi, asserendo che le nostre due ultime figliole sono molto più sciocche delle altre ragazze in genere». «Caro Bennett, non puoi aspettarti che le tue figlie siano ragionevoli come i loro genitori. Quando avranno la tua età, sono sicura che non penseranno agli ufficiali come non ci pensiamo noi. Ricordo ancora i tempi in cui apprezzavo anch'io una bella divisa e in fondo al cuore la apprezzo sempre. E se un giovane e elegante colonnello con 5 o 6 mila sterline di rendita chiedesse una delle mie ragazze, non sarei io a dirgli di no. L'altra sera da Sir William il colonnello Forster era veramente elegante nella sua uniforme». «Mamma!» esclamò Lydia. «La zia dice che il colonnello Forster e il capitano Carter non vanno più tanto spesso da Miss Watson. Ora li vede di sovente nella libreria di Clark». L'entrata di un domestico che portava un biglietto per Miss Bennett impedì alla madre di rispondere. Il biglietto veniva da Netherfield e il domestico attendeva risposta. Gli occhi della signora Bennett sfavillarono di contentezza e mentre la figlia leggeva chiese impetuosamente «E così, Jane? Chi ti scrive? Che c'è di nuovo? Che cosa dice? Via, Jane, spicciati, raccontaci presto, amor mio!» «Eh, è di Miss Bingley», disse Jane e l'essia ad alta voce. «Cara amica, se non avrai pietà di noi venendo a pranzare con Luisa e con me quest'oggi, correremo il rischio di odiarci per il resto della nostra vita, perché un'intera giornata di tette-a-tette tra due donne finisce sempre in una disputa. Ricevendo questo, vieni appena ti è possibile. Mio fratello e gli altri signori sono a pranzo con gli ufficiali, sempre tua, Carolyn Pingley». «Con gli ufficiali!» esclamò Lydia. «Mi stupisce che la zia non ce l'abbia detto!» «Fuori a pranzo!» disse la signora Bennett. «Che peccato!» «Posso prendere la carrozza?» chiese Jane. «No, cara, faresti meglio ad andarci a cavallo, perché sembra che voglia piovere e così dovrei per forza fermarti là per la notte!» «Sarebbe un'ottima idea», disse Elizabeth, «se fosse certo che non le offriranno di farla di accompagnare a casa!» «Oh, non c'è pericolo, perché i signori avranno preso la vettura di Mr. Bingley per andare a Meriton e gli Ars non hanno carrozza propria!» «Veramente preferirei andare in carrozza?» «Ma cara, sono certa che tuo padre non può cedere i cavalli! Ne hanno bisogno alla fattoria! Non è vero, Bennett?» «I cavalli in fattoria occorrerebbero assai più spesso di quanto non li possano avere!» «Ma se glieli lasci oggi!» disse Elizabeth. «È proprio quello che la mamma desidera!» Tanto fece e tanto disse che il padre dovette convenire che i cavalli erano impegnati. Così Jane fu costretta ad andare a cavallo, mentre sua madre la accompagnava alla porta con i più lieti pronostici di un pessimo tempo. Le sue speranze si avverarono. Jane era appena partita che incominciò a piovere dirottamente. Le sue sorelle erano in pena per lei, ma la mamma era raggiante. La pioggia continuò ininterrotta per tutta la sera. Jane non sarebbe tornata di certo. «Ho avuto proprio una buona idea!» ripete la signora Bennett a varie riprese, come se la pioggia fosse tutto merito suo. Soltanto al mattino seguente, però, ne poté conoscere i fortunati sviluppi. Avevano appena terminata la colazione quando arrivò il seguente biglietto per Elizabeth. «Cara Lizzi, questa mattina sto proprio poco bene. Cagione, credo, di tutta la pioggia presa ieri. Le mie gentili amiche non mi lasciano tornare a casa fin tanto che non sia guarita. Vogliono che mi veda Mr. Jones, per cui non allarmatevi se sentite dire che è venuto a visitarmi. Del resto, tranne un po' di male alla gola e di amicrania, non ho niente di grave. Vostra, eccetera, eccetera.» «E ora, mia cara», disse Mr. Bennett, quando Elizabeth ebbe terminato di leggere il biglietto ad altavoce, «se tua figlia si ammalasse gravemente, se morisse, sarebbe una bella consolazione sapere che è stato per accalappiare Mr. Bingley dietro tuo ordine.» «Oh, non credo che ci sia pericolo che muoia! Non si muore per dei raffreddori da nulla! Ma cureranno bene! Finché rimane là, va tutto benissimo! Andrei a trovarla, se avessi la carrozza!» Elizabeth, che si sentiva inquieta per davvero, decise di andare da Jane anche senza vettura. E dato che non sapeva andare a cavallo, non le rimaneva altra alternativa che quella di andare a piedi. Dichiarò che sarebbe andata ugualmente. «Ma come puoi pensare una cosa simile!» esclamò la madre. «Con tutto quel fango! Non saresti neppure presentabile una volta arrivata!» «Sarò sempre presentabile per Jane, che è l'unica persona che mi preme vedere.» «Sarebbe un'allusione a me?» disse suo padre. «Perché ti dia i cavalli?» «Oh no, davvero! Non ho paura di camminare. Dopotutto per un motivo così grave non è neppure una grande distanza, tre miglia solamente. Sarò di ritorno per l'ora di pranzo.» «Ammiro la forza del tuo affetto!» osservò Mary. «Ma tutti gli impulsi del sentimento dovrebbero essere controllati dalla ragione. Secondo me lo sforzo deve essere sempre proporzionato al motivo che lo ha originato. Ti accompagneremo fino a Meriton!» dissero Lydia e Catherine. Elizabeth accettò la proposta e le tre ragazze partirono insieme. «Se facciamo presto!» disse Lydia mentre camminavano. «Forse riusciremo a vedere il capitano Carter prima che parta!» Si separarono a Meriton. Le due più giovani si fermarono in casa della moglie di un ufficiale ed Elizabeth continuò la strada da sola, attraversando un campo dopo l'altro con passo veloce, scavalcando steccati e saltando pozzanghere con impaziente premura, finché si trovò in vista della casa con le caviglie stanche, le calze insaccherate e il volto acceso per tutto quel moto. Fu introdotta nella sala di soggiorno dove erano riuniti tutti tranne Jane e dove il suo apparire creò una vera sorpresa. Mrs. Hurst e Miss Bingley non volevano quasi credere che avesse fatto tre miglia tutta sola, così di buon mattino e con quel tempo orrendo, ed Elizabeth comprese che in cuor loro la schernivano. Tuttavia fu accolta con grande gentilezza e nei modi di Mr. Bingley vi era qualcosa di più, premura e soddisfazione. Mr. Darcy non disse quasi nulla e Mr. Hurst non aprì bocca. Il primo era combattuto tra l'ammirazione per lo splendido incarnato che il moto aveva dato al volto di Elizabeth e il dubbio se valesse la pena di venire da sola così da lontano per un motivo del genere. Il secondo pensava soltanto alla sua colazione. Quando chiese di sua sorella non ottenne una risposta molto consolante. Miss Bennet aveva dormito male e benché fosse alzata aveva un po' di febbre e non stava abbastanza bene per lasciare la camera. Elizabeth fu subito accompagnata da lei e Jane, che nella sua lettera non aveva ceduto alla tentazione di confessare quanto desiderasse la sua visita, fu felice di vederla. Non poteva però parlare molto e quando Miss Bingley le lasciò sole non riuscì a dirle quasi nulla. Si limitò ad esprimere la sua gratitudine per la straordinaria bontà che le avevano dimostrato. Elizabeth ascoltò in silenzio. A colazione finita furono raggiunte dalle sorelle e perfino Elizabeth incominciò ad apprezzarle vedendo tutta la sollecitudine e l'affetto che prodigavano a Jane. Venne il farmacista e dopo aver esaminato l'ammalata disse, come era da aspettarsi, che aveva preso un violento raffreddore e che doveva cercare di curarlo. Le consigliò di tornare a letto e promise di mandarle alcune medicine. Jane seguì prontamente il consiglio perché la febbre andava aumentando e la testa le doleva. Elizabeth non lasciò la camera neppure per un momento, né le signore stettero a lungo assenti, dato che gli uomini erano fuori e non avevano niente di meglio da fare. Quando suonarono le tre, Elizabeth sentì che era ora di muoversi ed espresse a malincuore la sua intenzione. Miss Bingley le offrì la carrozza e dietro la loro insistenza l'avrebbe accettata quando Jane mostrò un tale dispiacere per la sua partenza che Miss Bingley fu costretta a mutare l'offerta della carrozza in un invito di ospitalità a Netherfield. Elizabeth acconsentì con gratitudine. Fu spedito un domestico a Longbourn per avvertire la famiglia e per procurarsi qualche abito di ricambio. Capitolo ottavo Alle cinque le due signore andarono a vestirsi e alle sei e mezza Elizabeth fu chiamata per il pranzo. Tutti le chiesero gentilmente di sua sorella e lei notò con piacere che l'interesse di Bingley era assai più vivo di quello degli altri, ma non poteva dare notizie troppo buone. Jane non migliorava affatto. Nel sentir questo le signore espressero due o tre volte il loro dispiacere, commentando quanto fosse noioso un brutto raffreddore e come anche loro odiassero essere ammalate. Dopodiché non ci pensarono più e la loro indifferenza per Jane, quando non era presente, confermò Elizabeth nella sua antica antipatia verso di loro. Il fratello era l'unico del gruppo che le andasse a genio. La sua preoccupazione per Jane era evidente e le sue attenzioni verso di lei, Elizabeth, confortandola un poco, le impedivano di sentirsi un'intrusa, come credeva di essere considerata dagli altri. Infatti, tranne Bingley, nessuno si occupava di lei. Miss Bingley si dedicava completamente a Mr. Darcy e sua sorella non meno di lei. Quanto a Mr. Hearst, che aveva per vicino, era un uomo indolente che pensava solo a mangiare, bere e giocare a carte, e che dopo avere osservato che preferiva un cibo semplice a qualsiasi intingolo, non trovo altro da dirle. Terminato il pranzo, Eliza tornò subito da Jane, ed era appena uscita dalla camera che Miss Bingley cominciò a criticarla. I suoi modi furono giudicati pessimi, un insieme di orgoglio e di impertinenza. Non sapeva discorrere, mancava di stile, era priva di gusto e di bellezza. Anche Mrs. Hearst era della stessa opinione, e aggiunse, in fondo, non ha proprio altra qualità se non quella di essere una buona camminatrice. Non potrò mai dimenticare la sua apparizione di stamani, sembrava una mezza selvaggia. Davvero, Luisa, per poco non ce la facevo a trattenermi da ridere. E che esagerazione a correre a quel modo, sgambare così per i campi soltanto perché sua sorella aveva preso un raffreddore, ma con quei capelli tutti scarruffati al vento. Sì, e le sue gonne. Avrai osservato, immagino, la sua sottana coperta di fango per venti centimetri buoni, e il mantello che avrebbe dovuto nasconderla, e che non serviva affatto allo scopo. Può darsi che la tua descrizione sia esatta, disse Bingley, ma io non me ne sono accorto affatto. Miss Elizabeth Bennet, stamani quando è entrata, mi è parsa graziosissima, e la sua gonna infangata è sfuggita proprio alla mia attenzione. Non certo alla vostra, mister Darcy, disse Miss Bingley. E sono convinta che non vi piacerebbe affatto vedere vostra sorella andare in giro in quello stato. No, davvero. Camminare per tre miglia, o quattro, o cinque, o quelle che sono, con il fango fino oltre le caviglie. E sola, tutta sola. Ma che ha creduto di fare? Non è altro che l'ostentazione di un'odiosa forma di orgogliosa indipendenza, che tradisce tutta l'indifferenza dei provinciali al decoro. Dimostra anche un profondo affetto per sua sorella, il che la rende simpatica, disse Bingley. Temo, mister Darcy, sussurrò Miss Bingley, che questa avventura avrà un poco raffreddato la vostra ammirazione per i begli occhi di Elizabeth. Tutt'altro, rispose lui. Erano anzi più brillanti dopo la passeggiata. Queste parole furono seguite da una breve pausa, e Mrs. Arst riprese. Ho molta simpatia per Jane Bennet, che è veramente una cara ragazza e desidero con tutto il cuore che faccia un buon matrimonio. Ma con una madre e un padre simili e dei parenti così volgari, temo non le sarà facile. Mi pare di averle sentito dire che un loro zio è avvocato a Meryton. Sì, e ne hanno un altro che dicono abbia qualche negozio dalle parti di Cheapside. Oh, magnifico! aggiunse la sorella, e tutte e due risero di cuore. Anche se avessero tanti zii da riempire tutta Cheapside, esclamò Bingley, non sarebbero per questo meno graziose e nemmeno simpatiche. Dobbiamo però convenire che questo diminuisce indubbiamente la loro probabilità di sposare degli uomini della buona società, rispose Darcy. Bingley non rispose, ma le sue sorelle anuirono cordialmente e continuarono per qualche tempo a schernire il volgare parentado delle loro amiche. Tuttavia, con una ripresa d'affetto, lasciando la camera da pranzo, si recarono da Jane e rimasero con lei fino a quando furono chiamate per il caffè. Jane stava ancora poco bene, ed Elizabeth non volle lasciarla che tardi, sulla sera, quando la vide addormentata e le parve cosa gentile verso i suoi ospiti, più che piacevole in se stessa, scendere in sala. Entrando, trovò la compagnia intenta al gioco, e fu subito invitata a prendervi parte, ma temendo che le poste fossero troppo alte, rifiutò con la scusa che, non volendo lasciare a lungo sola sua sorella, nel poco tempo che poteva trattenersi si sarebbe distratta leggendo. Mr. Hurst la guardò con stupore. «Preferite leggere a giocare?» chiese. «Che cosa strana!» «Miss Eliza Bennet!» disse Miss Bingley. «Disprezza le carte! È una grande lettrice e non si diletta d'altro!» «Non merito né questa lode né questo biasimo!» esclamò Elizabeth. «Non sono una grande lettrice e ci sono anche molte altre cose che mi piacciono!» «Sono certo che vi piace assistere vostra sorella!» disse Bingley, «e che questo piacere sarà presto accresciuto vedendola ristabilirsi!» Elizabeth lo ringraziò dal fondo del cuore e si avviò verso un tavolo sul quale c'erano alcuni libri. Egli si offrì immediatamente di andarne a cercare degli altri, tutti quelli che poteva offrire la sua biblioteca. «Vorrei che la mia biblioteca fosse più ricca, per il vostro piacere e a onor mio, ma sono così pigro che i pochi libri che ho sono sempre troppi per quello che ne faccio!» Elizabeth lo assicurò che le bastavano quelli che si trovavano in sala. «È strano!» disse Miss Bingley, «che mio padre abbia lasciato così pochi libri! La vostra biblioteca di Pemberley, Mr. Darcy, è meravigliosa!» «È naturale che lo sia!» egli rispose, «perché è l'opera di molte generazioni!» «E voi stesso l'avete molto accresciuta, comperando sempre nuovi libri! Non posso capire come ai nostri giorni si possa trascurare la biblioteca di famiglia!» «Trascurare? Non c'è pericolo che voi trascuriate nulla per migliorare quella nobile dimora! Charles, quando costruirai la tua casa, mi auguro che riesca bella anche soltanto la metà di Pemberley!» «Magari!» «Ma io ti consiglierei di comprare il terreno da quelle parti e di prendere Pemberley come modello! Il Derbyshire è la più bella contea dell'Inghilterra!» «Sarei felice di comprare Pemberley stesso, se Darcy la vendesse!» «Parlavo di cose possibili, Charles!» «In fede mia, Carolyn, sarebbe più facile acquistare Pemberley che copiarla!» Elisabeth si interessava talmente alla conversazione che non riusciva a prestare attenzione al suo libro, per cui, messolo da parte, si accostò al tavolino dove sedette tra Mr. Bingley e sua sorella maggiore per osservare il gioco. «È cresciuta ancora da questa primavera, Miss Darcy?» chiese Miss Bingley. «Si farà alta come me?» «Credo di sì. È già grande come Miss Elisabeth Bennet. O forse di più.» «Oh, come vorrei di vederla! Non ho mai incontrato una ragazza più carina! Un contegno, dei modi così perfetti, ed è così colta per la sua età! Suona il pianoforte in maniera incantevole!» «Sono sempre meravigliato», disse Bingley, «della pazienza che hanno tutte le ragazze nel coltivarsi.» «Tutte le ragazze? Ma, Charles, che cosa intendi dire?» «Sì, tutte, o almeno così mi sembra. Tutte dipingono, o ricoprono paraventi, o ricamano borse. Non ne conosco una che non possegga queste abilità. E la prima cosa che mi dicono, parlandomi di una signorina, è che ha un'educazione perfetta ed è molto colta.» «La tua lista delle abilità femminili?» disse Darsi. «È anche troppo esatta, purtroppo. Si usa la parola colta per definire una signorina che spesso sa soltanto ricoprire un paravento o ricamare una borsa. Tuttavia, non sono affatto d'accordo con te nell'affermare che tutte le donne in genere meritino i tuoi complimenti. Nell'intera cerchia delle mie conoscenze non saprei trovarne più di una mezza dozzina che siano veramente colte.» «Nemmeno io!» confermò Miss Bingley. «È segno che vi fate un'idea molto alta di come dovrebbe essere una donna», disse Elisabeth. «Sì, secondo me una donna deve possedere molte qualità.» «Oh, certo!» esclamò la sua vivace interlocutrice. «Nessuna donna può essere considerata veramente colta se non sorpassa di gran lunga la misura comune. Una donna deve possedere una conoscenza profonda della musica, del canto, del disegno e della danza, conoscere le lingue moderne e, oltre a questo, deve avere nel suo aspetto e nel suo modo di muoversi, nella sua voce e nella sua maniera di parlare, qualcosa che la distingua veramente.» «Non solo», continuò Darsi, «ma deve aggiungere a tutto questo qualcosa di ancor più importante, saper coltivare la sua mente con delle profonde letture. Non c'è da meravigliarsi se conoscete soltanto sei donne di questo genere. È già strano che ne conosciate una.» «Siete così severa verso il vostro sesso.» «Io non ho mai incontrato una donna simile. Mai ho visto tanta cultura, gusto, applicazione ed eleganza come quelle da voi descritte, riunite in una sola persona.» Mrs. Arst e Miss Bingley protestarono tutte e due contro la severità di questo giudizio e stavano già per asserire di conoscere parecchie signore che rispondevano a questa descrizione quando Mrs. Arst le richiamò all'ordine, lamentandosi aspramente per la loro disattenzione al gioco. Troncata così ogni conversazione, Elizabeth poco dopo lasciò la sala. «Eliza Bennet», disse Miss Bingley quando la porta si richiuse dietro di sé, «è una di quelle ragazze che cercano di farsi belle agli occhi dell'altro sesso, svalutando il proprio. Ed è un fatto che con molti uomini vi riescano. Ma secondo me è un mezzuccio meschino, un artificio volgare.» «Vi è senza dubbio della meschinità in ogni artificio di cui le signore si servono per accattivarsi gli uomini», rispose Darsi, al quale era rivolta principalmente questa osservazione. «Tutto quello che si presenta sotto la veste della furberia è spreggevole.» Questa risposta non soddisfece troppo Miss Bingley, che preferì lasciar cadere l'argomento. Elizabeth ritornò soltanto per avvertire che sua sorella stava peggio e che non poteva lasciarla. Bingley insistette perché fosse chiamato subito Mr. Jones, mentre le sue sorelle, convinte che un medico di campagna non potesse essere di grande aiuto, raccomandarono di mandare un espresso in città per un medico di valore. Ma Elizabeth non volle sentirne parlare e propendeva più per la proposta di Mr. Bingley. Fu quindi deciso che se Miss Bennet non migliorava, l'indomani mattina di buon'ora si sarebbe chiamato Mr. Jones. Bingley era proprio costernato. Le sue sorelle si dichiararono desolate, ma questo non impedì loro di distrarsi e mitigare il proprio dolore cantando dopo cena dei duetti, mentre Bingley trovò invece conforto nell'impartire ordini alla governante perché la malata e sua sorella fossero circondate di ogni cura. Capitolo nono. Elizabeth passò gran parte della notte in camera di sua sorella e al mattino ebbe la gioia di dare una risposta confortante alle domande che le pervennero assai di buon'ora da parte di Mr. Bingley, tramite una donna di servizio, e un po' più tardi dalle sue sorelle, a mezzo di due eleganti cameriere addette alla loro persona. Ma nonostante questo miglioramento, Elizabeth chiese di mandare un biglietto a Longoborn, desiderando che sua madre venisse a trovare Jane e giudicasse personalmente la situazione. Il biglietto fu spedito immediatamente e il desiderio esaudito con grande prontezza. Mrs. Bennet, accompagnata dalle due figlie minori, arrivò a Netherfield poco dopo colazione. Non si può mettere in dubbio che se la signora Bennet avesse trovato Jane in pericolo ne sarebbe stata profondamente desolata, ma, data la lievità della malattia, non provava alcun desiderio che sua figlia si rimettesse prontamente, perché una volta guarita avrebbe dovuto lasciare Netherfield. Non volle quindi nemmeno ascoltare la proposta di Jane di essere trasportata a casa, e anche il farmacista, arrivato in quel momento, giudicò la cosa sconsigliabile. Dopo aver trascorso un po' di tempo con Jane, accogliendo un vago invito di Miss Bingley, la madre e le tre figlie la seguirono in sala da pranzo. Bingley le accolse esprimendo la speranza che Mrs. Bennet non avesse trovato sua figlia peggio di quanto si aspettava. «Purtroppo sì», fu la sua risposta. «E' ancora troppo malata per poter essere trasportata a casa. Mr. Jones dice di non pensarci nemmeno. Saremo proprio costretti ad approfittare ancora della vostra cortesia». «Trasportarla», esclamò Bingley. «Non è neppure il caso di parlarne. Sono sicuro che mia sorella non acconsentirebbe mai a lasciarla partire». «Potete essere sicura, madame», disse Miss Bingley con fredda cortesia, «che Miss Bennet avrà tutte le cure fino a quando starà con noi». Mrs. Bennet si profuse in ringraziamenti. «Oh, non so proprio», aggiunse, «che ne sarebbe di lei se non avesse trovato amici tanto gentili, perché sta proprio poco bene e soffre parecchio, sebbene con molta pazienza, come del resto sua abitudine, perché ha, posso dirlo con cognizione, il miglior carattere che io conosca. Dico spesso alle mie altre figliole che non valgono nulla in confronto a lei. Oh, com'è bella questa camera, Mr. Bingley, e che graziosa veduta sul viale! Non conosco altra villa in campagna paragonabile a Netherfield. Spero che anche se avete concluso un affitto breve, non penserete di lasciarla tanto presto». «Sono sempre piuttosto precipitoso nelle mie decisioni», egli rispose. «E così, se venissi nella determinazione di lasciare Netherfield, probabilmente me ne andrei in cinque minuti. Tuttavia, per ora, mi considero qui come se mi ci fossi stabilito per sempre». «Questo risponde esattamente all'idea che mi sono fatta di voi», disse Elisabeth. «Incominciate a capirmi, non è vero?», esclamò Bingley rivolto alla ragazza. «Oh sì, vi capisco perfettamente». «Vorrei che fosse un complimento, ma ho paura che l'essere capito così a prima vista, significhi che sono una persona di ben poco valore. Non è detto che un carattere chiuso e complicato sia più stimabile di uno come il vostro». «Lizzi!», interruppe sua madre. «Ricordati dove sei e non lasciarti andare a parlare a bambera come ti lasciamo fare a casa!» «Non sapevo che foste un'osservatrice di caratteri», continuò in fretta Bingley. «Deve essere uno studio interessante». «Sì, ma i caratteri complicati sono i più divertenti. Hanno almeno questo vantaggio». «La campagna», disse Darcy, «offre generalmente pochi soggetti per uno studio del genere. Ci si muove sempre nel cerchio della solita invariata e limitata società». «Ma la stessa gente cambia talmente che c'è sempre qualcosa di nuovo da osservare». «È proprio così!», esclamò Mrs. Bennet, offesa di quell'apprezzamento sul modo di vivere in campagna. «Vi assicuro che anche in mezzo a noi c'è altrettanta animazione che in città!». Tutti rimasero sorpresi a quest'uscita, ed Darcy, dopo averla fissata un istante, volse altrove lo sguardo silenziosamente. Mrs. Bennet, sicura di averlo totalmente sconfitto, continuò trionfante. «Per conto mio, non vedo proprio in che cosa Londra sia tanto superiore alla provincia, se non per i negozi e i luoghi pubblici. In campagna si sta molto meglio, non è vero, Mr. Bingley?». «Quando sono in campagna non vorrei mai andarmene», rispose. «Ma mi avviene lo stesso quando sono in città. Tutte e due hanno i loro vantaggi e sono ugualmente felice tanto in un posto come nell'altro». «Ah, questo dipende dal vostro buon carattere! Ma quel signore», disse guardando Darcy, «aveva l'aria di pensare che la campagna non valga un granché». «Ma ti sbagli, mamma», disse Elizabeth arrossendo per sua madre. «Non hai compreso Mr. Darcy. Voleva dire che in campagna non si trova una società così varia come in città, e devi riconoscere che è vero». «Certamente, cara, nessuno dice che ci sia, ma quanto a vedere tanta gente, non credo esista un posto nel quale si possano coltivare le relazioni come questo. Basta pensare che noi frequentiamo e siamo invitati a pranzo in ben 24 case». Bingley mantenne la sua gravità solo per un riguardo verso Elizabeth. Le sue sorelle, con minor delicatezza, lanciarono a Mr. Darcy un sorriso molto espressivo. Elizabeth, per cambiare il corso dei pensieri di sua madre, chiese se Charlotte Lucas era stata a Longbourn dopo la loro partenza. «Sì, è venuta a trovarci ieri con suo padre». «Che persona simpatica è Sir William, non è vero, Mr. Bingley? Un vero uomo di mondo. Tanto semplice e cortese. Trova sempre una parola per tutti. Questa, secondo me, è la vera educazione. Ma chi si dà tante arie e non apre mai bocca, mostra proprio di esserne sprovvisto». «Charlotte si è fermata a pranzo?» «No, volle tornare a casa. Credo fosse attesa per preparare il pasticcio di fegato. Io, vede, Mr. Bingley, ho sempre della servitù che sa il suo mestiere e le mie figliole sono state educate ben diversamente. Ma ognuno ha il suo modo di vedere e le Lucas sono delle ottime ragazze. Peccato che non siano belle, ma non si può dire che Charlotte sia proprio una nullità e del resto è la nostra amica prediletta». «Sembra una signorina molto simpatica», disse Bingley. «Oh, sì, ma dovete convenire che è proprio brutta. Lo riconosce anche Lady Lucas e spesso mi invidia la bellezza di Jane. Non si vede spesso una bellezza simile. Lo dicono tutti e questo giudizio non è davvero frutto della mia parzialità. Avevo appena 15 anni quando un signore, che si trovava da mio fratello Gardiner a Londra, era talmente innamorato di lei che mia cognata credeva si dichiarasse prima della nostra partenza. Non lo fece. Forse la trovò troppo giovane. Tuttavia scrisse per lei alcuni versi ed erano proprio graziosi». «E così terminò il suo amore», disse Elizabeth con impazienza. «Non sarà l'unico, credo, che avrà fatto la stessa fine. Mi domando chi sarà stato il primo a scoprire l'efficacia della poesia per spegnere l'amore. Ho sempre pensato che la poesia fosse il nutrimento dell'amore», disse Darcy. «Forse di un amore deciso e vigoroso. Quello che è già forte trae nutrimento da ogni cosa. Ma se si tratta soltanto di una tenue, pallida inclinazione, sono sicura che un buon sonetto ne ha subito ragione». Darcy sorrise e la pausa che seguì fece tremare Elizabeth per il timore che sua madre si esponesse di nuovo al ridicolo. Avrebbe voluto parlare, ma non sapeva pensare a nulla da dire e, dopo un breve silenzio, Mrs. Bennet riprese a ringraziare Mr. Bingley per la sua bontà verso Jane e a scusarsi per il disturbo che arrecava Lizzi. Mr. Bingley rispose con cortese naturalezza e obbligò sua sorella minore a essere gentile a sua volta e a dire quello che l'occasione richiedeva. Costei fece la sua parte senza troppa buona grazia, ma la signora Bennet se ne accontentò ugualmente e poco dopo ordinò la carrozza. A questo segnale la figlia minore si fece avanti. Le due ragazze non avevano fatto che bisbigliare tra loro durante l'intera visita e il risultato fu che la minore dovette ricordare a Mr. Bingley la promessa fatta di dare un ballo a Netherfield. Lydia era una ragazza di 15 anni, forte e ben sviluppata, con una bella carnagione e un carattere spigliato. Era la preferita della madre, che per questa predilezione l'aveva condotta in società troppo presto. Era molto vivace e molto disinvolta. Tale disinvoltura era aumentata fino a diventare sfacciataggine da quando era oggetto delle attenzioni degli ufficiali, attirati dagli ottimi pranzi di suo zio e dal suo fare tutt'altro che riservato. Era quindi indicata per fare la richiesta a Mr. Bingley a proposito del ballo e infatti gli rammentò a bruciapelo la sua promessa, aggiungendo che sarebbe stata una vera vergogna se non l'avesse mantenuta. La risposta a questo improvviso attacco suonò deliziosamente agli orecchi della madre. «Vi assicuro che sono prontissimo a mantenere la mia promessa e appena vostra sorella sarà guarita, fisserà a lei stessa la data del ballo. Non vorreste certamente ballare mentre è ancora malata». Lydia si dichiarò soddisfatta. «Oh, senza dubbio sarà molto meglio aspettare che Jane stia bene e così sarà anche più facile che per allora sia tornato a Meriton il capitano Carter. E quando avrete dato il vostro ballo?» aggiunse. «Insisterò perché ne diano uno anche gli ufficiali. Dirò al colonnello Forster che sarebbe una vergogna se non lo dessero». La signora Bennet e le figlie se ne andarono ed Elizabeth tornò subito da Jane, lasciando che le due signore e Mr. Darcy commentassero il contegno suo e della sua famiglia. Ma quest'ultimo, nonostante tutto lo spirito di Miss Bingley a proposito di certi begli occhi, non poteva essere indotto a unirsi a loro nelle critiche. Capitolo decimo. Il giorno dopo trascorse pressappoco come il precedente. Mrs. Arst e Miss Bennet avevano passato alcune ore del mattino con la malata, che sebbene lentamente andava ristabilendosi, e la sera Elizabeth raggiunse in sala la compagnia. Il tavolo da gioco però non apparve. Mr. Darcy scriveva e Miss Bingley, seduta accanto a lui, seguiva i progressi della sua lettera cercando di attirare continuamente la sua attenzione con la scusa di alcuni messaggi per sua sorella. Mr. Arst e Mr. Bingley facevano una partita a picchetto e Mrs. Arst seguiva il loro gioco. Elizabeth prese un lavoro di cucito, divertendosi un mondo a osservare quello che accadeva tra Darcy e la sua compagna. I continui commenti che lei faceva sulla sua calligrafia, o la regolarità delle sue righe, o la lunghezza della sua lettera, e l'assoluta indifferenza con cui venivano accolte le sue frasi, formavano uno strano dialogo che rispondeva perfettamente all'opinione che Elizabeth si era formata di loro due. Come sarà contenta Miss Darcy di ricevere una così lunga lettera? Nessuna risposta da parte di Darcy. Scrivete con una rara velocità. Vi sbagliate, scrivo piuttosto ad agio. Quante lettere avrete da scrivere nel corso di un anno e anche lettere d'affari? Quanto a me, le troverai detestabili. Per fortuna tocca scriverle a me e non a voi. Vi raccomando, dite a vostra sorella che ho un gran desiderio di rivederla. Glielo scrissi già una volta, come mi avete pregato. Ho paura che la vostra penna non vada bene. Lasciate che ve la accomodi io. Sono abilissima nel preparare la penna. Grazie, ma le preparo sempre da me. Come fate a scrivere così diritto? Silenzio. Dite a vostra sorella che mi rallegro dei suoi progressi sull'arpa e scrivetele anche, vi prego, che sono addirittura entusiasta del suo delizioso disegno e che lo trovo molto superiore a quelli di Miss Grantley. Potrei rimandare i vostri entusiasmi alla mia prossima lettera? Non ho più abbastanza posto per esprimerli come meritano. Oh, non fa nulla. La vedrò in gennaio, ma le scrivete sempre lettere così lunghe e così belle, Mr. Darcy. Generalmente sono lunghe. Non sta a me dire se sono belle. Ho sempre pensato che chi scrive a lungo con facilità non può scrivere male. Darcy non merita davvero questo complimento, Carolyn, esclamò suo fratello. Perché non si può proprio dire che scriva facilmente. Sceglie troppo le parole. Non è così, Darcy? Il mio stile è molto diverso dal tuo. Ah, esclamò Miss Bingley. Charles scrive con incredibile trascuratezza. Dimentica metà delle parole e scarabocchia le altre. Le mie idee si succedono con una tale rapidità che non faccio a tempo ad esprimerle. Ecco perché spesso le mie lettere non trasmettono nessuna idea a quelli che le leggono. La vostra modestia, Mr. Bingley, disse Elizabeth, disarma ogni critica. Nulla è più ingannevole dell'apparente modestia. Spesso non è che indifferenza le opinioni altrui e spesso è una forma indiretta di vanagloria. E a quale delle due forme attribuisci la mia modestia? La vanagloria. Perché in realtà sei fiero dei difetti del tuo stile che attribuisce alla rapidità dei tuoi pensieri e alla tua indifferenza al modo di esprimerli, cosa che se non bella trovi perlomeno interessante. La facoltà di fare tutto velocemente è una qualità sempre molto apprezzata da chi la possiede, anche se va a scapito del modo di fare le cose. Quando stamattina dicevi a Mrs. Bennet che se ti decidessi a lasciare Netherfield lo faresti in cinque minuti, sembrava quasi che te ne vantassi. Eppure che cosa c'è di tanto apprezzabile in una precipitazione che lascerebbe per forza metà delle cose in sospeso e non porterebbe alcun vantaggio né a te né agli altri? È una vera indegnità, esclamò Bingley, ricordare la sera le sciocchezze dette al mattino. Eppure, parola d'onore, ho creduto dire la verità sul mio carattere e lo credo tuttora. Non è che volessi apparire inutilmente impulsivo al solo scopo di farmi bello agli occhi delle signore. Sono certo che tu ne eri convinto, ma non sono altrettanto sicuro che partiresti con la velocità di cui parlavi. La tua condotta, come quella di tutti gli uomini, dipenderebbe per metà dal caso. E se quando tu fossi già a cavallo un amico ti dicesse, Bingley, faresti meglio a restare fino alla settimana prossima, probabilmente cederesti, forse ti fermeresti e magari basterebbe un'altra parola per trattenerti un mese intero, concluse Darcy. Con questo, disse Elizabeth, avete soltanto provato che Mr Bingley non conosce se stesso e lo avete messo in una luce molto migliore di quanto non abbia fatto lui da solo. Vi sono molto grato di convertire le parole del mio amico in un elogio del mio carattere, ma ho paura che la vostra interpretazione sia ben lontana da quello che intendeva dire quel Signore, perché lui mi stimerebbe molto di più se in una circostanza simile io rispondessi con un secco rifiuto e fuggissi il più lontano possibile. Mr Darcy dunque troverebbe che la vostra impetuosità sarebbe scusata dalla vostra ostinazione. In fede mia non so spiegare esattamente la cosa, Darcy stesso si difende come meglio sa. Tu vorresti che spiegassi delle opinioni che ti piace attribuirmi, ma che non sono le mie. Tuttavia in questo caso, e secondo il tuo modo di esporre le cose, devo ricordare, Miss Bennet, che l'amico che supponiamo voglia indurre Bingley a rimanere a casa rimandando i suoi progetti di partenza, ha espresso soltanto un desiderio senza avvalorarlo con alcuna ragione per dimostrarne l'opportunità. Ma per voi accondiscendere prontamente alla persuasione di un amico non rappresenta un merito. Cedere senza esserne convinto non è un complimento alla ragionevolezza di nessuno. Mi sembra, Mr Darcy, che voi non lasciate alcun margine all'ascendente dell'amicizia e dell'affetto. La deferenza verso un amico può spesso bastare per acconsentire subito alla sua domanda, senza aspettare di conoscere gli argomenti che può esporre in suo favore. Non parlo di un caso come quello da noi supposto riguardo Mr Bingley. Forse sarà meglio aspettare che si verifichi prima di discutere se il suo modo di comportarsi sia giusto o meno. Ma in genere, quando tra due amici uno prega l'altro di cambiare una decisione non troppo importante, vi asimereste la persona che cede a quella preghiera senza attendere di essere persuasa. Non vi parrebbe meglio, prima di continuare l'argomento, definire con maggior precisione il grado di importanza della domanda come il grado di intimità tra i due amici. «Ma certo!» esclamò Bingley. «Fateci sapere tutti i particolari senza dimenticare le rispettive altezze e corporature. Cose del genere, Miss Bennet, hanno un peso maggiore di quanto possiate immaginare. Vi assicuro che se Darsi non fosse un tipo così alto in confronto a me, non avrei per lui nemmeno la metà del rispetto che ho. Posso affermare di non conoscere nulla che mi intimidisca più di Darsi, in particolari occasioni e in luoghi particolari, specialmente a casa sua e la domenica sera quando non ha nulla da fare». Mr. Darsi sorrise, ma Elizabeth credette di capire che si fosse alquanto offeso e quindi trattenne una risata. Miss Bingley si risentì calorosamente dell'indegnità di cui era stato oggetto, facendo le sue rimostranze al fratello per le sciocchezze che aveva detto. «Capisco dove vuoi andare a parare, Bingley», disse il suo amico. «La discussione non ti piace e vuoi metterla a tacere». «Forse è così. Le discussioni sono troppo simili ai litigi. Se tu e Miss Bennet rimanderete la vostra quando sarò uscito dalla stanza, ve ne sarei molto grato. Allora potrai dire quello che ti pare di me». «Quello che chiedete», disse Elizabeth, «per me non è affatto un sacrificio e Mr. Darsi farebbe molto meglio a finire la sua lettera». Mr. Darsi seguì il consiglio e concluse la sua lettera. Una volta terminata quell'incombenza, si rivolse a Miss Bingley e a Elizabeth, pregandole di fare un po' di musica. Miss Bingley si mosse con fervore verso il pianoforte e dopo una cortese richiesta affinché fosse Elizabeth la prima, declinata da quest'ultima con pari cortesia e più sincerità, prese posto. Mrs. Arst cantò con la sorella. E mentre loro erano occupate in questo, Elizabeth non poteva fare a meno di notare, mentre sfogliava alcuni spartiti poggiati sullo strumento, come lo sguardo di Mr. Darsi si fermasse molto spesso su di lei. Non poteva certo supporre di essere oggetto dell'ammirazione di un grand'uomo del genere e che la guardasse perché gli era antipatica sarebbe stato ancora più strano. Alla fine, riuscì solo a immaginare che le rivolgesse la sua attenzione perché in lei c'era qualcosa di più fuori luogo e riprovevole, secondo le sue idee di correttezza, di qualsiasi altra persona presente. L'ipotesi non la turbò. Le piaceva troppo poco per tenere alla sua approvazione. Dopo aver suonato alcune canzoni italiane, Miss Bingley cambiò genere con una vivace aria scozzese e subito dopo Mr. Darsi, avvicinandosi a Elizabeth, le disse «Non provate un forte desiderio, Miss Bennet, di cogliere l'occasione per ballare un reel?» Lei sorrise, ma non rispose. Lui ripete la domanda, un po' sorpreso dal suo silenzio. «Oh», disse lei, «vi avevo sentito, ma non sono riuscita a decidere subito che cosa rispondere. Lo so che avreste voluto sentirmi dire sì per avere il piacere di denigrare il mio buon gusto, ma per me è sempre un piacere stravolgere questo genere di piani e privare le persone del loro disprezzo premeditato. Ho perciò risolto di dirvi che non voglio affatto ballare un reel e ora disprezzatemi pure se ne avete il coraggio. Non oserei mai farlo, davvero». Elizabeth, che aveva intenzione di offenderlo, si meravigliò della sua galanteria. Mai lei c'era un misto di dolcezza e malizia che le rendeva difficile offendere chiunque. E Darcy non era mai stato così stregato da nessuna donna come da lei. Era convinto che, se non fosse stato per l'inferiorità della sua famiglia, si sarebbe trovato davvero in serio pericolo. Miss Bingley vedeva, o sospettava, abbastanza da essere gelosa. E la forte impazienza per la guarigione fu alquanto rafforzata dal desiderio di sbarazzarsi di Elizabeth. Spesso tentò di provocare in Darcy un'antipatia per la sua ospite, parlandogli del presunto matrimonio e prospettandogli la felicità che sarebbe seguita a un'unione del genere. «Spero», disse mentre stavano passeggiando nel boschetto il giorno successivo, «che darete a vostra suocera qualche consiglio, quando questo desiderabile evento avrà luogo, circa i vantaggi di tenere a freno la lingua, e che riusciate a limitare la voglia delle ragazze più giovani di correre dietro agli ufficiali. E se posso accennare a un argomento così delicato, dovreste cercare di controllare quel piccolo non so che ai confini tra presunzione e impertinenza che contraddistingue la vostra signora». «Avete qualche altra cosa da proporre per la mia felicità domestica?» «Oh, sì! Fate mettere i ritratti degli zii Phillips nella galleria a Pemberley. Sistemateli vicini al vostro prozio, il giudice. Esercitano la stessa professione, in fin dei conti, solo in rami diversi. Quanto al ritratto della vostra Elizabeth, non dovete nemmeno tentare di farlo fare, poiché quale pittore potrebbe rendere giustizia a quei bellissimi occhi?» «In effetti non sarebbe facile coglierne l'espressione, ma il colore, la forma e le ciglia, così straordinariamente fini, si possono riprodurre. In quel momento si imbatterono in Mrs. Hurst e nella stessa Elizabeth, provenienti da un altro sentiero». «Oh, non sapevo che aveste intenzione di fare una passeggiata», disse Miss Bingley, un po' imbarazzata per paura di essere stata sentita. «Ci avete trattate in modo orrendo», rispose Mrs. Hurst, scappando via senza dirci che stavate uscendo. Poi, prendendo il braccio libero di Mr. Darcy, lasciò Elizabeth a camminare da sola. Il vialetto aveva posto solo per tre. Mr. Darcy si rese conto dello sgarbo e disse immediatamente «Questo sentiero non è abbastanza largo per tutti. Sarà meglio andare nel viale». Ma Elizabeth, che non aveva la minima intenzione di restare con loro, rispose ridendo «Ah, no, no! Restate dove siete. Formate un gruppo incantevole e avete un aspetto di rara perfezione. Il pittoresco sarebbe rovinato da una quarta persona. Arrivederci». Poi corse via allegramente, felice, mentre se ne andava a zonzo, all'idea di poter tornare a casa in un giorno o due. Jane si era già ripresa talmente bene da avere intenzione quella sera di lasciare la sua stanza per un paio d'ore. Capitolo undicesimo. Quando le signore si alzarono dopo il pranzo, Elizabeth corse di sopra dalla sorella e, assicurandosi che fosse ben protetta dal freddo, l'accompagnò in salotto, dove fu accolta dalle due amiche con molte manifestazioni di gioia. Elizabeth non le aveva mai trovate così gradevoli come in quell'ora che trascorse prima dell'apparizione dei signori. Le loro capacità di conversare erano notevoli. Erano in grado di descrivere con precisione un ricevimento, di riportare un aneddoto con senso dell'umorismo e di ridere con spirito delle loro conoscenze. Ma quando entrarono i signori, Jane smise di essere al centro dell'attenzione. Lo sguardo di Miss Bingley si rivolse all'istante a darsi e trovò da dirgli qualcosa prima che avesse fatto qualche passo. Lui si rivolse subito a Miss Bennett, con educate felicitazioni. Anche Mr. Hurst fece un lieve inchino, dicendo di essere molto lieto, ma l'espansività e il calore furono appannaggio solo del saluto di Bingley. Era pieno di gioia e di attenzioni. La prima mezz'ora la passò ad attizzare il fuoco, per paura che lei risentisse del cambio di stanza, e la fece spostare dall'altra parte del caminetto, affinché stesse lontana dalla porta. Poi si sedette accanto a lei e rivolse a malapena la parola agli altri. Elizabeth, intenta a lavorare nell'angolo opposto, osservò tutto con molto piacere. Una volta preso il tè, Mr. Hurst rammentò alla cognata il tavolo da gioco, ma in vano. Lei aveva appreso da qualcuno, in via confidenziale, che Mr. Darcy non amava le carte, e Mr. Hurst si sentì opporre un rifiuto persino a una sua richiesta esplicita. Gli assicurò che nessuno aveva intenzione di giocare, e il silenzio dell'intera compagnia in proposito sembrava darle ragione. Mr. Hurst non ebbe perciò nient'altro da fare che allungarsi su uno dei divani e mettersi a dormire. Darcy prese un libro, Miss Bingley fece lo stesso, e Mrs. Hurst, intenta principalmente a giocare con i suoi braccialetti e i suoi anelli, si uni di tanto in tanto alla conversazione del fratello con Miss Bennet. L'attenzione di Miss Bingley era molto più impegnata a controllare i progressi di Mr. Darcy con il suo libro che a leggere il proprio. Non smetteva di fargli continue domande o di sbirciare le pagine che stava leggendo, ma non riuscì ad attirarlo nella conversazione. Lui si limitava a rispondere alle sue domande e continuava a leggere. Alla fine, completamente esausta dai tentativi di svagarsi con il proprio libro, che aveva scelto solo perché era il secondo volume di quello di lui, fece un sonoro sbadiglio e disse «Ma come piacevole passare una serata in questo modo! Mi sento di dire che in fondo non c'è nessuno svago come la lettura! Come ci si stanca presto di qualsiasi altra cosa che non sia un libro! Quando avrò una casa mia mi sentirei davvero infelice a non avere una biblioteca eccellente!» Nessuno replicò. Allora lei sbadigliò di nuovo, mise da parte il libro e lanciò uno sguardo intorno alla sala alla ricerca di qualche svago. Quando, sentendo che il fratello stava parlando a Miss Bennet di un ballo, si rivolse subito a lui e disse «A proposito, Charles, stai davvero pensando di dare un ballo a Netherfield? Ti consiglierei, prima di decidere, di tenere conto dei desideri dei presenti. Mi sbaglio di grosso, o tra di noi c'è qualcuno per il quale un ballo sarebbe più una punizione che un piacere?» «Se intendi dire darsi», esclamò il fratello, «può andarsene a letto se preferisce, prima che cominci, ma quanto al ballo è una cosa ormai decisa e non appena Nichols avrà preparato zuppa bianca a sufficienza, manderò gli inviti». «I balli mi piacerebbero infinitamente di più», replicò lei, «se si svolgessero in maniera diversa. Ma c'è qualcosa di insopportabilmente noioso nelle modalità usuali di queste riunioni. Sarebbe molto più sensato se all'ordine del giorno ci fosse la conversazione invece della danza». «Molto più sensato, mia cara Carolyn, lo ammetto, ma non sarebbe molto vicino a un ballo». Miss Bingley non rispose e subito dopo si alzò e si mise a passeggiare per la stanza. Aveva una figura elegante e camminava bene, ma Darcy, al quale era destinato il tutto, restava ancora inflessibilmente assorto. Ormai preda della disperazione decise di fare un ulteriore tentativo e rivolgendosi a Elizabeth disse «Miss Eliza Bennet, lasciatevi convincere a seguire il mio esempio e a fare un giro per la stanza. Vi assicuro che è molto riposante dopo essere rimaste sedute così a lungo nella stessa posizione». Elizabeth ne fu sorpresa, ma accettò immediatamente. Miss Bingley ebbe non meno successo nell'obiettivo reale di quel gesto cortese. Mister Darcy alzò lo sguardo. Era rimasto colpito quanto è Elizabeth dalla novità di una gentilezza da quella fonte e chiuse senza accorgersene il libro. Fu subito invitato a unirsi a loro, ma rifiutò, osservando che poteva immaginare solo due motivi per quella scelta di passeggiare avanti e indietro per la stanza, con entrambi i quali la sua partecipazione avrebbe interferito. «Che cosa intende dire?» Miss Bingley stava morendo dalla voglia di sapere che cosa intendeva dire e chiese a Elizabeth se fosse in grado di interpretarlo. «Assolutamente no», fu la risposta. «Ma contateci. Intende essere severo con noi e il mezzo più sicuro per deluderlo sarà di non chiedergli nulla in proposito». Miss Bingley, però, era incapace di dare una qualsiasi delusione a Mister Darcy e quindi perseverò nel chiedere una spiegazione circa quei due motivi. «Non ho nulla in contrario a spiegarli», disse lui non appena lei gli consentì di parlare. «O avete scelto questo modo di passare la serata perché siete in confidenza e avete affari riservati da discutere, oppure perché siete consapevoli che le vostre figure appaiano nel modo migliore camminando. Nel primo caso sarei sicuramente d'intralcio e nel secondo posso ammirarvi molto meglio se resto seduto accanto al fuoco». «Ma inaudito!» esclamò Miss Bingley. «Non ho mai sentito nulla di così disgustoso. Come lo puniremo per un discorso del genere?» «Nulla di più facile, se solo ne avete voglia», disse Elizabeth. «Siamo sempre in grado di tormentarci e punirci l'un l'altro. Stuzzicatelo. Ridete di lui. Intimi come siete, dovete sapere come fare». «Oh, sul mio onore non so. Vi assicuro che l'intimità non mi ha ancora insegnato questo. Stuzzicare un temperamento così tranquillo e una tale presenza di spirito. No, no. So che qui può sconfiggerci. E quanto a riderne, non ci esponiamo, ve ne prego, al tentativo di ridere senza motivo. Mr. Darcy può felicitarsi con se stesso». «Non si può ridere di Mr. Darcy», esclamò Elizabeth. «È un vantaggio non comune e spero che continuerà a essere non comune, perché per me sarebbe una grossa perdita avere molte conoscenze del genere. Mi piace così tanto una bella risata?» «Miss Bingley», disse lui, «mi ha concesso più credito di quanto ne sia dovuto. Il più saggio e il migliore degli uomini, o meglio la più saggia e la migliore delle sue azioni, può essere resa ridicola da una persona il cui scopo principale nella vita è scherzare». «Certo», replicò Elizabeth. «Ci sono persone del genere, ma spero di non essere una di loro. Spero di non mettere mai in ridicolo ciò che è saggio e buono. Stravaganze e sciocchezze, capricci e assurdità mi divertono, lo ammetto, e ne rido ogni volta che posso. Ma queste cose, suppongo, sono proprio quelle da cui voi siete immune». Forse questo non è possibile per nessuno, ma nella vita ho sempre cercato di evitare quelle debolezze che spesso espongono al ridicolo anche una notevole intelligenza. «Come la vanità e l'orgoglio?» «Sì, la vanità è indubbiamente una debolezza, ma l'orgoglio l'orgoglio. Dove c'è una reale superiorità di intelletto, l'orgoglio sarà sempre sotto attento controllo». Elizabeth si girò per nascondere un sorriso. «Il vostro esame di Mr. Darcy è terminato, presumo», disse Miss Bingley. «E vi prego, qual è il risultato?» «Mi sono perfettamente convinta che Mr. Darcy non abbia difetti. Lo ammette lui stesso senza alcun dubbio». «No», disse Darcy. «Non ho mai preteso una cosa del genere. Ho diversi difetti, ma non riguardano, spero, l'intelletto. Non posso certo garantire per il mio carattere. Credo che sia ben poco accomodante, certamente troppo poco agli occhi del mondo. Non riesco a dimenticare le follie e i vizi degli altri quanto dovrei, né le offese fattemi. I miei sentimenti non si spostano a ogni tentativo di smuoverli. Il mio carattere potrebbe forse essere definito per maloso. La mia stima, una volta perduta, è perduta per sempre». «Ah, questo sì che è un vero e proprio difetto», esclamò Elizabeth. «Un rancore implacabile è una macchia in un carattere. Ma come difetto è scelto bene. Non posso davvero riderne. Nei miei confronti siete in salvo». «In ogni temperamento c'è, credo, una tendenza a un qualche particolare peccato, un'imperfezione naturale che nemmeno la migliore educazione può sconfiggere. E la vostra imperfezione è di testare tutti». «E la vostra», replicò lui con un sorriso, «è l'ostinazione nel fraintenderli». «Facciamo un po' di musica», esclamò Miss Bingley, stanca di una conversazione nella quale non aveva parte. «Luisa, non ti importerà se sveglio Mr. Hurst». La sorella non fece la minima obiezione. Fu aperto il pianoforte e Darcy, dopo qualche istante di riflessione, non ne fu dispiaciuto. Cominciava ad avvertire il pericolo di concedere troppa attenzione a Elisabeth. Capitolo dodicesimo. A seguito di un accordo tra le due sorelle, il mattino dopo Elisabeth scrisse alla madre per pregarla di mandare la carrozza nel corso della giornata. Ma Mrs. Bennet, che contava su una permanenza delle figlie a Netherfield fino al martedì successivo, ovvero il giorno in cui per Jane sarebbe terminata esattamente una settimana, non poteva rassegnarsi ad accoglierle con gioia prima di allora. La sua risposta, quindi, non fu favorevole, almeno non per i desideri di Elisabeth, che era impaziente di tornare a casa. Mrs. Bennet mandò a dire che non sarebbero stati in grado di disporre della carrozza prima di martedì, e nel poscritto era aggiunto che se Mr. Bingley e la sorella avessero insistito per farle restare più a lungo, lei avrebbe potuto tranquillamente fare a meno di loro. Tuttavia Elisabeth era fermamente decisa a non restare più a lungo, né si aspettava una richiesta in tal senso, e al contrario, nel timore di essere considerate delle intruse per essersi trattenute troppo senza necessità, insistette con Jane affinché chiedesse immediatamente a Mr. Bingley di poter usare la sua carrozza. E alla fine fu stabilito che avrebbero parlato della loro intenzione di lasciare Netherfield quello stesso giorno, e avrebbero fatto quella richiesta. La notizia suscitò molte dichiarazioni di rincrescimento. Quello che fu detto sul desiderio di farle restare almeno fino al giorno seguente ebbe effetto su Jane, e la partenza fu differita all'indomani. Miss Bingley allora si pentì di aver proposto quel rinvio, poiché la gelosia e l'antipatia verso una sorella superava di molto l'affetto nei confronti dell'altra. Il padrone di casa apprese con genuino dispiacere che se ne sarebbero andate così presto, e cercò ripetutamente di convincere Miss Bennet che per lei non sarebbe stato consigliabile, che non si era ristabilita abbastanza. Ma Jane sapeva essere inflessibile quando si sentiva nel giusto. Per Mr. Darcy la notizia fu la benvenuta. Elizabeth era rimasta anche troppo a Netherfield, era attratto da lei più di quanto desiderasse, e Miss Bingley era scortese con lei e più fastidiosa del solito con lui. Decise saggiamente di stare particolarmente attento a non farsi scappare in quel momento, nessun segno di ammirazione, nulla che potesse far sorgere in lei la speranza di poterne influenzare la felicità. Era consapevole che se mai fosse sorta un'idea del genere, il suo comportamento durante l'ultimo giorno avrebbe pesato concretamente nel confermarla o mandarla in frantumi. Fermo nel suo proposito, le rivolse a malapena dieci parole nel corso di tutto il sabato, e sebbene una volta si fossero ritrovati da soli per mezz'ora, si dedicò scrupolosamente al suo libro e nulla degnò di un'occhiata. La domenica, dopo la funzione mattutina, ebbe luogo la separazione, così gradevole per quasi tutti. La cortesia di Miss Bingley verso Elizabeth crebbe rapidamente verso la fine, così come il suo affetto per Jane. E quando si separarono, dopo aver assicurato a quest'ultima il piacere che avrebbe sempre provato nel vederla a Longbourn o a Netherfield e averla abbracciata con molta tenerezza, strinse perfino la mano all'altra. Elizabeth prese congedo da tutti di ottimo umore. La madre non le accolse con molto calore. Mrs. Bennet si meravigliò del loro arrivo, ritenne sbagliatissimo aver dato un tale disturbo e si dichiarò certa che Jane avrebbe di nuovo preso un raffreddore. Ma il padre, sebbene molto laconico nelle sue espressioni di piacere, era davvero lieto di rivederle. Si era reso conto della loro importanza nell'ambito familiare. La conversazione serale, quando erano tutti riuniti, aveva perso molta della sua vivacità e quasi tutto il buonsenso, a causa dell'assenza di Jane ed Elizabeth. Trovarono Mary, come al solito, immersa nello studio del basso continuo e della natura umana, ed ebbero qualche nuovo brano scelto da ammirare e qualche nuova osservazione di trita moralità da ascoltare. Catherine e Lydia avevano in serbo per loro informazioni di natura diversa. Molto era stato fatto e molto era stato detto nel reggimento dal mercoledì precedente. Diversi ufficiali avevano di recente pranzato con lo zio, un soldato era stato fustigato e si sussurrava come cosa certa che il colonnello Forster stesse per sposarsi. Capitolo tredicesimo Spero, mia cara, disse Mr. Bennet alla moglie il mattino dopo, mentre erano a colazione, che tu abbia ordinato un buon pranzo per oggi, perché ho ragione di aspettarmi un'aggiunta al nostro gruppo familiare. Che intendi dire, mio caro? Che io sappia non deve venire nessuno, ne sono certa, a meno che Charlotte Lucas non capiti da queste parti e spero che i miei pranzi siano sufficientemente buoni per lei. Non credo che ne veda spesso di simili a casa sua. La persona di cui sto parlando è un gentiluomo e un forestiero. A Mrs. Bennet brillarono gli occhi. Un gentiluomo e un forestiero? Ma è Mr. Bingley, ne sono certa. Ma come, Jane? Non ti sei lasciata sfuggire nemmeno una parola? Che furbacchiona! Beh, sono certa che sarò estremamente lieta di vedere Mr. Bingley. Ma, buon Dio, che sfortuna! Oggi non c'è nemmeno un po' di pesce! Lidia, tesoro mio, suona il campanello! Devo parlare subito con il... Non si tratta di Mr. Bingley, disse il marito. È una persona che non ho mai visto in vita mia. Queste parole suscitarono lo stupore generale e lui ebbe il piacere di essere interrogato con impazienza dalla moglie e dalle cinque figlie simultaneamente. Dopo essersi divertito per un poco la loro curiosità, si spiegò. Circa un mese fa ho ricevuto questa lettera e all'incirca una quindicina di giorni fa ho risposto, poiché l'ho ritenuta una questione piuttosto delicata per la quale non c'era tempo da perdere. È di mio cugino, Mr. Collins, che, quando sarò morto, potrà cacciarvi di casa non appena lo vorrà. Oh, mio caro! Esclamò Mrs. Bennet. Non sopporto di sentirlo nominare! Ti prego di non parlare di quell'uomo odioso! Credo che sia la cosa più penosa al mondo che una proprietà sia vincolata ad altri anziché alle proprie figlie e di sicuro se fossi stata al tuo posto avrai provato da tempo a fare qualcosa al riguardo. Jane ed Elizabeth tentarono di spiegarle la natura di un vincolo. Avevano già tentato spesso di farlo, ma era un argomento per il quale Mrs. Bennet non voleva sentire ragioni e così continuò a scagliarsi con forza contro la crudeltà di sottrarre una proprietà a una famiglia con cinque figlie a favore di un uomo del quale non importava a nessuno. È sicuramente una faccenda estremamente ingiusta, disse Mr. Bennet, e nulla può assolvere Mr. Collins dalla colpa di essere l'erede di Longbourn, ma se starai a sentire quello che dice nella lettera, forse la sua maniera di esprimersi ti ammorbidirà un pochino. No, sicuramente no, e credo che sia una vera e propria sfacciataggine da parte sua anche il solo scriverti e una vera e propria ipocrisia. Detesto simili falsi amici. Perché mai non continuare a litigare con te come faceva il padre prima di lui? Beh, in verità sembra che abbia avuto in testa un qualche scrupolo filiale, come sentirai. Hansford, presso Westerkamp, Kent, 15 ottobre. Egregio signore, le divergenze esistenti tra voi e il mio defunto e onorato padre mi hanno sempre molto turbato, e da quando ho avuto la sventura di perderlo ho spesso desiderato di ricomporre il dissidio. Per diverso tempo, tuttavia, sono stato trattenuto dai miei dubbi, dal timore che da parte mia potesse sembrare irrispettoso per la sua memoria essere in rapporti amichevoli con una persona con la quale lui aveva preferito essere in disaccordo. Ecco, Mrs. Bennet. Il mio animo, tuttavia, ha ormai deciso al riguardo, poiché avendo preso gli ordini a Pasqua, sono stato così fortunato da essere onorato dal favore dell'illustrissima Lady Catherine de Borg, vedova di Sir Lewis de Borg, la cui munificenza e generosità hanno preferito me per la preziosa carica di rettore di questa parrocchia, dove farò ogni sforzo in mio potere per dimostrare con umiltà il mio grato rispetto verso sua signoria e per essere sempre pronto a celebrare i riti e le cerimonie prescritte dalla Chiesa d'Inghilterra. Come ecclesiastico, inoltre, considero mio dovere promuovere e instaurare la benedizione della pace in tutte le famiglie all'interno della mia sfera d'influenza e, in questo ambito, mi illusingo di credere che la mia attuale professione di buona volontà sia altamente incomiabile e che la circostanza di essere il prossimo erede della proprietà di Longburn possa essere da parte vostra superata senza indurvi a rifiutare il ramoscello d'olivo che vi offro. Non posso essere altro che turbato per ritrovarmi a essere fonte di un danno per le vostre amabili figlie e vi prego di permettermi di farvi le mie scuse per questo, così come di assicurarvi di essere pronto a farne ogni possibile ammenda nei loro confronti, ma di questo parleremo più avanti. Qualora non aveste nulla in contrario a ricevermi a casa vostra, mi propongo di concedermi la gioia di far visita a voi e alla vostra famiglia per lunedì 18 novembre alle 4 e ho intenzione di abusare della vostra ospitalità fino al sabato della settimana successiva, cosa che posso fare senza alcun inconveniente, dato che Lady Catherine è ben lungi da sollevare obiezioni a una mia assenza occasionale per una domenica, a condizione che un altro pastore si impegna a espletare i doveri di quella giornata. Resto egregio signore, con i rispettosi ossequi alla vostra signora e alle vostre figlie, il vostro devoto amico, William Collins. Alle 4 dobbiamo quindi aspettarci questo gentiluomo a portatore di pace, disse Mr. Bennet ripiegando la lettera. Parola mia, sembra un giovanotto molto coscienzioso e ben educato, e non ho dubbi che si rivelerà una conoscenza preziosa, specialmente se Lady Catherine sarà così indulgente da permettergli di tornare di nuovo a trovarci. C'è comunque una certa dose di buonsenso in quello che dice riguardo alle nostre ragazze, e se è disposto a fare ammenda nei loro confronti, non sarò certo io a scoraggiarlo. «Sebbene sia difficile», disse Jane, «immaginare in che modo intenda quel risarcimento che pensa ci sia dovuto, il desiderio va certamente a suo onore». Elizabeth era rimasta colpita soprattutto dalla straordinaria deferenza per Lady Catherine e dalla benevole intenzione di battezzare, sposare e seppellire i suoi parrocchiani ogni qual volta fosse necessario. «Deve essere un tipo strano, credo», disse. «Non riesco a capirlo. C'è qualcosa di molto pomposo nel suo stile. Che cosa vorrà dire, scusandosi per essere il titolare del vincolo? Non si può certo supporre che voglia rinunciarvi, anche se potesse. Lo credete un uomo intelligente, signore?» «No, mia cara, non credo. Nutro grandi speranze di trovarlo esattamente l'opposto. Nella sua lettera c'è un miscuglio di servilismo e presunzione che promette bene. Non vedo l'ora di conoscerlo». «Dal punto di vista dello stile», disse Mary, «la lettera non sembra scritta male. Forse l'idea del ramoscello d'olivo non è molto originale, ma credo sia ben espressa». In Catherine e Lydia né la lettera né l'estensore suscitavano il sia pur minimo interesse. Era praticamente impossibile che il cugino arrivasse con un mantello scarlatto ed erano passate ormai diverse settimane da quando avevano tratto un qualche piacere da un uomo vestito con un colore diverso. Quanto alla madre, la lettera di Mr. Collins aveva fatto svanire molto del suo rancore ed era propensa a conoscerlo con un grado di padronanza di sé che stupì il marito e le figlie. Mr. Collins arrivò puntuale all'ora fissata e fu ricevuto con grande cortesia dall'intera famiglia. Mr. Bennet, a dire il vero, parlò ben poco. Ma le signore erano abbastanza propense a chiacchierare e Mr. Collins non sembrava né bisognoso di incoraggiamento né incline a starsene in silenzio. Era un giovanotto di venticinque anni, alto e di corporatura pesante. Aveva un'aria grave e solenne, con maniere molto formali. Non appena seduto, si complimentò con Mrs. Bennet per avere delle figlie così graziose. Disse che aveva molto sentito parlare della loro bellezza, ma che in questo caso la fama era inferiore alla realtà, e aggiunse di non avere dubbi sul fatto di vedere tutte loro nei tempi dovuti felicemente sposate. Questa galanteria non fu molto apprezzata da qualcuna delle ascoltatrici, ma Mrs. Bennet, che non trovava mai da ridire i suoi complimenti, rispose con molta prontezza. «Siete davvero molto gentile, signore, e mi auguro con tutto il cuore che possa essere così, perché altrimenti si troverebbero quasi nell'indigenza. Le cose sono messe in modo così strano». «Forse alludete al vincolo di questa proprietà?» «Ah, signore, è proprio così. È una faccenda dolorosa per le mie povere ragazze, dovete ammetterlo. Non che intenda dare la colpa a voi, perché in queste cose so che al mondo è tutto affidato al caso. Non si può mai sapere dove andrà a finire una proprietà una volta vincolata». «Sono perfettamente consapevole, signora, delle difficoltà delle mie belle cugine, e potrei dire molto sull'argomento, se non temessi di apparire sfacciato e precipitoso, ma posso assicurare le signorine di essere venuto preparato ad ammirarle. Al momento non voglio dire di più, ma forse quando ci saremo conosciuti meglio». Fu interrotto dall'annuncio del pranzo e le ragazze si scambiarono dei sorrisetti, ma non furono loro i soli oggetti di ammirazione da parte di Mr. Collins. L'ingresso, la sala da pranzo e tutto l'arredamento furono esaminati e lodati, e la sua ammirazione per ogni cosa avrebbe toccato il cuore di Mrs. Bennet se non ci fosse stata la mortificante ipotesi che guardasse a tutto come una sua futura proprietà. Anche per il pranzo venne il turno di essere altamente ammirato, e lui chiese di sapere a quale delle sue belle cugine fosse dovuta all'eccellenza della cucina. Ma qui fu messo in riga da Mrs. Bennet, che lo assicurò con una qualche asprezza, che erano perfettamente in grado di tenere una buona cuoca e che le sue figlie non avevano nulla a che vedere con la cucina. Lui chiese perdono per averla contrariata e lei, raddolcita, dichiarò di non sentirsi affatto offesa, ma lui continuò a scusarsi per circa un quarto d'ora. Capitolo quattordicesimo Durante il pranzo Mr. Bennet non disse quasi una parola, ma quando i domestici si furono ritirati pensò che fosse giunto il momento di fare conversazione con il suo ospite, e quindi iniziò con un argomento nel quale si aspettava che lui brillasse, osservando come avesse avuto molta fortuna con la sua patronessa. La premura di Lady Catherine per i suoi desideri e il riguardo per le sue comodità apparivano veramente notevoli. Mr. Bennet non avrebbe potuto scegliere meglio. Mr. Collins fu eloquente nei suoi elogi. L'argomento lo portava a essere più solenne del solito, e con un'aria di estrema importanza dichiarò che in vita sua non era mai stato testimone di un comportamento simile in una persona di rango, tanta affabilità, tanta condiscendenza da lui stesso sperimentata da parte di Lady Catherine. Si era graziosamente compiaciuta di approvare entrambi i sermoni che aveva già avuto l'onore di pronunciare in sua presenza. Lo aveva anche invitato due volte a Rosings, e solo il sabato precedente lo aveva mandato a chiamare in serata per completare il tavolo di quadriglia. Lady Catherine era considerata piena d'orgoglio da molte persone di sua conoscenza, ma lui non aveva mai visto altro che affabilità in lei. Si era sempre rivolta a lui come a qualsiasi altro gentiluomo. Non aveva sollevato la minima obiezione a che lui frequentasse la società dei dintorni, né che lasciasse occasionalmente la parrocchia per una settimana o due per far visita ai suoi parenti. Aveva persino avuto la condiscendenza di consigliargli e di sposarsi il prima possibile, a patto che scegliesse con giudizio, e una volta gli aveva fatto visita nella sua umile canonica, dove aveva completamente approvato tutte le modifiche che stava facendo e si era persino degnata di suggerirne qualcuna a lei stessa, come delle mensole nel ripostiglio al piano di sopra. «Oh, tutto davvero molto appropriato e cortese, certamente», disse Mrs. Bennet, «e credo proprio che sia una donna molto amabile. È un peccato che le gran signore non siano in genere come lei. Abita vicino a voi, signore». Il giardino in cui si trova la mia umile dimora è separato solo da un sentiero da Rosings Park, la residenza di sua signoria. «Non mi sembra che abbiate detto che è vedova, signore. Ha figli?» «Ha solo una figlia, l'erede di Rosings e di una proprietà molto estesa». «Ah!», disse Mrs. Bennet scuotendo la testa. «Allora hai messa meglio di tante ragazze? E che genere di signorina è? È bella?» «È una signorina veramente incantevole. La stessa Lady Catherine dice che quanto a vera bellezza, Miss de Bourgh è di gran lunga superiore alle più belle del suo sesso, poiché c'è quel certo non so che nei suoi lineamenti che denota una signorina di nobili natali. Sfortunatamente è di debole costituzione, il che le ha impedito di fare quei progressi in molti campi che altrimenti non avrebbe mancato di fare, come mi ha detto la signora che sovrintendeva la sua educazione e che ancora vive con loro. Ma è gentilissima e spesso si degna di passare per la mia umile dimora, col suo piccolo calesse e i suoi pony. È stata presentata a corte? Non ricordo il suo nome tra quelli delle altre signore. Sfortunatamente il suo cagionevole stato di salute le impedisce di stare in città e questo, come un giorno ho detto a Lady Catherine, ha privato la corte britannica del suo più fulgido ornamento. Sua signoria mi è parsa compiaciuta l'idea e potete immaginare come io sia felice di offrire in ogni occasione questi piccoli e delicati omaggi, sempre ben accetti alle signore. Più di una volta ho fatto osservare a Lady Catherine come la sua incantevole figlia sembri nata per essere una duchessa e che quell'altissimo rango, invece di darle lustro, l'avrebbe ricevuto da lei. È questo il genere di piccole cose che piacciono a sua signoria e sono quel genere di attenzioni che mi sento particolarmente tenuto a offrirle. Una considerazione molto appropriata, disse Mr. Bennet, ed è una fortuna per voi possedere il talento di adulare con delicatezza. Posso chiedervi se queste piacevoli attenzioni sorgono da un impulso del momento o se sono il risultato di una preparazione precedente? Derivano principalmente da ciò che succede al momento e sebbene talvolta mi diverta ideare e predisporre dei piccoli omaggi eleganti che possano essere adattati alle occasioni più frequenti, mi sforcio sempre di dar loro, per quanto possibile, un'aria naturale. Le aspettative di Mr. Bennet trovarono piena conferma. Il cugino era tanto ridicolo quanto aveva sperato e lo ascoltò con il massimo godimento, mantenendo allo stesso tempo un'assoluta impassibilità e salvo qualche occhiata di tanto in tanto a Elizabeth, il suo piacere non aveva bisogno di essere condiviso. All'ora del tè, comunque, la dose era stata sufficiente e Mr. Bennet fu lieto di condurre di nuovo il suo ospite in salotto e, una volta finito il tè, lieto di invitarlo a leggere a voce alta per le sue signore. Mr. Collins acconsentì prontamente e gli fu portato un libro, ma esaminandolo, poiché tutto faceva pensare che provenisse da una biblioteca circolante, ebbe un sussulto e, scusandosi, dichiarò di non leggere mai romanzi. Kitty lo squadrò e Lydia lanciò un'esclamazione. Gli furono portati altri libri e, dopo qualche riflessione, scelse i sermoni di Fordis. Lydia fece uno sbadiglio non appena lui ebbe aperto il volume e, prima che avesse finito, con monotona solennità di leggere tre pagine, lo interruppe con «Lo sapete, mamma, che lo zio Phillips parla di mandare via Richard e che se lo fa lo assumerà il colonnello Forster? Me lo ha detto sabato la zia! Domani andrò a Meriton per saperne di più e per chiedere quando Mr. Danny tornerà da Londra!» Le due sorelle maggiori intimarono a Lydia di tenere a freno la lingua, ma Mr. Collins, molto offeso, mise da parte il libro e disse «Ho spesso notato come le signorine siano poco interessate ai libri seri, sebbene siano stati scritti esclusivamente al loro beneficio. Mi meraviglia, lo confesso, poiché per loro non può esserci sicuramente nulla di così vantaggioso come l'istruzione, ma non voglio importunare più a lungo le mie giovani cugine». Poi si rivolse a Mr. Bennet e si offrì come suo avversario a Beckhammon. Mr. Bennet accettò la sfida, osservando che aveva agito con molta saggezza nel lasciare le ragazze ai loro sciocchi svaghi. Mrs. Bennet e le figlie si scusarono molto educatamente per l'interruzione di Lydia e promisero che non sarebbe più successo se avesse ripreso il libro. Ma Mr. Collins, dopo aver loro assicurato che non portava rancore alla giovane cugina e che non avrebbe mai considerato il suo comportamento come un affronto, si sedette a un altro tavolo con Mr. Bennet e si preparò per il Beckhammon. Capitolo quindicesimo. Mr. Collins non era un uomo intelligente e le deficienze naturali erano state ben poco alleviate dall'educazione o dai rapporti sociali, visto che aveva trascorso gran parte della sua vita sotto la guida di un padre illetterato e spilorcio. E sebbene avesse frequentato l'università, aveva seguito solo gli insegnamenti indispensabili, senza acquisire nessuna competenza utile. La soggezione in cui il padre l'aveva cresciuto gli aveva conferito inizialmente una grande umiltà di modi, che però era stata poi notevolmente controbilanciata dalla presunzione di una mente debole, vissuta in solitudine e da sentimenti conseguenti a una prematura e inaspettata prosperità. Per un caso fortunato era stato raccomandato a Lady Catherine de Bourgh quando si era reso vacante il beneficio di Hansford e il rispetto che egli provava per l'altezza del suo rango e la venerazione che aveva per lei come sua benefattrice, unita all'ottima opinione che aveva di se stesso, della sua autorità di ecclesiastico e dei suoi diritti di rettore, lo avevano trasformato in un misto di orgoglio e ossequiosità, di boria e umiltà. Avendo ora una bella casa e una rendita più che sufficiente, aveva intenzione di sposarsi e cercando una riconciliazione con la famiglia di Longburn aveva in mente una moglie, visto che intendeva sceglierne una tra le figlie, se le avesse trovate belle e simpatiche come generalmente si diceva. Era questo il suo piano per fare ammenda, per ripagarle di essere lui l'erede della proprietà del padre e lo riteneva un piano eccellente, assolutamente idoneo e conveniente e da parte sua estremamente generoso e disinteressato. Il progetto non subì modifiche una volta che le ebbe conosciute, l'adorabile viso di Miss Bennet confermava i suoi propositi ed era confacente alle sue più rigide convinzioni su ciò che fosse dovuto alla primogenitura, così per la prima sera fu lei la prescelta. Il mattino dopo, tuttavia, causò una variazione, poiché un teta-teta di un quarto d'ora con Mrs. Bennet prima di colazione, una conversazione partita dalla canonica che aveva condotto in modo naturale alla confessione della propria speranza di poter trovare a Longborn una padrona di casa per essa, produsse in lei, tra sorrisi compiaciuti e un generale incoraggiamento, un invito alla prudenza proprio verso quella Jane che lui aveva scelto. Riguardo alle figlie minori, non stava a lei dirlo, non poteva dare una risposta decisiva, ma non era a conoscenza di nessuna predilezione. Quanto alla figlia maggiore, aveva il dovere di dirlo. Si sentiva obbligata ad accennarlo, era probabile che molto presto si sarebbe fidanzata. Mr. Collins doveva solo scambiare Jane con Elizabeth e fu presto fatto. Fatto mentre Mrs. Bennet stava attizzando il fuoco. Elizabeth, che veniva subito dopo Jane per nascita e bellezza, le subentrò senza scosse. Mrs. Bennet fece tesoro dell'allusione, confidando che presto avrebbe avuto due figlie sposate. E l'uomo del quale non riusciva nemmeno a sentir parlare il giorno prima era ora nel pieno delle sue buone grazie. L'intenzione di Lydia di fare una passeggiata a Meriton non era stata dimenticata. Tutte le sorelle, eccetto Mary, acconsentirono ad andare con lei. E Mr. Collins le avrebbe accompagnate su richiesta di Mr. Bennet, che era molto ansioso di sbarazzarsi di lui e di avere la biblioteca tutta per sé. Poiché proprio lì Mr. Collins l'aveva seguito dopo la colazione, egli sarebbe restato teoricamente impegnato con uno dei più grandi in foglio della collezione, ma in realtà parlando a Mr. Bennet con pochissime pause, della casa e del giardino di Hansford. Cose del genere davano estremamente fastidio a Mr. Bennet. Nella sua biblioteca era sempre sicuro di stare tranquillo e a suo agio, e sebbene fosse disposto, come aveva detto a Elizabeth, a imbattersi in stupidità e presunzione in tutte le altre stanze della casa, lì era abituato a sentirsene al riparo. Fu molto solerte quindi nell'invitare cortesemente Mr. Collins a unirsi alle figlie nella passeggiata, e Mr. Collins, che in effetti era molto meglio come camminatore che come lettore, fu estremamente lieto di chiudere il grosso libro e andarsene. In pompose nullità da parte sua e in cortesi cenni di assenso delle cugine, passarono il tempo fino all'ingresso a Meryton. Da quel momento per lui non fu più possibile ottenere l'attenzione delle più giovani. I loro sguardi cominciarono immediatamente ad aggirarsi per le vie in cerca di ufficiali, e nulla di meno di un cappellino davvero molto elegante o di una mussolina appena messa in vetrina riusciva ad attirarle. Ma l'attenzione di tutte le signore fu presto catturata da un giovanotto, che non avevano mai visto prima, di aspetto molto distinto, a passeggio con un ufficiale dall'altro lato della strada. L'ufficiale era proprio quel Mr. Danny del cui ritorno da Londra Lydia era venuta a informarsi, e che fece un inchino mentre passavano. Tutte furono colpite dall'aspetto del forestiero, tutte si chiedevano chi fosse, e Kitty e Lydia, decise a fare il possibile per scoprirlo, attraversarono la strada col pretesto di avere bisogno di qualcosa nel negozio di fronte, ed ebbero la fortuna di essere appena giunte sul marciapiede quando i due gentiluomini, tornando indietro, si ritrovarono nel medesimo punto. Mr. Danny rivolse subito loro la parola e chiese il permesso di presentare il suo amico, Mr. Wickham, tornato con lui il giorno prima dalla città, che, era felice di dirlo, si era dichiarato disposto ad acquistare un brevetto da ufficiale nel loro reggimento. Era proprio quello che ci voleva, poiché al giovanotto mancava solo la divisa per completarne il fascino. L'aspetto era senz'altro a suo favore, aveva tutto quello che si può chiedere alla bellezza, un bel volto, una bella figura e modi molto piacevoli. Dopo essere stato presentato, rivelò subito la sua disinvoltura di conversatore, una disinvoltura allo stesso tempo perfettamente corretta e senza pretese. E tutta la compagnia era ancora intenta a chiacchierare molto gradevolmente quando sentirono un rumore di cavalli e videro avvicinarsi lungo la strada Darcy e Bingley in sella. Riconoscendo nel gruppo le signore, i due gentiluomini si diressero subito verso di loro e iniziarono i consueti convenevoli. Bingley era quello che parlava di più e Miss Bennet la principale destinataria delle sue parole. Disse che stava andando proprio a Longbourn per chiedere notizie di lei. Mr. Darcy lo confermò con un inchino e stava imponendosi di non fissare lo sguardo su Elizabeth quando fu raggelato dalla vista del forestiero ed Elizabeth, avendo visto per caso l'espressione di entrambi mentre si fissavano l'un l'altro, rimase davvero stupefatta dagli effetti di quell'incontro. Tutti e due cambiarono colore. Uno diventò bianco, l'altro rosso. Mr. Wickham, dopo qualche istante, si toccò il cappello, un saluto che Mr. Darcy si degnò a malapena di ricambiare. Che cosa poteva significare? Era impossibile immaginarlo. Era impossibile non avere il forte desiderio di saperlo. Un minuto dopo Mr. Bingley, senza dare l'impressione di aver visto ciò che era accaduto, prese congedo e continuò a cavalcare insieme all'amico. Mr. Danny e Mr. Wickham passeggiarono con le signorine fino alla porta di Mrs. Phillips e poi si congedarono con un inchino, nonostante le pressanti preghiere di entrare da parte di Miss Lydia e malgrado Mrs. Phillips si fosse affacciata alla finestra del salotto per appoggiare a voce alta quell'invito. Mrs. Phillips era sempre contenta di vedere le nipoti. Le due più grandi, poi, data la loro recente assenza, furono particolarmente benvenute e stava esprimendo con vivacità la sua sorpresa per il loro improvviso ritorno a casa, del quale, dato che non erano tornate con la loro carrozza, non avrebbe saputo nulla se non le fosse capitato di incontrare per strada il garzone di Mr. Jones, che le aveva detto che non avrebbe più mandato medicine a Netherfield perché le signorine Bennet se ne erano andate, quando la sua cortesia fu chiamata a rivolgersi a Mr. Collins dalla presentazione di quest'ultimo da parte di Jane. Lei lo accolse con la massima gentilezza, che lui ricambiò molto ampiamente, scusandosi per la sua intrusione senza averla mai conosciuta prima, per la quale, tuttavia, non poteva fare a meno di sperare che potesse essere giustificato dalla sua parentela con le signorine che lo avevano introdotto alla sua attenzione. Mrs. Phillips fu completamente sopraffatta da un tale eccesso di buona educazione, ma dovette presto mettere da parte le sue riflessioni su quel forestiero per le rumorose domande sull'altro, del quale, tuttavia, poteva solo dire alle nipoti quello che già sapevano, ovvero che Mr. Danny l'aveva portato con sé da Londra e che avrebbe preso un brevetto da tenente. Disse che era stata per un'ora osservarlo mentre passeggiava avanti e indietro e se Mr. Wickham fosse apparso, Kitty e Lydia avrebbero certamente continuato a fare lo stesso, ma sfortunatamente nessuno passò sotto le finestre, salvo qualcuno degli ufficiali che, a paragone con il forestiero, erano diventati persone stupide e antipatiche. Alcuni di loro avrebbero pranzato con i Phillips il giorno successivo e la zia promise di mandare lo zio a far visita a Wickham per invitare anche lui, se la famiglia di Longbourn fosse venuta nel pomeriggio. L'invito fu accettato e Mrs. Phillips annunciò che si sarebbero divertiti con una bella e rumorosa lotteria e poi ci sarebbe stata un po' di zuppa calda. La prospettiva di tali delizie era molto elettrizzante e si salutarono tutti di ottimo umore. Mr. Collins reiterò le sue scuse mentre usciva dalla stanza e gli fu assicurato con infaticabile cortesia come fossero completamente superflue. Tornando a casa, Elizabeth informò Jane su quello che aveva visto succedere tra i due gentiluomini, ma benché Jane fosse disposta a difendere ciascuno dei due o anche entrambi se fosse emerso che erano in torto, non fu in grado di spiegare un simile comportamento più della sorella. Al suo ritorno, Mr. Collins gratificò ampiamente Mrs. Bennet, tessendo le lodi dei modi e della cortesia di Mrs. Phillips. Si proclamò convinto che, salvo Lady Catherine e la figlia, non avesse mai visto una donna più elegante, poiché non solo l'aveva accolto con la massima gentilezza, ma lo aveva persino incluso esplicitamente nel suo invito per la serata successiva, nonostante fino a quel momento lui fosse stato un perfetto sconosciuto. Immaginava che qualcosa potesse essere attribuito alla sua parentela con loro, ma ciò nonostante non si era mai imbattuto in tanta premura in tutta la sua vita. Capitolo sedicesimo Visto che non fu mossa nessuna obiezione circa l'impegno delle ragazze con la zia e che gli scrupoli di Mr. Collins nel lasciare da soli Mr. e Mrs. Bennet per un'unica serata durante la sua visita furono rispinti con molta fermezza, la carrozza portò lui e le sue cinque cugine a Meryton a un'ora appropriata e le ragazze ebbero il piacere di sentire, non appena entrate in salotto, che Mr. Wickham aveva accettato l'invito dello zio ed era già in casa. Una volta ricevuta questa informazione ed essendosi tutti accomodati, Mr. Collins fu libero di guardarsi intorno e ammirare, e fu talmente colpito dalle dimensioni e dall'arredamento della stanza che affermò che avrebbe quasi potuto immaginare di essere nella saletta estiva della colazione a Rosings, un paragone che in un primo momento non sembrò molto gratificante, ma quando Mrs. Phillips apprese da lui che cosa fosse Rosings e chi ne era proprietario, quando ebbe ascoltato la descrizione di uno solo dei salotti di Lady Catherine e scoperto che solo il camino era costato 800 sterline, si rese conto di tutta la grandezza di quel complimento e non si sarebbe risentita nemmeno di un paragone con la stanza della governante. La descrizione di tutta la grandiosità di Lady Catherine e della sua magione, con occasionali digressioni in lode della sua umile dimora e delle migliorie in corso, lo tenne felicemente occupato fino a quando i signori non si unirono a loro. E Mrs. Phillips trovò un'ascoltatrice molto attenta, la cui opinione sulla sua importanza aumentava per quello che stava sentendo e che era decisa a riferire tutto al vicinato non appena avesse potuto. Alle ragazze, che non stavano certo a sentire il cugino e che non avevano nulla da fare se non desiderare uno strumento ed esaminare le mediocre imitazioni di porcellana cinese sul caminetto, fatte da loro, il periodo di attesa parve lunghissimo. Finalmente, comunque, si concluse. Apparvero i signori e quando Mr. Wickham entrò nella stanza, Elizabeth si rese conto che l'ammirazione provata al primo incontro e poi ripensando a lui non era minimamente irragionevole. Gli ufficiali erano in generale un gruppo molto rispettabile e distinto, e al ricevimento erano presenti i migliori. Ma Mr. Wickham era ben al di sopra di tutti loro nella figura, nei tratti, nel modo di fare e di muoversi, quanto loro erano superiori al compassato faccione dello zio Phillips, con le sue zaffate di porto, che li seguiva nella stanza. Mr. Wickham fu il fortunato a cui si rivolsero quasi tutti gli sguardi femminili ed Elizabeth fu la fortunata accanto alla quale lui si sedette alla fine. E il modo gradevole con cui lui iniziò immediatamente a conversare, anche se riguardava solo l'umidità della serata e la probabilità di una stagione piovosa, le fecero capire come gli argomenti più triti, noiosi e banali potessero essere resi interessanti dall'abilità di chi ne parla. Con rivali come Mr. Wickham e gli ufficiali a contendergli l'attenzione del bel sesso, Mr. Collins sembrò sprofondare nell'insignificanza. Per le signorine era sicuramente una nullità, ma aveva ancora, a intervalli, una gentile ascoltatrice in Mrs. Phillips, ed era, grazie alle sue attenzioni, abbondantemente fornito di caffè e di dolci. Una volta sistemati i tavoli da gioco, ebbe l'opportunità di ricambiarla, sedendosi per giocare a Whist. «Al momento ne so poco di questo gioco», disse. «Ma sarò lieto di migliorare, poiché nella mia posizione sociale». Mrs. Phillips gli fu molto grata per la cortesia, ma non aveva il tempo di stare a sentire le sue ragioni. Mr. Wickham non giocava a Whist, e fu accolto con molto piacere all'altro tavolo, tra Elizabeth e Lydia. Dapprima sembrava esserci il pericolo che fosse accaparrato interamente da Lydia, dato che era una parlatrice molto risoluta. Ma visto che era anche estremamente attratta dalla lotteria, si mostrò subito più interessata al gioco, più ansiosa di fare scommesse e di gridare a ogni vincita, che di prestare attenzione a qualcuno in particolare. Pur lasciandosi coinvolgere dal gioco quel tanto che bastava, Mr. Wickham fu perciò libero di chiacchierare con Elizabeth, e lei era dispostissima ad ascoltarlo, anche se avrebbe desiderato soprattutto ascoltare ciò che non sperava potesse essere detto, la storia della sua conoscenza con Mr. Darcy. Non osava nemmeno menzionare quel gentiluomo, la sua curiosità tuttavia venne appagata in modo inaspettato. Fu lo stesso Mr. Wickham a introdurre l'argomento. Si informò sulla distanza tra Netherfield e Meriton, e dopo aver ottenuto la risposta, chiese con fare esitante da quanto tempo Mr. Darcy fosse lì. «Da circa un mese», disse Elizabeth. E poi restì a lasciare cadere l'argomento, aggiunse. «È una persona con proprietà molto estese nel Derbyshire, da quanto ho capito». «Sì», rispose Mr. Wickham. «La sua tenuta lì è enorme. Diecimila sterline nette all'anno. Non avreste potuto incontrare una persona più adatta di me a darvi informazioni certe in proposito, poiché ho avuto rapporti molto stretti con la sua famiglia fin dall'infanzia». Elizabeth non poté fare a meno di mostrarsi sorpresa. «Potete bene essere sorpresa, Miss Bennet, da un'affermazione del genere dopo aver visto, come probabilmente è stato, la freddezza del nostro incontro di ieri. Conoscete bene, Mr. Darcy». «Quel tanto che mi basta», esclamò Elizabeth con molto calore. «Ho passato quattro giorni nella stessa casa insieme a lui e lo ritengo molto antipatico». «Non ho nessun diritto di esprimere la mia opinione», disse Wickham, «sul suo essere simpatico o meno. Non sono la persona adatta per farlo. Lo conosco da troppo tempo e troppo bene per essere un buon giudice. Sarebbe impossibile per me essere imparziale, ma credo che la vostra opinione su di lui stupirebbe quasi tutti e forse non la esprimereste in modo così deciso da nessun'altra parte. Qui siete in famiglia». «A parola mia, non sto dicendo qui quello che non direi in qualunque altra casa nei dintorni, salvo Netherfield. Non è affatto popolare nell'Earth for sure. Sono tutti disgustati dal suo orgoglio. Non troverete nessuno che ne parli in modo più favorevole». «Non posso certo fingere di essere dispiaciuto», disse Wickham dopo una breve pausa, «del fatto che lui o chiunque altro sia giudicato come merita. Ma con lui credo che non accada spesso. Il mondo è accecato dalla sua ricchezza e dalla sua importanza, o intimorito dai suoi modi alteri e perentori, e lo vede solo come lui vuole essere visto». «Io lo giudicherei, per quel poco che lo conosco, un uomo con un pessimo carattere». Wickham si limitò a scuotere la testa. «Mi domando», disse lui non appena ebbe di nuovo l'opportunità di parlare, «è probabile che si fermi ancora a lungo in questa zona». «Non ne ho la minima idea, ma quando ero a Netherfield non ho sentito dire nulla sulla sua partenza. Spero che i vostri progetti non saranno influenzati dalla sua presenza da queste parti». «Oh no, non spetta a me andare via a causa di Mr. Darcy. Se vuole evitare di vedermi, deve essere lui ad andarsene. Non siamo i rapporti amichevoli e mi è sempre penoso incontrarlo, ma non ho nessun motivo per evitarlo se non ciò che potrei affermare di fronte al mondo intero. La consapevolezza di aver subito un trattamento crudele e un assai penoso rammarico per il suo «essere ciò che è». Il padre, Miss Bennet, il defunto Mr. Darcy, era uno degli uomini migliori mai esistiti e l'amico più sincero che io abbia mai avuto. E non potrò mai ritrovarmi in compagnia di Mr. Darcy senza sentire nel profondo dell'anima il tormento di mille teneri ricordi. Il suo comportamento verso di me è stato scandaloso, ma credo sinceramente che potrei perdonargli tutto, davvero tutto, salvo aver tradito le speranze e infangato la memoria del padre. L'interesse di Elizabeth cresceva e ascoltava con molta partecipazione, ma la delicatezza dell'argomento le impedì ulteriori domande. Mr. Wickham cominciò a parlare di cose più generiche, Meriton, il vicinato, l'ambiente sociale, mostrandosi entusiasta di tutto ciò che aveva visto, esprimendosi in particolare sull'ambiente sociale, con garbata ed evidente galanteria. È stata principalmente la prospettiva di conoscenze stabili, di buone conoscenze, aggiunse, che mi ha indotto a entrare nel reggimento. Sapevo che era molto rispettabile e piacevole. E il mio amico Danny mi ha ulteriormente tentato, con la sua descrizione della quartieramento attuale e delle tante premure ed eccellenti conoscenze fatte a Meriton. La vita sociale, lo confesso, mi è necessaria. Ho subito una delusione e il mio spirito non sopporta la solitudine. Ho bisogno di impegni e di vita sociale. La vita militare non è ciò a cui ero destinato, ma le circostanze l'hanno resa vantaggiosa. La chiesa doveva diventare la mia professione. Ero stato cresciuto per la chiesa e a quest'ora avrei dovuto essere in possesso di un ottimo beneficio ecclesiastico, se così avesse voluto il gentiluomo di cui stiamo parlando. Davvero? Sì, il defunto Mr. Darcy mi aveva lasciato in eredità il miglior beneficio in suo possesso. Era il mio padrino e mi era estremamente affezionato. Non ho parole per rendere giustizia alla sua bontà. Aveva intenzione di provvedere ampiamente a me e pensava di averlo fatto, ma quando il beneficio si rese disponibile fu dato a un altro. Giusto cielo! esclamò Elizabeth. Ma come è potuto succedere? Come è stato possibile ignorare la sua volontà? Perché non avete seguito le vie legali? Era una specie di piccola irregolarità formale, nei termini dell'ascito, che non mi lasciava speranze di fronte alla legge. Un uomo d'onore non avrebbe avuto dubbi su quali fossero le intenzioni, ma Mr. Darcy preferì averli, o considerarle come una semplice raccomandazione condizionata, asserendo anche che avevo perso ogni diritto a causa della mia stravaganza, della mia leggerezza, per farla breve di tutto e di niente. La cosa certa è che il beneficio si rese vacante due anni fa, esattamente nel momento in cui avevo l'età per averlo, e che fu dato a un altro. E non meno certo è che non posso rimproverarmi concretamente di aver fatto nulla per meritarmi di perderlo. Ho un carattere focoso, avventato, e forse posso talvolta aver espresso con troppa libertà la mia opinione su di lui e a lui. Non ricordo nulla di peggio. Ma il fatto è che siamo persone molto diverse, e che lui mi odia. Ma è terribile. Merita di essere svergognato pubblicamente. Una volta o l'altra lo sarà, ma non da me. Finché non sarò capace di dimenticare il padre, non potrò mai sfidare o smascherare lui. Elisabeth gli rese onore per sentimenti del genere, e gli sembrò più bello che mai mentre li esprimeva. Ma, disse dopo una breve pausa, quale può essere stato il motivo? Che cosa può averlo indotto a comportarsi in modo così crudele? Una profonda risoluta antipatia verso di me. Un'antipatia che non posso che attribuire in qualche misura alla gelosia. Se il defunto Mr. Darcy mi avesse amato di meno, il figlio mi avrebbe sopportato di più. Ma l'insolito affetto del padre verso di me credo lo abbia irritato sin dall'infanzia. Non aveva un carattere pronto a sopportare quel tipo di competizione in cui ci trovavamo, quel tipo di preferenza che spesso mi era accordata. Non ritenevo Mr. Darcy così malvagio. Anche se non mi è mai piaciuto, non pensavo così male di lui. Avevo immaginato che disprezzassi i suoi simili in generale, ma non sospettavo che si abbassassi a una vendetta così meschina, a un'ingiustizia, a una mancanza di umanità come questa. Dopo qualche minuto di riflessione comunque proseguì. Ricordo però come un giorno a Netherfield si sia vantato dell'implacabilità del suo risentimento, di un carattere che non perdona. Deve avere un'indole terribile. «Non sono affidabile su questo argomento», replicò Wickham. «Non posso essere imparziale nei suoi confronti». Elizabeth si immerse di nuovo nei propri pensieri e dopo un po' esclamò «Trattare in questa maniera il figlioccio, l'amico, il preferito del padre!» avrebbe potuto aggiungere. «Un giovanotto come voi, poi, che solo a guardarlo si capisce quanto sia amabile», ma si accontentò con «Ehi qualcuno, poi, che è stato probabilmente suo compagno fin dall'infanzia, legato, come credo abbiate detto, in modo così intimo». «Siamo nati nella stessa parrocchia, dentro lo stesso parco. Abbiamo passato insieme gran parte della nostra gioventù, insieme nella stessa casa, condividendo gli stessi giochi, entrambi oggetto delle stesse cure paterne. Mio padre aveva intrapreso la professione che vostro zio Phillips esercita con tanto onore, ma rinunciò a tutto per rendersi utile al defunto Mr. Darcy e dedicare tutto il suo tempo a occuparsi della proprietà di Pemberley. Era stimato moltissimo da Mr. Darcy, l'amico più intimo, il più fidato. Spesso Mr. Darcy riconosceva di dovere moltissimo alla solerte supervisione di mio padre e quando, immediatamente prima della morte di mio padre, Mr. Darcy gli fece spontaneamente la promessa di provvedere a me, mi ero convinto che si sentisse tanto in debito di gratitudine con lui quanto affezionato a me. «Com'è strano!» esclamò Elizabeth. «Com'è disgustoso! Mi meraviglio di come lo stesso orgoglio di Mr. Darcy non l'abbia condotto a essere giusto con voi. Se non per un motivo migliore, almeno perché era troppo orgoglioso per essere disonesto, perché posso chiamarla solo disonestà!» «Cioè di che meravigliarsi!» rispose Wickham. «Poiché quasi tutte le sue azioni sono riconducibili all'orgoglio, e l'orgoglio è stato spesso il suo miglior amico. Lo ha avvicinato di più alla virtù di qualsiasi altro sentimento. Ma nessuno di noi è coerente, e nel suo comportamento verso di me hanno agito impulsi più forti persino dell'orgoglio. Può mai un orgoglio così abominevole avergli fatto fare del bene?» «Sì! Lo ha spesso condotto a essere munifico e generoso, a elargire il suo denaro con liberalità, a mostrarsi ospitale, ad aiutare i suoi affittuari e a soccorrere i poveri. L'orgoglio familiare e l'orgoglio filiale, perché è molto orgoglioso di suo padre, hanno reso possibili queste cose. Non apparire come lui che disonora la famiglia, non venire meno a qualità che rendono popolari o far scadere l'influenza della famiglia di Pemberley, sono motivazioni potenti. Ha anche l'orgoglio fraterno, che unito a una sorta di affetto fraterno lo rende un tutore molto gentile e attento della sorella, e lo sentirete elogiare come il più premuroso e il migliore dei fratelli.» «Che genere di ragazza è Miss Darcy?» Lui scosse la testa. «Vorrei poterla definire amabile. Per me è penoso parlare male di un Darcy. Ma lei è troppo simile al fratello, molto, molto orgogliosa. La bambina era affettuosa e simpatica ed estremamente attaccata a me, e io dedicavo ore e ore a farla divertire. Ma ormai non è più niente per me. È una ragazza attraente, di 15 o 16 anni, e so che è molto istruita. Dalla morte del padre la sua casa è stata a Londra, dove una signora vive con lei e sovrintende alla sua educazione. Dopo molti silenzi e molti tentativi di altri argomenti, Elisabeth non poteva fare a meno di riprendere una volta ancora il primo, dicendo «Sono stupita dalla sua intimità con Mr. Bingley. Come può Mr. Bingley, che sembra la personificazione della bontà ed è, lo credo davvero, sinceramente amabile, essere amico di un uomo simile? Come possono andare d'accordo? Conoscete Mr. Bingley?» «Per niente. È un uomo con un carattere dolce, amabile, incantevole. Non può sapere chi è Mr. Darcy». «Probabilmente no. A Mr. Darcy, se vuole, può essere piacevole. Non gli mancano le qualità. Può essere un compagno socievole, se pensa che ne valga la pena. Tra coloro che gli sono pari in importanza, è un uomo molto diverso da quello che è con i meno fortunati. L'orgoglio non l'abbandona mai, ma con i ricchi si dimostra aperto, giusto, sincero, ragionevole, onesto e forse anche simpatico, concedendo qualcosa alla ricchezza e all'apparenza». Poco dopo il tavolo di Whist si sciolse. I giocatori si riunirono intorno a un altro tavolo e Mr. Collins prese posto tra sua cugina Elizabeth e Mrs. Phillips. Quest'ultima gli fece le usuali domande sulla sua fortuna al gioco. Non era stata molta. Aveva perduto sempre. Ma quando Mrs. Phillips cominciò a esprimere il suo rincrescimento, lui le assicurò con suprema gravità che la cosa non aveva la minima importanza, che lui considerava il denaro un'inezia e la pregava di non sentirsi affatto turbata. «So benissimo, signora», disse, «che quando una persona si siede a un tavolo da gioco deve essere consapevole di affidarsi al caso, e per fortuna non sono in condizioni tali da ritenere importanti cinque scellini. Senza dubbio ce ne sono molti che non potrebbero dire lo stesso, ma, grazie a Lady Catherine de Bourgh, sono ben lungi dal dovermi preoccupare di queste piccolezze». Queste parole attirarono l'attenzione di Mr. Wickham e, dopo aver osservato Mr. Collins per qualche istante, chiese a bassavoce a Elizabeth se il suo parente conoscesse bene la famiglia de Bourgh. «Lady Catherine de Bourgh», rispose lei, «gli ha concesso molto di recente e un beneficio. Non so in che modo Mr. Collins sia stato introdotto alla sua attenzione, ma di certo non la conosce da molto». «Saprete certamente che Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy erano sorelle. Di conseguenza, lei è la zia dell'attuale Mr. Darcy». «Oh no, davvero, non lo sapevo. Non sapevo nulla delle parentele di Lady Catherine. Non ne avevo mai sentito parlare fino all'altro ieri». «La figlia, Miss de Bourgh, avrà una vasta fortuna. E si dice che lei e il cugino uniranno le due proprietà». Questa informazione fece sorridere Elizabeth, pensando alla povera Miss Bingley. Sarebbero state di certo vane tutte le sue attenzioni, così come vani e inutili l'affetto per la sorella e le lodi che faceva lui, se era già destinato a un'altra. «Mr. Collins», disse lei, «parla con grandissima stima di Lady Catherine e della figlia. Ma da alcuni particolari che ha raccontato di sua signoria, sospetto che la sua gratitudine lo porti fuori strada e che, nonostante sia la sua benefattrice, sia una donna arrogante e presuntuosa». «Credo che sia abbondantemente fornita di entrambe le qualità», rispose Wickham. «Non la vedo da molti anni, ma ricordo benissimo che non mi è mai piaciuta e che i suoi modi erano dittatoriali e insolenti. Ha la reputazione di essere notevolmente saggia e intelligente, ma io credo invece che parte delle sue qualità derivino dal rango e dalla ricchezza, parte dai suoi modi autoritari e il resto dall'orgoglio del nipote, che ritiene che chiunque gli sia imparentato debba avere un'intelligenza di primordine». Elizabeth ammise che aveva fornito un resoconto molto credibile e continuarono a chiacchierare con reciproca soddisfazione finché la cena non mise fine alle carte e diede modo al resto delle signore di condividere le attenzioni di Wickham. Non c'era modo di conversare in mezzo al chiasso della cena di Mrs. Phillips, ma i suoi modi lo raccomandarono a tutti. Qualunque cosa dicesse era detta bene e qualunque cosa facesse era fatta con eleganza. Elizabeth se ne andò con la testa piena di lui. Per tutto il viaggio di ritorno non riuscì a pensare ad altro che a Mr. Wickham e a quello che le aveva raccontato. Ma non ebbe nemmeno il tempo di menzionarne il nome poiché né Lydia né Mr. Collins stettero un attimo in silenzio. Lydia parlò senza sosta della lotteria, delle fish che aveva perso e delle fish che aveva vinto, e Mr. Collins, tra la descrizione della cortesia di Mr. e Mrs. Phillips, le affermazioni circa la sua non curanza per le perdite a Wist, l'elenco di tutte le portate della cena e i suoi timori di far stare troppo strette le cugine, aveva più da dire di quanto riuscì a fare prima che la carrozza si fermasse a Longburn House. Capitolo diciassettesimo. Il giorno dopo Elizabeth raccontò a Jane quello che si erano detti lei e Mr. Wickham. Jane ascoltò stupita e turbata. Non riusciva a credere che Mr. Darcy potesse essere così indegno della stima di Mr. Bingley. Eppure non era nella sua natura mettere in questione la sincerità di un giovanotto dall'aspetto tanto amabile come Mr. Wickham. La possibilità che fosse stato davvero vittima di una tale crudeltà bastava a colpire tutti i suoi sentimenti più teneri. E quindi non c'era nulla da fare se non pensar bene di tutti e due, difendere la condotta di entrambi e attribuire a un caso o a un malinteso tutto ciò che non poteva essere spiegato altrimenti. Credo proprio che tutti e due, disse, siano stati ingannati in qualche modo che non ci è possibile immaginare. Forse delle persone interessate li hanno messi in cattiva luce l'uno con l'altro. In breve, è impossibile per noi ipotizzare le cause o le circostanze che possano averli allontanati, senza una colpa reale da parte di nessuno dei due. Verissimo, certo. E ora, mia cara Jane, che cosa hai da dire nei riguardi delle persone interessate che sono state probabilmente coinvolte nella faccenda? Devi assolvere anche loro, altrimenti saremmo costretti a pensare male di qualcuno. Ridi di me quanto vuoi, ma non riuscirai a farmi cambiare opinione? Mia carissima Lizzie, devi considerare in che pessima luce viene messo misterdarsi nel trattare in questo modo il prediletto del padre, una persona alla quale il padre aveva promesso di provvedere. È impossibile. Nessuno che abbia una normale umanità, nessuno che abbia a cuore la propria reputazione, sarebbe capace di farlo. Possono i suoi amici più cari ingannarsi così nei suoi confronti? Oh no. Mi riesce molto più facile credere che Mr. Bingley sia stato ingannato, piuttosto che Mr. Wickham si sia inventato una storia come quella che mi ha raccontato ieri sera. Nomi, fatti, tutto senza cerimonie. Se non è così, che sia darsi a contraddirlo. E poi la verità gli si leggeva negli occhi. È davvero difficile. È penoso. Non si sa che cosa pensare. Perdonami, ma si sa benissimo che cosa pensare. Ma Jane poteva essere certa solo di una cosa, che Mr. Bingley, se fosse stato ingannato, ne avrebbe molto sofferto quando la faccenda fosse diventata di dominio pubblico. Le due signorine furono richiamate dal boschetto, dove si era svolta questa conversazione, dall'arrivo di alcune delle persone delle quali stavano parlando. Mr. Bingley e le sorelle erano venuti a consegnare di persona l'invito per il tanto atteso ballo a Netherfield, fissato per il martedì successivo. Le due signore erano lietissime di rivedere la loro cara amica. Sembrava loro un secolo da quando erano state insieme e le chiesero più volte che cosa avesse fatto dal momento della loro separazione. Al resto della famiglia dedicarono ben poca attenzione. Evitarono Mrs. Bennet il più possibile, non parlarono molto con Elizabeth e per niente con tutti gli altri. Furono presto pronti ad andarsene, alzandosi dalla sedia con una rapidità che colse di sorpresa il fratello e uscendo di fretta come se fossero ansiose di sfuggire alle cortesie di Mrs. Bennet. La prospettiva del ballo di Netherfield era estremamente gradita a tutte le donne della famiglia. Mrs. Bennet decise di considerarlo un omaggio alla figlia maggiore e fu particolarmente lusingata di aver ricevuto l'invito da Mr. Bingley in persona anziché con un cerimonioso biglietto. Jane si immaginava una bellissima serata in compagnia delle sue due amiche e al centro delle attenzioni di Mr. Bingley ed Elizabeth si riprometteva con piacere di ballare a lungo con Mr. Wickham e di vedere tutto confermato dallo sguardo e dal modo di fare di Mr. Darcy. La felicità pregustata da Catherine e Lydia era meno legata a eventi particolari o a singole persone poiché sebbene entrambe come Elizabeth avessero intenzione di ballare per metà della serata con Mr. Wickham egli non era certo l'unico cavaliere che potesse appagarle e poi un ballo era sempre un ballo. E persino Mary assicurò alla sua famiglia che non era affatto restia a partecipare. Se posso avere le mattinate per me disse mi basta. Credo che non sia un sacrificio unirsi di tanto in tanto a intrattenimenti serali. È la vita sociale a esigerlo da tutti noi e io mi ritengo tra coloro che considerano desiderabili per tutti le pause di svago e divertimento. In questa occasione l'umore di Elizabeth era così eccitato che sebbene non rivolgesse spesso la parola a Mr. Collins senza necessità non potei fare a meno di chiedergli se avesse intenzione di accettare l'invito di Mr. Bingley e se fosse così se non considerasse inappropriato unirsi a una serata dedicata al divertimento ma rimase piuttosto sorpresa nello scoprire come non gli fosse venuto in mente il ben che minimo scrupolo e che era ben lungi dal temere un rimprovero dell'arcivescovo o di Lady Catherine de Bourgh azzardandosi ad andare a un ballo. Vi assicuro di non essere affatto dell'opinione disse che un ballo di questo genere dato da un giovanotto di ottima reputazione per delle persone rispettabili possa avere una qualche tendenza maligna e sono talmente lontano dall'avere qualcosa in contrario a ballare io stesso che spero nel corso della serata di essere onorato dalla mano di tutte le mie belle cugine e colgo l'occasione per sollecitare la vostra miss Elizabeth in particolare per i primi due giri di danza una preferenza che spero la cugina Jane voglia attribuire alla sua giusta causa e non alla minima mancanza di rispetto verso di lei. Elizabeth si sentì presa in trappola senza scampo si era fermamente proposta di impegnarsi con Mr. Wickham proprio per quei due primi giri di danza e invece si ritrovava con Mr. Collins. La sua vivacità non era mai stata così intempestiva. Tuttavia ormai non c'era rimedio. La felicità sua e di Mr. Wickham doveva per forza essere rimandata per un po' e la proposta di Mr. Collins accettata con la maggior buona grazia possibile. E la sua gallanteria non certo un effetto migliore dato che cominciava a intuire che significasse qualcosa di più. Per la prima volta fu colpita dal fatto che potesse essere lei la prescelta tra le sorelle come degna di fare da padrona di casa nella canonica di Hansford e da riempitivo per il tavolo di quadriglia Rosings in mancanza di ospiti più idonei. L'idea si trasformò presto in certezza osservando le sempre crescenti cortesie che lui le tributava e sentendo i suoi frequenti tentativi di complimentarsi con lei per la sua intelligenza e la sua vivacità. E sebbene fosse più sbalordita che gratificata da quell'effetto del proprio fascino non ci volle molto prima che la madre le facesse capire come la possibilità di quel matrimonio le fosse estremamente gradita. Elizabeth tuttavia preferì non cogliere l'allusione essendo ben consapevole che qualsiasi risposta avrebbe provocato una seria disputa. Mr. Collins avrebbe anche potuto non fare mai la sua offerta e finché non fosse accaduto era inutile mettersi a litigare per lui. Se non ci fosse stato il ballo a Netherfield a cui prepararsi e del quale parlare le minori delle signorine Bennet si sarebbero sentite in uno stato pietoso in quel periodo poiché dal giorno dell'invito a quello del ballo c'era stata una serie di giornate piovose a impedire anche una sola passeggiata a Meriton. Niente zia, niente ufficiali, nessuna novità di cui andare in cerca. Gli stessi nastri per le scarpe da mettere a Netherfield furono comprati per procura. Persino la pazienza di Elizabeth fu messa dura prova dal tempo che interruppe del tutto i progressi della sua conoscenza con Mr. Wickham e nulla di meno di un ballo il martedì avrebbe reso sopportabili per Kitty e Lydia un venerdì, sabato, domenica e lunedì del genere. Capitolo diciottesimo. Fino a quando Elizabeth non fu entrata nel salotto di Netherfield e non ebbe cercato in vano Mr. Wickham tra i gruppi di divise rosse e lì radunate, non aveva mai avuto dubbi sulla sua presenza. La certezza di incontrarlo non era stata scossa da nessuna di quelle riflessioni che avrebbero potuto a ragione metterla in allarme. Si era abbigliata con più cura del solito e si era preparata con l'umore alle stelle alla conquista di tutto ciò che ancora non era stato soggiogato nel cuore di lui, fiduciosa che non ce ne fosse più di quanto potesse essere vinto nel corso della serata. Ma un istante dopo si affacciò il terribile sospetto che fosse stato volutamente omesso per far piacere a Mr. Darcy dalla lista degli ufficiali invitati da Mr. Bingley. E sebbene le cose non stessero esattamente così, la conferma definitiva della sua assenza venne dal suo amico Danny, al quale Lydia si rivolse con fervore e che disse loro che Wickham era stato costretto il giorno prima a recarsi a Londra per affari e non era ancora tornato, aggiungendo, con un sorriso significativo, «Non credo che i suoi affari l'avrebbero richiamato proprio ora se non avesse desiderato evitare un certo gentiluomo qui presente». Quella parte dell'informazione, anche se sfuggita a Lydia, fu colta da Elizabeth. E poiché confermava che Darcy non fosse meno responsabile dell'assenza di Mr. Wickham rispetto a quello che aveva ipotizzato prima, tutta l'antipatia verso il primo si acutizzò talmente a causa della subitanea delusione che riuscì a malapena a rispondere con accettabile educazione alle cortesi domande che lui subito dopo si avvicinò per farle. Garbo, tolleranza, pazienza con Darcy erano un'ingiuria a Wickham. Decise di evitare qualsiasi conversazione con lui e si allontanò talmente di cattivo umore che non riuscì a superarlo completamente nemmeno parlando con Mr. Bingley, la cui cieca parzialità la indispettiva. Ma Elizabeth non era fatta per essere di cattivo umore e sebbene tutte le prospettive circa la serata fossero sfumate, la cosa non poteva a lungo albergare nel suo animo. E dopo aver raccontato le sue pene a Charlotte Lucas, che non vedeva da una settimana, fu presto in grado di passare di sua spontanea volontà alle stranezze del cugino, facendole notare in modo particolare all'amica. I primi due giri di danza, tuttavia, la riportarono a quella pena. Furono due giri mortificanti. Mr. Collins, goffo e solenne, si scusava invece di stare attento e spesso faceva passi falsi senza rendersene conto, provocando in lei tutta la vergogna e la sofferenza che possono provocare due giri di danza con un cavaliere sgradevole. Il momento in cui si liberò di lui fu un momento di estasi. Ballò i due successivi con un ufficiale ed ebbe il sollievo di parlare di Wickham e di sentire come fosse simpatico a tutti. Una volta terminate le due danze, tornò da Charlotte Lucas e stava conversando con lei quando si sentì all'improvviso rivolgere la parola da Mr. Darcy, che la prese così di sorpresa chiedendole di ballare, che senza sapere ciò che stava facendo, accettò. Lui si allontanò immediatamente, lasciandola ad affliggersi per la propria mancanza di presenza di spirito. Charlotte cercò di consolarla. «Credo proprio che lo troverai molto gradevole». «Il cielo non voglia! Sarebbe la sciagura peggiore di tutte! Trovare gradevole un uomo che si è decisi a detestare! Non augurarmi una disgrazia del genere!» Quando ricominciarono le danze, tuttavia, e Darcy si avvicinò per reclamare la sua mano, Charlotte non pote fare a meno di metterla in guardia, sussurrandole di non fare la sciocca e di non permettere che il suo capriccio per Wickham la facesse apparire antipatica a un uomo dieci volte più importante di lui. Elizabeth non rispose e prese posto nel gruppo, stupita della dignità a cui era assurda nello stare di fronte a Mr. Darcy, e osservando lo sguardo dei vicini, vi lesse lo stesso stupore. Per un po' non dissero una parola. Lei cominciò a credere che il silenzio sarebbe continuato per l'intera durata dei due giri di danza, e in un primo momento aveva deciso di non interromperlo, finché all'improvviso, immaginando che la punizione più grande per il suo cavaliere sarebbe stata costringerlo a parlare, fece qualche osservazione insignificante sul ballo. Lui replicò, e rimase di nuovo in silenzio. Dopo una pausa di qualche minuto, si rivolse a lui per la seconda volta con «Ora è il vostro turno di dire qualcosa, Mr. Darcy. Io ho parlato del ballo, e voi dovete fare una qualche osservazione sulle dimensioni della sala, o sul numero di coppie». Lui sorrise, e le assicurò che qualsiasi cosa avesse desiderato fargli dire sarebbe stata detta. «Benissimo, questa risposta può andare per il momento. Forse tra un po' io potrei osservare che i balli privati sono molto più piacevoli di quelli pubblici, ma ora possiamo restare in silenzio». «Parlate seguendo delle regole mentre ballate». A volte, un po' si deve parlare, sapete? Mi sembrerebbe strano restare insieme per mezz'ora, completamente in silenzio. Eppure, nell'interesse di qualcuno, la conversazione dovrebbe essere organizzata in modo da far sì che si dica il minimo indispensabile. Nel caso presente state tenendo conto dei vostri desideri, o immaginate di fare piacere ai miei? «Tutte e due le cose», rispose Elisabeth maliziosamente. «Poiché ho sempre notato una notevole affinità nelle nostre menti. Abbiamo entrambi un temperamento poco socievole e taciturno, poco propenso a parlare, a meno che non ci si proponga di dire qualcosa che farà colpo su tutta la sala e che sarà trasmesso alla posterità con tutto il lustro di una massima». «Sono certo che in questo non ci sia molta affinità con il vostro carattere», disse lui. «Quanto posso essere vicino al mio, non posso essere io a dirlo. Voi lo considerate senza dubbio un ritratto fedele. Non devo essere io a giudicare le mie esibizioni?» Lui non rispose e rimasero di nuovo in silenzio fino al termine del primo giro, quando lui le chiese se lei e le sorelle andassero molto spesso a Meriton. Lei rispose affermativamente e, incapace di resistere alla tentazione, aggiunse «Quando l'altro giorno ci siamo incontrati, stavamo giusto facendo una nuova conoscenza». L'effetto fu immediato. Un'ombra di alterigia ancora più profonda si impossessò dei suoi lineamenti, ma non disse una parola, ed Elisabeth, sebbene rimproverandosi la propria debolezza, non riuscì a proseguire. Alla fine darsi parlò, e con un tono forzato disse «Mr. Wickham ha in dote dei modi così piacevoli da garantirgli di fare amicizie. Se sia ugualmente capace di mantenerle, è meno certo». «È stato così sfortunato da perdere la vostra amicizia», replicò Elisabeth con enfasi, «e in un modo che probabilmente lo farà soffrire per tutta la vita». Darcy non rispose e sembrava desideroso di cambiare argomento. In quel momento vicino a loro apparve Sir William Lucas, che aveva intenzione di passare attraverso le coppie per andare dall'altro lato della sala. Ma notando Mr. Darcy, si fermò con un inchino di squisita cortesia per complimentarsi con lui del suo modo di ballare e della sua dama. «È stata davvero una delizia, mio caro signore. Non si vede spesso un modo di ballare così eccellente. Si vede subito che fate parte del gran mondo. Permettetemi di dire, tuttavia, che la vostra bella dama non è certo da meno e che spero di poter godere ancora spesso di questo piacere, specialmente quando un certo desiderabile evento, mia cara Elisa, lanciando uno sguardo alla sorella e a Bingley, avrà luogo. Quante congratulazioni affluiranno allora! Mi appello a Mr. Darcy, ma non voglio interrompervi, signore. Certamente non mi ringrazierete per avervi distolto dall'affascinante conversazione di questa signorina, i cui splendidi occhi mi stanno anch'essi rimproverando». L'ultima parte di questo discorso fu a stento udita da Darcy, ma l'allusione di Sir William al suo amico sembrava averlo fortemente colpito e il suo sguardo si diresse con espressione seria verso Bingley e Jane, che stavano ballando insieme. In breve, tuttavia, si riprese, si girò verso la sua dama e disse «L'interruzione di Sir William mi ha fatto dimenticare di che cosa stavamo parlando». Non mi pare che stessimo affatto parlando. Sir William non avrebbe potuto interrompere due persone in sala che avessero meno da dirsi. Abbiamo già provato con due o tre argomenti senza successo e di che cosa parleremo in seguito non riesco a immaginarlo». «Che cosa ne pensate dei libri?» disse lui sorridendo. «Libri? Oh no! Sono certa che non leggiamo mai gli stessi, o non con gli stessi sentimenti». «Mi dispiace che la pensiate così, ma se questo è il caso almeno non avremo penuria di argomenti. Possiamo confrontare le nostre diverse opinioni». «No, non posso parlare di libri in una sala da ballo. Ho sempre la mente piena di altre cose». «In queste occasioni vi occupate sempre del presente, non è vero?» disse lui con uno sguardo dubbioso. «Sì, sempre», replicò lei, senza sapere ciò che stava dicendo, poiché i suoi pensieri vagavano lontani da quell'argomento, come si capì subito dalla sua improvvisa esclamazione. «Ricordo di avervi sentito dire una volta, Mr. Darcy, che non perdonate quasi mai, che il vostro risentimento una volta nato è implacabile. Siete molto accorto, immagino, nel farlo nascere». «Lo sono», disse lui con voce ferma. «E non vi lasciate mai accecare dal pregiudizio». «Spero di no». «È di particolare importanza, per quelli che non cambiano mai opinione, essere certi di giudicare in modo appropriato fin dall'inizio». «Posso chiedere a che cosa mirano queste domande?» «Solo a chiarire il vostro carattere», disse lei con uno sforzo per liberarsi della sua aria grave. «Sto cercando di farlo emergere». «E ci state riuscendo?» Lei scosse la testa. «Non ho fatto nemmeno un passo avanti. Sento parlare di voi in modi così diversi da farmi sentire estremamente perplessa». «Sono pronto a credere», rispose lui gravemente, «che si possano dire cose molto diverse su di me. E vorrei sperare, Miss Bennet, che non vi mettiate a delineare il mio carattere in questo momento, perché ho ragione di credere che il risultato non farebbe onore né a voi né a me. Ma se il vostro ritratto non lo faccio adesso, potrei non avere più un'altra opportunità». «Non vorrei in nessun caso interrompere un vostro passatempo», replicò lui freddamente. Lei non disse altro, e una volta terminato il secondo giro, si separarono in silenzio, ed entrambi insoddisfatti, anche se non allo stesso modo, poiché nel cuore di Darcy c'era un sentimento piuttosto forte nei confronti di lei che lo indusse presto a perdonarla e a dirigere tutta la sua collera verso un altro. Non si erano separati da molto quando Miss Bingley si diresse verso di lei, e con un'espressione di cortese disprezzo la apostrofò in questo modo. «E così, Miss Eliza, ho sentito che siete entusiasta di George Wickham, e ne ha parlato vostra sorella, facendomi un'infinità di domande, e mi sembra che il giovanotto si sia completamente dimenticato di dirvi, tra le altre cose, che era il figlio del vecchio Wickham, l'amministratore del defunto Mr. Darcy. Permettete che vi raccomandi tuttavia, da amica, di non credere a priori a tutte le sue affermazioni, poiché il fatto che Mr. Darcy l'abbia trattato male è completamente falso. Al contrario, è sempre stato straordinariamente gentile con lui, sebbene George Wickham si sia comportato in maniera infame con Mr. Darcy. Non conosco i particolari, ma so benissimo che Mr. Darcy non è minimamente da piasimare, che non sopporta di sentir nominare George Wickham, e che sebbene mio fratello abbia ritenuto di non poter evitare di includerlo nel suo invito agli ufficiali, è stato estremamente lieto di scoprire che ci aveva pensato lui stesso a tenersi lontano. Il solo fatto che sia venuto da queste parti dimostra la massima insolenza, e mi chiedo come abbia usato farlo. Mi rincresce, Miss Elizabeth, che abbiate scoperto le colpe del vostro favorito, ma in realtà, considerando le sue origini, non ci si poteva aspettare molto di meglio. Le sue colpe e le sue origini, a quanto dite, sembrano essere la stessa cosa, disse Elizabeth con rabbia, poiché non vi ho sentito accusarlo di nulla di peggio che essere il figlio dell'amministratore di Mr. Darcy, e di questo ve l'assicuro, mi aveva informato lui stesso. Vi chiedo scusa, replicò Miss Bingley, allontanandosi con un sorriso beffardo. Perdonate la mia intromissione, voleva essere una gentilezza. Insolente, disse Elizabeth tra sé. Ti stai sbagliando se credi di influenzarmi con un attacco meschino come questo. Non ci vedo nulla se non la tua caparbia ignoranza e la cattiveria di Mr. Darcy. Poi si mise a cercare la sorella maggiore, che si era incaricata di raccogliere informazioni da Bingley sullo stesso argomento. Jane la raggiunse con un sorriso così dolcemente soddisfatto, illuminata da un'espressione così felice che faceva capire a sufficienza come fosse contentissima degli avvenimenti della serata. Elizabeth colse al volo i suoi sentimenti, e in quel momento la preoccupazione per Wickham, il risentimento verso i suoi nemici e qualsiasi altra cosa venne messa da parte di fronte alla speranza che Jane raggiungesse la felicità nel migliore dei modi. Vorrei sapere, disse con un volto non meno sorridente della sorella, che cosa hai appreso circa Mr. Wickham, ma forse sei stata troppo piacevolmente occupata per pensare a qualche altra persona. In questo caso puoi essere certa del mio perdono. No, rispose Jane. Non l'ho dimenticato, ma non ho nulla di soddisfacente da raccontarti. Mr. Bingley non conosce tutta la storia e ignora completamente gli avvenimenti che hanno particolarmente offeso Mr. Darcy, ma si rende garante della condotta irreprensibile, della rettitudine e del senso dell'onore del suo amico. Ed è assolutamente convinto che Mr. Wickham meritasse molte meno attenzioni di quelle ricevute da Mr. Darcy. E mi dispiace dover dire che, da quanto dicono lui e le sorelle, Mr. Wickham non è affatto un giovanotto rispettabile. Temo che sia stato molto imprudente e che abbia meritato di perdere la stima di Mr. Darcy. Mr. Bingley conosce di persona Mr. Wickham? No, non l'aveva mai visto fino all'altro giorno a Meriton. Allora ha ripetuto quello che gli è stato detto da Mr. Darcy. Sono pienamente soddisfatta. Ma che cosa dice del beneficio? Non ricorda esattamente le circostanze, anche se ne ha sentito parlare più di una volta da Mr. Darcy, ma crede che il lascito fosse solo a certe condizioni. Non ho alcun dubbio sulla sincerità di Mr. Bingley, disse Elizabeth con calore, ma devi scusarmi se non mi lascio convincere da semplici assicurazioni. Di certo la difesa del suo amico da parte di Mr. Bingley è molto abile, ma visto che lui non è a conoscenza di diverse parti della storia e che il resto l'ha appreso dal suo amico, mi permetto di restare ancora della stessa opinione di prima sui due gentiluomini. Poi cambiò discorso a favore di uno più piacevole per entrambe e sul quale non potevano esserci opinioni diverse. Elizabeth ascoltò con gioia le felici, seppure modeste, speranze che Jane nutriva riguardo a Bingley e disse tutto ciò che era in suo potere per rafforzare la fiducia della sorella. Quando Mr. Bingley la raggiunse, Elizabeth si allontanò verso Miss Lucas e stava appena iniziando a rispondere alle sue domande circa la piacevolezza del suo ultimo cavaliere, quando arrivò Mr. Collins e gli disse con grande esultanza che aveva appena avuto la fortuna di fare un'importante scoperta. Ho scoperto, disse, per uno strano caso, che in sala c'è uno stretto parente della mia benefattrice. Mi è capitato di sentire di sfuggita il signore in questione menzionare alla signorina che fa gli onori di casa i nomi di sua cugina, Miss de Burg, e della madre, Lady Catherine. È incredibile come succedano queste cose. Chi avrebbe mai immaginato il mio incontro con, forse, un nipote di Lady Catherine de Burg in questa sede? Sono molto grato alla sorte di aver fatto questa scoperta in tempo per porgergli i miei omaggi, cosa che sto per fare, e confido che mi scuserà per non averlo fatto prima. La mia totale ignoranza di questa parentela avrà certo un peso nel giustificarmi. Non starete andando a presentarvi da solo a Mr. Darcy? Ma certo, lo pregherò di scusarmi per non averlo fatto prima. Credo che sia il nipote di Lady Catherine. Sarò in grado di assicurargli che sua signoria una settimana fa era in ottima salute. Elizabeth cercò energicamente di dissuaderlo da un progetto del genere, assicurandogli che Mr. Darcy avrebbe considerato quel rivolgersi a lui senza presentazione una impertinente libertà, più che un omaggio alla zia. Che non era affatto necessario che si conoscessero e che, se fosse accaduto, sarebbe spettato a Mr. Darcy, in quanto di rango superiore, fare il primo passo per quella conoscenza. Mr. Collins la ascoltò con l'aria ostinata di chi vuol fare di testa propria, e quando lei smise di parlare, replicò in questo modo. «Mia cara Miss Elizabeth, ho la più alta opinione al mondo del vostro eccellente giudizio su tutte le materie all'interno della sfera che vi compete, ma permettetemi di dire come vi sia ovviamente una grande differenza tra le formalità cerimoniali tra i laici e quelle che regolano il clero. Perciò concedetemi di osservare come io ritenga la professione ecclesiastica pari indignità al più alto rango del regno, a patto che sia mantenuta nel contempo un'appropriata umiltà di comportamento. Dovete perciò permettermi di seguire, in questo caso, i dettami della mia coscienza che mi inducono a compiere quello che ritengo un atto doveroso. Perdonatemi se trascuro di approfittare del vostro consiglio, che su ogni altro argomento sarà la mia guida costante, anche se nel caso che ci troviamo di fronte mi considero, per istruzione e consuetudine allo studio, più adatto a decidere ciò che è giusto rispetto a una signorina come voi». E con un profondo inchino la lasciò per andare all'attacco di Mr. Darcy, la cui accoglienza ai suoi approcci lei osservò avidamente, e il cui stupore nell'essere così apostrofato apparve molto evidente. Il cugino fece precedere il suo discorso da un solenne inchino, e sebbene lei non fosse in grado di distinguere nemmeno una parola, le sembrò di sentire tutto, e vide nel movimento delle labbra le parole scuse, Hansford e Lady Catherine de Bourgh. La infastidiva a vederlo esporsi così davanti a un uomo del genere. Mr. Darcy lo fissava con non celata meraviglia. E quando alla fine Mr. Collins gli diede tempo di parlare, replicò con aria di distante cortesia. Mr. Collins tuttavia non si fece scoraggiare e ricominciò a parlare, e il disprezzo di Mr. Darcy sembrò aumentare abbondantemente con il prolungarsi del secondo discorso. Alla fine fece solo un lieve inchino e si spostò da un'altra parte. Mr. Collins tornò allora da Elizabeth. «Non ho alcun motivo, ve l'assicuro», disse, «per essere insoddisfatto di come sono stato accolto. Mr. Darcy è sembrato molto compiaciuto della mia premura, mi ha risposto con la massima cortesia e mi ha persino fatto l'onore di dire che era talmente convinto della saggezza di Lady Catherine da essere certo che non avrebbe mai concesso un favore non meritato. È stato davvero un pensiero molto bello. Tutto sommato, sono rimasto molto soddisfatto di lui». Dato che Elizabeth non aveva più nessun interesse personale da perseguire, rivolse la sua attenzione quasi interamente alla sorella e a Mr. Bingley, e la serie di piacevoli riflessioni suscitate da quelle osservazioni la rese forse quasi felice quanto Jane. La vedeva con la fantasia sistemata in quella stessa casa, con tutta la felicità che può provenire da un matrimonio d'amore, e in circostanze come quelle si sentiva persino capace di sforzarsi per farsi piacere le due sorelle di Bingley. Vide con chiarezza che i pensieri della madre erano rivolti nella stessa direzione, e decise di non azzardarsi ad andarle vicino per paura di sentire troppo. Quando si sedettero per la cena, considerò quindi una sorte maligna ritrovarsi separata da lei solo da una persona, e si irritò profondamente vedendola parlare liberamente e apertamente proprio con quella persona, Lady Lucas, di nient'altro se non della sua aspettativa che Jane si sposasse presto con Mr. Bingley. Era un argomento eccitante, e Mrs. Bennet sembrava incapace di stancarsi nell'enumerare i vantaggi di quell'unione. Il fatto che lui fosse un giovanotto affascinante, e così ricco, che abitasse ad appena tre miglia da loro, erano i suoi principali motivi di soddisfazione. E poi era una tale consolazione pensare a come le due sorelle fossero affezionate a Jane, oltre alla certezza che desiderassero quel legame quanto lei. Per di più, era una cosa molto promettente per le sue figlie minori, dato che l'ottimo matrimonio di Jane avrebbe potuto dar loro modo di frequentare altri uomini facoltosi. E infine, era così piacevole alla sua età affidare alle cure della sorella le sue figlie nubili, in modo da non sentirsi più costretta a fare vita di società più di quanto desiderasse. Erano occasioni che bisognava farsi piacere, perché così vuole l'etichetta, ma nessuno amava più di Mrs. Bennet restarsene a casa in qualunque momento della vita. Concluse con molti fervidi auguri affinché Lady Lucas potesse presto avere una fortuna analoga, sebbene con l'evidente e trionfante certezza che non ci fosse nessuna possibilità in tal senso. Elizabeth tentò in vano di frenare il rapido flusso di parole della madre, o di convincerla a descrivere la sua felicità con un tono di voce meno udibile, poiché, con inesprimibile irritazione, aveva notato che gran parte del discorso era stato sentito da Mr. Darcy, che sedeva dalla parte opposta rispetto a loro. La madre si limitò a rimproverarla per aver detto delle sciocchezze. Ma scusa, chi è mai Mr. Darcy per me perché debba aver paura di lui? Sono certa che non gli dobbiamo nessuna particolare cortesia, come quella di essere costretti a non dire nulla che possa non piacergli. Per l'amor del cielo, signora, parlate più piano. Che vantaggio può derivarne a offendere Mr. Darcy. Non vi raccomanderete certo al suo amico comportandovi in questo modo. Nulla di ciò che poteva dire, tuttavia, ebbe la minima influenza. La madre continuava a parlare dei suoi punti di vista con lo stesso tono udibilissimo. Elizabeth arrossì più volte per la vergogna e l'irritazione. Non poteva fare a meno di lanciare frequenti occhiate a Mr. Darcy, anche se ogni sguardo le confermava ciò che temeva, poiché, sebbene non guardasse di continuo alla madre, era convinta che la sua attenzione fosse invariabilmente concentrata su di lei. L'espressione del suo volto si trasformò gradualmente da un indignato disprezzo a una composta e ferma serietà. Alla fine, comunque, Mrs. Bennet non ebbe altro da dire e Lady Lucas, che aveva sbadigliato non poco a sentirsi ripetere delizie che non aveva nessuna possibilità di condividere, fu lasciata al conforto di prosciutto e pollo freddi. Elizabeth cominciò a riprendersi. Ma l'intervallo di tranquillità non durò a lungo, poiché, una volta finita la cena, si cominciò a parlare di canto e lei ebbe la mortificazione di vedere Mary, a seguito di preghiere molto limitate, prepararsi a intrattenere la compagnia. Con molti sguardi significativi e mute preghiere, cercò di impedire una tale prova di cortesia, ma in vano. Mary non volle capire. Una tale opportunità di esibirsi per lei era una delizia e iniziò a cantare. Lo sguardo di Elizabeth restò fisso su di lei, con le più penose sensazioni. Eseguì il suo procedere attraverso le varie strofe con un'impazienza che fu molto mal ripagata dalla conclusione, visto che Mary, avendo ricevuto tra i ringraziamenti della tavolata un accenno alla speranza che potesse essere persuasa a concedere di nuovo il suo favore, dopo una pausa di nemmeno mezzo minuto ricominciò. Le capacità di Mary erano assolutamente inadatte a un'esibizione del genere. Aveva una voce debole e modi affettati. Per Elizabeth era un supplizio. Guardò Jane per vedere come stesse reagendo, ma Jane stava tranquillamente chiacchierando con Bingley. Guardò le due sorelle di lui e vide che si scambiavano segni di derisione tra di loro e verso Darcy, che tuttavia continuava a restare impenetrabilmente serio. Guardò il padre per implorare il suo intervento, temendo che Mary continuasse per tutta la sera. Lui colse l'accenno e quando Mary ebbe terminato il secondo brano, disse ad alta voce «E' stato molto bello, bambina mia. Ci hai deliziati abbastanza. Lascia che si esibiscano le altre signorine». Mary, sebbene avesse fatto finta di non sentire, rimase alquanto sconcertata. Ed Elizabeth, dispiaciuta per lei e dispiaciuta per le parole del padre, temette che la sua ansia non avesse portato a nulla di buono. Ora toccava a qualcun altro. «Se avessi la fortuna di essere capace di cantare», disse Mr. Collins, «trorrei un enorme piacere, ne sono certo, nel fare omaggio di un'aria alla compagnia, poiché considero la musica come un diversivo molto innocente e perfettamente compatibile con la professione ecclesiastica. Non intendo certo affermare che saremmo giustificati nel dedicare troppo del nostro tempo alla musica perché ci sono sicuramente altre cose di cui occuparsi. Il rettore di una parrocchia ha molto da fare. In primo luogo deve organizzare le decime affinché possa trarne giovamento lui stesso senza recare offesa al suo patrono. Deve scrivere i propri sermoni e il tempo che gli resta non sarà mai troppo per i suoi doveri parrocchiali e per la cura e il miglioramento del suo alloggio che non può esimersi da rendere il più confortevole possibile. E non credo sia di minore importanza l'essere fornito di modi attenti e concilianti con tutti, in particolare verso coloro a cui deve la sua carica. Non potrei mai esonerarlo da un tale dovere, né potrei pensare bene dell'uomo che dovesse trascurare qualsiasi occasione per mostrare il rispetto dovuto a chiunque si è imparentato con la famiglia. E con un inchino a Mr. Darcy concluse il suo discorso, che era stato pronunciato a voce talmente alta da essere udito da metà della sala. Molti sbarrarono gli occhi, molti sorrisero, ma nessuno appariva più divertito di Mr. Bennet, mentre la moglie elogiò con la massima serietà Mr. Collins per aver parlato con tanto buonsenso e affermò con un mezzo bisbiglio a Lady Lucas come fosse un giovanotto notevolmente intelligente e per bene. A Elizabeth sembrò che se la sua famiglia si fosse messa d'accordo per dare spettacolo durante la serata, sarebbe stato impossibile per loro recitare la parte con più spirito o con maggiore successo. E ritenne una fortuna, per Bingley e per la sorella, che a lui fosse sfuggita parte di quell'esibizione e che i suoi sentimenti fossero tali da non essere troppo colpiti dal ridicolo di cui era stato comunque testimone. Quanto alle sue due sorelle e a Mr. Darcy, aver fornito loro una tale opportunità di mettere in ridicolo la sua famiglia era già abbastanza e non riuscì a decidere se fosse più intollerabile il silenzioso disprezzo del gentiluomo o gli insolenti sorrisi delle signore. Il resto della serata produsse ben poco divertimento. Fu importunata da Mr. Collins, che continuava a insistere per restarle accanto, e sebbene non fosse riuscito a costringerla a ballare di nuovo con lui, le rese impossibile ballare con altri. In vano lo pregò di invitare qualcun'altra e si offrì di presentarlo alle altre signorine in sala. Lui le assicurò che quanto a ballare gli era perfettamente indifferente e il suo scopo principale era quello di raccomandarsi a lei con le sue delicate attenzioni e che perciò si era ripromesso di rimanerle vicino per l'intera serata. Non c'era nulla da ribattere a un progetto del genere. Il sollievo maggiore lo ebbe dalla sua amica Miss Lucas, che spesso si unì a loro e si impegnò benevolmente ad attirare su di sé la conversazione di Mr. Collins. Perlomeno si trovò libera dall'insultante presenza di Mr. Darcy. Sebbene si fosse trovato spesso a breve distanza da lei e completamente libero, non le si avvicinò mai abbastanza per parlarle. La ritenne la probabile conseguenza delle sue allusioni a Mr. Wickham e ne fu contenta. Il gruppo di Longbourn fu l'ultimo a partire e a seguito delle manovre di Mrs. Bennet dovettero aspettare la carrozza per un quarto d'ora dopo che tutti gli altri se n'erano andati, il che diede loro il tempo di vedere con quanto calore alcuni della famiglia desiderassero vederli andar via. Mrs. Arst e la sorella non aprirono praticamente bocca se non per lamentarsi della stanchezza ed erano chiaramente impazienti di avere la casa tutta per loro. Respinsero ogni tentativo di conversazione di Mrs. Bennet e così facendo instillarono in tutta la compagnia un senso di noia, pochissimo attenuato dai lunghi discorsi di Mr. Collins, che si complimentava con Mr. Bingley e con le sorelle per l'eleganza del ricevimento e per l'ospitalità e la cortesia che avevano contraddistinto il loro comportamento nei confronti degli ospiti. Darcy non disse una parola. Mr. Bennet, ugualmente silenzioso, si godeva la scena. Mr. Bingley e Jane si intrattenevano in piedi, un po' distanziati dagli altri, e parlavano solo tra loro. Elizabeth si mantene in silenzio come Mrs. Arst e Miss Bingley e persino Lydia era troppo sfinita per fare di più che esclamare di tanto in tanto «Oh signore, come sono stanca!» insieme a un violento sbadiglio. Quando finalmente si alzarono per prendere congedo, Mrs. Bennet fu di una cortesia molto pressante nello sperare di vedere l'intera famiglia presto a Longbourn e si rivolse in particolare a Mr. Bingley per assicurargli come sarebbero stati felici di poter loro offrire un pranzo alla buona in qualsiasi momento, senza le cerimonie di un invito formale. Bingley fu tutta lieta riconoscenza e si impegnò prontamente a accogliere la prima opportunità di farle visita dopo il suo ritorno da Londra, dove era costretto a recarsi il giorno seguente per un breve periodo. Mrs. Bennet era estremamente soddisfatta e lasciò la casa con la deliziosa convinzione che, tenuto conto dei necessari preparativi per il contratto matrimoniale per le carrozze nuove e il correddo di nozze, avrebbe senza dubbio visto la figlia sistemarsi a Netherfield nel giro di tre o quattro mesi. Chi avrebbe avuto un'altra figlia sposata a Mr. Collins lo pensava con pari certezza e con considerevole, anche se non pari, piacere. Elizabeth era all'ultimo posto nel suo affetto rispetto a tutte le sue figlie e sebbene l'uomo e il matrimonio fossero assolutamente adeguati a lei, il valore di entrambe le cose era ecclissato da Mr. Bingley e da Netherfield. Capitolo diciannovesimo Il giorno dopo a Longbourn il sipario si aprì su una nuova scena. Mr. Collins fece la sua dichiarazione formale. Avendo deciso di farlo senza perdere tempo, dato che il permesso di assentarsi durava solo fino al sabato successivo e non provando, persino in quel momento, nessun sentimento di insicurezza che potesse procurargli una qualche ansia, si accinse a farlo in modo molto meticoloso, seguendo tutte le regole che supponeva fossero di prammatica nella faccenda. Subito dopo colazione, essendosi trovato con Mrs. Bennet, Elizabeth e una delle figlie minori, si rivolse alla madre con queste parole. Posso sperare, signora, nel vostro appoggio nei confronti della vostra bella figliola Elizabeth, nel sollecitare l'onore di un colloquio privato con lei nel corso della mattinata? Prima che Elizabeth avesse tempo per nient'altro che arrossire per la sorpresa, Mrs. Bennet aveva già risposto. Oh mio Dio, sì certo! Sono sicura che Lizzy ne sarà felicissima! Sono sicura che non abbia nulla in contrario! Vieni Kitty, ho bisogno di te di sopra! E dopo aver raccolto il proprio lavoro, stava andandosene di fretta, quando Elizabeth la richiamò. Cara signora, non andate! Vi prego di non andarmene! Mr. Collins mi deve scusare! Non può avere nulla da dirmi che altri non possano sentire! Me ne andrò anch'io! Oh no no, sciocchezze Lizzy! Voglio che resti dove sei! E dato che Elizabeth sembrava davvero, con aria irritata e imbarazzata, in procinto di scappare, aggiunse, Lizzy, insisto affinché tu rimanga ad ascoltare Mr. Collins! Elizabeth non poteva opporsi a un'imposizione del genere, e resasi conto, dopo un attimo di riflessione, che sarebbe stato più saggio farla finita nel modo più veloce e tranquillo possibile, si rimise seduta, e cercò di nascondere il tumulto dei propri sentimenti, divisi fra timore e divertimento. Mrs. Bennet e Kitty uscirono, e non appena andate via, Mr. Collins cominciò. Credetemi, mia cara Miss Elizabeth, la vostra modestia è ben lungi da rendervi un cattivo servizio, si aggiunge piuttosto alle vostre altre perfezioni. Sareste risultata meno amabile ai miei occhi se non ci fosse stata questa piccola ritrosia, ma permettetemi di assicurarvi di come io abbia il permesso della vostra stimata madre per questo colloquio. Non potete certo avere dubbi sullo scopo del mio discorso, anche se la vostra delicatezza vi porta a dissimulare. Le mie attenzioni sono state troppo evidenti per essere fraintese. Quasi subito, una volta entrato in questa casa, ho scelto voi come la compagna della mia vita futura. Ma prima di lasciarmi trasportare dai miei sentimenti in proposito, forse sarà opportuno che esponga le ragioni che ho per sposarmi e inoltre quelle che mi hanno portato nell'Hertforshire con l'intento di trovare una moglie, come appunto ho fatto. L'idea di Mr. Collins, con tutta la sua solenne compostezza, che si lasciava trasportare dai sentimenti, fece talmente ridere dentro di sé Elizabeth che non fu in grado di approfittare della breve pausa che lui si era concesso per provare a impedirgli di andare avanti, e lui proseguì. Le ragioni per sposarmi sono, in primo luogo, che ritengo giusto per ogni ecclesiastico in condizioni agiate, come me, dare l'esempio del matrimonio nella propria parrocchia. Secondo, sono convinto che ciò contribuirà moltissimo alla mia felicità. E terzo, ma forse avrei dovuto menzionarlo per primo, che questo è stato il consiglio e la raccomandazione particolare della nobilissima signora che ho l'onore di chiamare mia patronessa. Due volte si è degnata di fornirmi la sua opinione e non richiesta su questo argomento, ed è stato proprio il sabato sera precedente la mia partenza da Hunsford, durante una mano di quadriglia, mentre Mrs. Jackinson stava sistemando il poggiapiedi di Miss de Bourgh, che ha detto, Mr. Collins, dovete sposarvi. Un ecclesiastico come voi deve sposarsi. Scegliete in modo appropriato, scegliete una gentildonna per riguardo a me e per riguardo a voi. Fate che sia una persona attiva ed efficiente senza troppe pretese, ma capace di far fruttare bene una piccola entrata. Questo è il mio consiglio. Trovatevi una donna così il più presto possibile, portatela a Hunsford e io le farò visita. A proposito, permettetemi di osservare, mia bella cugina, come io non reputi certo le attenzioni e la gentilezza di Lady Catherine Bourgh tra i vantaggi di minore importanza che sono in grado di offrire. Troverete i suoi modi superiori a qualsiasi possibile descrizione e la vostra intelligenza e vivacità credo le saranno sicuramente gradite, specialmente se moderate dal silenzio e dal rispetto, inevitabilmente stimolati dal suo rango. Questo per quanto riguarda la mia propensione generale al matrimonio. Resta da dire il perché il mio sguardo si sia rivolto a Longbourn invece che al mio avvicinato dove vi posso assicurare che ci sono molte amabili fanciulle. Il fatto è che, essendo come sono l'erede di questa proprietà, dopo la morte del vostro stimato padre, al quale auguro tuttavia di vivere ancora molti anni, non avrei potuto ritenermi soddisfatto se non avessi deciso di scegliere una moglie tra le sue figlie affinché la perdita per loro potesse essere ridotta il più possibile, quando avrà luogo il triste evento, che tuttavia, come ho già detto, mi auguro non avvenga prima di diversi anni. Questo è stato il motivo, mia bella cugina, e mi lusingo che non mi faccia scadere nella vostra stima. E ora non mi resta che assicurarvi con le parole più appassionate la violenza del mio affetto. Al denaro sono perfettamente indifferente e non farò nessuna richiesta del genere a vostro padre, anche perché sono ben conscio che non potrebbe essere soddisfatta e che mille sterline al 4% che non saranno vostre fino alla dipartita di vostra madre è tutto ciò che possiate mai rivendicare. Su questo punto, perciò, manterrò un immutabile silenzio e vi posso assicurare che nessun ingeneroso rimprovero uscirà mai dalle mie labbra dopo esserci sposati. A questo punto era assolutamente necessario interromperlo. «Siete troppo frettoloso, signore», esclamò lei. «Dimenticate che non ho dato nessuna risposta. Permettetemi di farlo senza ulteriori indugi. Accettate i miei ringraziamenti per l'omaggio che mi state facendo. Sono consapevole dell'onore della vostra proposta, ma per me è impossibile fare altro che rifiutarla». «So bene, e non da ora», replicò Mr. Collins con un cerimonioso gesto della mano, «che tra le signorine si usa a respingere la proposta di un uomo che esse intendono segretamente accettare, quando lui richiede per la prima volta i loro favori, e che talvolta il rifiuto è ripetuto una seconda e persino una terza volta. Non mi ritengo quindi minimamente scoraggiato da ciò che avete appena detto, e spero di condurvi all'altare quanto prima». «Parola mia, signore!» esclamò Elizabeth. «La vostra speranza è piuttosto singolare dopo la mia dichiarazione. Vi assicuro di non essere una di quelle signorine, se esistono signorine del genere, così audaci da affidare la propria felicità alla possibilità di una seconda proposta. Sono perfettamente seria nel mio rifiuto. Voi non potreste rendere felice me, e sono convinta di essere l'ultima donna al mondo che potrebbe rendere felice voi. Inoltre, se la vostra amica Lady Catherine mi conoscesse, sono convinta che mi troverebbe sotto tutti i punti di vista inadeguata alla situazione». «Se ci fosse la certezza che Lady Catherine dovesse pensarla così», disse Mr. Collins con molta gravità, «ma non riesco a immaginare nulla che sua signoria possa avere da ridire su di voi, e potete star certa che quando avrò l'onore di rivederla parlerò in termini entusiastici della vostra modestia, della vostra parsimonia e delle vostre amabili qualità». «Credetemi, Mr. Collins, tutti questi elogi non saranno necessari. Dovete permettermi di giudicare da me e farmi l'onore di credere a ciò che dico. Vi auguro di essere molto felice e altrettanto ricco, e rifiutando la vostra mano faccio tutto quello che è in mio potere per impedire che accada altrimenti. Facendomi questa proposta avete certamente soddisfatto la delicatezza dei vostri sentimenti riguardo alla mia famiglia, e a suo tempo potrete prendere possesso di Longburn senza farvi nessun rimprovero. La faccenda quindi può essere considerata definitivamente conclusa». Ed essendosi alzata mentre stava parlando, avrebbe lasciato la stanza, se Mr. Collins non si fosse rivolto a lei in questo modo. «Quando avrò l'onore di parlare di questo argomento la prossima volta, spero di ricevere una risposta più favorevole di quella che mi avete dato ora, anche se sono ben lungi dall'accusarvi di crudeltà in questo momento, poiché so che è una radicata abitudine del vostro sesso respingere un uomo in occasione della prima proposta, e forse finora avete detto, per incoraggiare la mia causa, quanto basta essere conforme alla genuina delicatezza dell'animo femminile». «Insomma, Mr. Collins», esclamò Elizabeth con una certa vehemenza, «mi mettete in enorme imbarazzo. Se ciò che ho detto finora può apparirvi una forma di incoraggiamento, non so proprio come esprimere il mio rifiuto in un modo che possa convincervi che proprio di questo si tratta». «Provete consentirmi, mia cara cugina, di ritenere che il vostro rifiuto sia solo una convenzione. Le mie ragioni per crederlo sono in breve le seguenti. Non mi sembra che la mia mano sia indegna di essere accettata o che la sistemazione che vi offro possa essere altro che estremamente desiderabile. La mia posizione sociale, le mie relazioni con la famiglia de Berg e la parentela con voi sono circostanze altamente in mio favore, e dovete considerare, inoltre, che nonostante le vostre molteplici attrattive, non è affatto certo che possiate ricevere un'altra offerta di matrimonio. La vostra quota di eredità è sfortunatamente così esigua che con tutta probabilità annullerà gli effetti delle vostre incantevoli e amabili qualità. Perciò, dovendo concludere che non siete seriamente intenzionata a rifiutarmi, ritengo di poter attribuire il rifiuto al vostro desiderio di accrescere il mio amore con l'incertezza, com'è consuetudine fare da parte delle donne eleganti. Vi assicuro, signore, che non ho nessuna pretesa verso quel tipo di eleganza che consiste nel tormentare un uomo rispettabile. Vorrei piuttosto che mi si facesse il complimento di essere ritenuta sincera. Vi ringrazio per l'ennesima volta per l'onore che mi avete fatto con la vostra proposta, ma accettarla mi è assolutamente impossibile. I miei sentimenti me lo impediscono da tutti i punti di vista. Potrei essere più chiara di così. Ora non consideratemi come una donna elegante che ha intenzione di tormentarvi, ma una creatura razionale che dice la verità dal profondo del cuore. Siete sempre adorabile, esclamò lui con aria di goffa galanteria, e sono convinto che una volta sanzionata dall'esplicita autorità di entrambi i vostri eccellenti genitori, la mia proposta non mancherà di essere accettata. Di fronte a una tale perseveranza nell'illudersi con caparbia determinazione, Elisabeth non trovò nessuna risposta, e si ritirò subito e in silenzio, decisa se lui avesse insistito nel considerare i suoi ripetuti rifiuti come un lusinghiero incoraggiamento, a rivolgersi al padre, il cui diniego poteva essere pronunciato in maniera tale da essere inoppugnabile, e il cui comportamento non avrebbe potuto essere scambiato per ostentazione e civetteria da parte di una donna elegante. Capitolo ventesimo Mr. Collins non fu lasciato per molto alla muta contemplazione del suo amore vittorioso, poiché Mrs. Bennet, che si era gingillata nel vestibolo per cogliere la conclusione dell'abboccamento, non appena vide Elisabeth aprire la porta e passarle rapidamente davanti verso le scale, entrò nella stanza della colazione e si congratulò con calore, sia con lui che con se stessa, per la felice prospettiva di una loro più stretta parentela. Mr. Collins accettò e ricambiò queste felicitazioni con parigioia e poi procedette a riferire i particolari del colloquio, del cui risultato era certo di avere tutte le ragioni di essere soddisfatto, visto che il fermo rifiuto della cugina era da considerare come la naturale conseguenza della sua timida modestia e della genuina delicatezza del suo carattere. Questa notizia, tuttavia, lasciò sbigottita Mrs. Bennet. Sarebbe stata ben dieta di provare la stessa soddisfazione, ritenendo che la figlia avesse inteso incoraggiarlo respingendo la sua proposta, ma non osava crederlo e non poté fare a meno di dirlo. Ma state certo, Mr. Collins, aggiunse, che Elisabeth sarà riportata alla ragione. Gliene parlerò io stessa immediatamente. È una ragazza sciocca e molto testarda e non capisce qual è il suo interesse, ma glielo farò capire io. Perdonatemi se vi interrompo, signora, esclamò Mr. Collins, ma se è davvero sciocca e testarda non so se tutto sommato possa essere una moglie desiderabile per un uomo nella mia posizione che naturalmente nello stato matrimoniale cerca la felicità. Se quindi dovesse veramente persistere nel respingere la mia offerta, forse sarebbe meglio non forzarla ad accettare, poiché se ha tali difetti di carattere non potrebbe contribuire molto alla mia felicità. Oh signore, mi avete completamente fraintesa, disse Mrs. Bennet allarmata. Lizzie è testarda solo in materie come questa. In tutto il resto è la ragazza migliore che sia mai esistita. Andrò subito da Mr. Bennet e sono certa che sistemeremo tutto immediatamente. Non gli dette tempo per replicare, ma si precipitò all'istante dal marito, gridando mentre entrava in biblioteca. Oh Mr. Bennet, c'è bisogno immediatamente di te, siamo in subuglio, devi andare a far sposare Lizzie a Mr. Collins, perché lei giura che non lo vuole e se non ti sbrighi lui cambierà idea e non vorrà più lei. All'ingresso della moglie, Mr. Bennet alzò gli occhi dal libro e la fissò in volto con una tranquilla indifferenza che non fu minimamente alterata da quella notizia. Non ho il piacere di comprenderti, disse quando lei ebbe concluso la sua tirata. Di che cosa stai parlando? Di Mr. Collins e Lizzie. Lizzie dichiara di non volere Mr. Collins e Mr. Collins comincia a dire di non volere Lizzie. E cosa posso farci io? Sembra un caso disperato. Parlaci tu con Lizzie, dille che le imponi di sposarlo. Falla scendere, sentirà quello che ho da dire. Mrs. Bennet suonò il campanello e Miss Elizabeth fu convocata in biblioteca. Vieni qui, bambina mia, esclamò il padre non appena la vide. Ti ho mandata a chiamare per una faccenda importante. Ho saputo che Mr. Collins ti ha fatto una proposta di matrimonio, è vero? Elizabeth rispose di sì. Molto bene. E questa proposta di matrimonio tu l'hai rifiutata? Sì, signore. Molto bene. Ora veniamo al punto. Tua madre insiste affinché tu accetti, non è vero, Mrs. Bennet? Sì, altrimenti non la vorrò più vedere. Hai di fronte una triste alternativa, Elizabeth. Da oggi dovrai essere un'estranea per uno dei tuoi genitori. Tua madre non vorrà più vederti se non sposi Mr. Collins e io non vorrò più vederti se lo sposi. Elizabeth non poteva non sorridere per quella conclusione dopo un simile inizio. Ma Mrs. Bennet, che si era convinta che il marito avrebbe condotto la faccenda nel modo da lei desiderato, rimase estremamente delusa. Che cosa intendi dire, Mr. Bennet, parlando in questo modo? Mi avevi promesso di importi affinché lo sposasse. Mia cara, replicò il marito, ho due piccoli favori da chiederti. Il primo, di lasciare che in questa occasione io faccia libero uso del mio intelletto e il secondo della mia stanza. Sarai lieto di avere la biblioteca tutta per me in un appena possibile. Tuttavia, nonostante la delusione procurata le dal marito, lei non era disposta a lasciar cadere l'argomento. Parlò ripetutamente con Elizabeth, la blandì e la minacciò a fasi alterne. Tentò di assicurarsi l'appoggio di Jane, ma Jane, con tutta la possibile dolcezza, si rifiutò di mischiarsi. Ed Elizabeth, talvolta molto seriamente, altre volte con scherzosa allegria, tenne testa agli attacchi della madre. Anche se i modi cambiavano, la sua decisione non cambiò mai. Mr. Collins, nel frattempo, stava meditando in solitudine sull'accaduto. Aveva troppa stima di se stesso per riuscire a comprendere per quali motivi la cugina potesse rifiutarlo, e sebbene si sentisse ferito nell'orgoglio, non aveva altri motivi di sofferenza. Il suo interesse per lei era stato del tutto immaginario, e la possibilità che meritasse i rimproveri della madre gli impedì di provare qualsiasi rammarico. Mentre la famiglia era in questa confusione, Charlotte Lucas arrivò per passare la giornata con loro. Nel vestibolo incontrò Lydia, che correndo l'incontro, esclamò con un mezzo bisbiglio. Ma sono contenta che tu sia venuta, perché qui c'è talmente da divertirsi. Sai che cosa è successo stamattina? Mr. Collins ha fatto una proposta di matrimonio a Lizzie, e lei non lo vuole! Prima che Charlotte avesse il tempo di rispondere, le raggiunse Kitty, che veniva a darle la stessa notizia, e non fecero in tempo a entrare nella stanza della colazione dove c'era Mrs. Bennet da sola, che quest'ultima cominciò con lo stesso argomento, invocando la compassione di Miss Lucas e pregandola di convincere la sua amica Lizzie a uniformarsi ai desideri di tutta la famiglia. Fatelo, vi prego, Miss Lucas, aggiunse in tono malinconico. Poiché nessuno mi sta a sentire, nessuno prende le mie parti, sono trattata crudelmente, nessuno si preoccupa dei miei poveri nervi. L'ingresso di Jane ed Elizabeth risparmiò a Charlotte la risposta. Eccola che viene, proseguì Mrs. Bennet, con la massima non curanza e preoccupandosi per noi non più che se fossimo distanti cento miglia, pur di poter fare a modo suo. Ma voglio dirti, cara Miss Lizzie, che se ti sei messa in testa di continuare a rifiutare in questo modo ogni offerta di matrimonio, non troverai mai marito. E non so proprio come farai a mantenerti quando tuo padre sarà morto. Io non sarò in grado di farlo, sei avvisata. Con te da oggi ho chiuso. Te l'ho detto in biblioteca, lo sai, che non ti parlerò mai più. E vedrai se non manterrò la parola. Non mi piace parlare con figli disubbidienti. In effetti, non è che mi faccia piacere parlare con chiunque sia. La gente che come me soffre di disturbi nervosi non è molto propensa a parlare. Nessuno sa quanto soffro, ma è sempre così. Quelli che non si lamentano non sono mai compatiti. Le figlie ascoltarono in silenzio questo sfogo, consapevoli che qualsiasi tentativo di ragionare con lei o di blandirla avrebbe solo accresciuto la sua irritazione. Continuò quindi a parlare senza interruzione da parte loro finché non furono raggiunte da Mr. Collins, che entrò con un'aria più seria del solito. E lei, accorgendosene, disse alle ragazze. E ora? Ed è un ordine? Voi, tutte voi, tenete a freno la lingua e fatemi fare un po' di conversazione con Mr. Collins. Elizabeth uscì tranquillamente dalla stanza. Jane e Kitty la seguirono, ma Lydia tenne il terreno, decisa ad ascoltare il più possibile. E Charlotte, trattenuta da prima dalla cortesia di Mr. Collins, le cui domande su lei e la sua famiglia erano molto minuziose e poi, da un pizzico di curiosità, si accontentò di fare qualche passo verso la finestra, fingendo di non sentire. Con un tono dolente, Mrs. Bennet cominciò la conversazione che aveva preannunciato. «Oh, Mr. Collins!» «Ea cara signora», replicò lui, «stendiamo un velo di silenzio su questo argomento». «Lungi da me!» proseguì subito con un tono di voce che rivelava il suo disappunto. Risentirmi per il comportamento di vostra figlia. Rassegnarsi a un male inevitabile è un dovere per tutti noi, un dovere peculiare per un giovanotto che è stato così fortunato da ottenere un avanzamento precoce come il mio e io confido di essere rassegnato. Forse in un ultimo dei motivi è il dubbio sulla mia effettiva felicità, ove la mia bella cugina mi avesse fatto l'onore di concedermi la sua mano, poiché ho spesso notato come la rassegnazione non sia mai così perfetta come quando la gioia negata inizia a perdere qualcosa del suo valore ai nostri occhi. Spero non vogliate ritenere, mia cara signora, che io mi stia dimostrando in qualche modo irrispettoso verso la vostra famiglia, ritirando le mie pretese sul favore di vostra figlia senza aver reso omaggio a voi e a Mr. Bennet chiedendovi di far valere la vostra autorità a mio favore. Temo che la mia condotta possa essere discutibile per il fatto di avere accettato il rifiuto dalle labbra di vostra figlia anziché dalle vostre, ma siamo tutti soggetti a sbagliare. Per tutto il corso della vicenda le mie intenzioni sono state sicuramente buone, il mio scopo era quello di assicurarmi un'amabile compagna tenendo in debita considerazione il vantaggio per tutta la vostra famiglia e se i miei modi sono stati comunque da biasimare vi prego di permettermi di porgere le mie scuse. Capitolo ventunesimo. Le discussioni sulla proposta di Mr. Collins erano ormai quasi terminate ed Elizabeth doveva sopportare solo le spiacevoli sensazioni che le avevano accompagnate e di tanto in tanto qualche stiziosa allusione da parte della madre. Quanto al gentiluomo le sue sensazioni erano per lo più esternate non come imbarazzo o abbattimento o cercando di evitarla, ma con la freddezza dei modi e un risentito silenzio. Non le rivolgeva quasi mai la parola e le assidue attenzioni che reteneva tra sé così apprezzabili furono trasferite per il resto della giornata a Miss Lucas, la cui gentilezza nel prestargli ascolto fu un tempestivo sollievo per tutte loro e specialmente per la sua amica. L'indomani non ci fu nessun miglioramento nel malumore o nei malesseri di Mrs. Bennet. Anche Mr. Collins rimase nello stesso stato di orgogliosa irritazione. Elizabeth aveva sperato che il risentimento potesse abbreviare la visita, ma i piani del cugino non sembravano affatto influenzati dall'accaduto. Si era sempre riproposto di andarsene il sabato e fino a sabato intendeva restare. Dopo la colazione le ragazze fecero una passeggiata a Meriton per sapere se Mr. Wickham fosse tornato e per lamentare la sua assenza al ballo di Netherfield. Lui si unì a loro non appena entrata in città e le accompagnò dalla zia, dove si parlò ampiamente del suo rammarico e del suo disappunto e del dispiacere di tutti. Con Elizabeth tuttavia riconobbe spontaneamente di essersi autoimposto la necessità di tenersi lontano. «Mi sono reso conto», disse, «man mano che si avvicinava quel momento, che avrei fatto meglio a non incontrare Mr. Darcy? Che essere nella stessa stanza, nello stesso ricevimento insieme a lui per così tante ore, sarebbe stato più di quanto potessi sopportare e che sarebbero potute succedere cose spiacevoli non solo per me». Lei approvò incondizionatamente la sua prudenza ed ebbero modo di discuterne ampiamente e di esprimersi cortesemente a vicenda tutta la simpatia reciproca, dato che Wickham e un altro ufficiale tornarono con loro a Longbourn e durante la passeggiata lui si dedicò principalmente a lei. Il fatto che le avesse accompagnate ebbe un duplice vantaggio. Lei apprezzò pienamente l'omaggio che le veniva tributato e l'occasione fu propizia per presentarlo al padre e alla madre. Subito dopo il loro ritorno fu consegnata una lettera a Miss Bennet. Veniva da Netherfield e fu aperta immediatamente. La busta conteneva un foglietto di elegante carta satinata, riempito con una bella e fluente calligrafia femminile. Elizabeth vide la sorella cambiare espressione mentre lo leggeva e la vide soffermarsi con attenzione su alcuni punti particolari. Jane si ricompose subito e mettendo da parte la lettera cercò di unirsi con la consueta allegria alla conversazione generale. Ma Elizabeth provò una tale ansia per quel biglietto da farle persino distogliere l'attenzione da Wickham. E non appena lui e il suo compagno presero congedo, un'occhiata da parte di Jane la invitò a seguirla di sopra. Una volta raggiunta la loro stanza, Jane, tirando fuori la lettera, disse «È di Carolyn Bingley. Ciò che contiene mi ha sorpresa moltissimo. A quest'ora l'intera comitiva ha lasciato Netherfield ed è sulla strada di Londra, senza nessuna intenzione di tornare. Senti che cosa dice». Lesse quindi la prima frase a voce alta, con la notizia della loro decisione di seguire subito il fratello in città e della loro intenzione di pranzare lo stesso giorno a Grosvenor Street, dove Mr. Hurst aveva una casa. La seconda era in questi termini. «Non fingo di rimpiangere nulla di ciò che ho lasciato nell'Airfordshire, salvo la vostra compagnia, mia carissima amica. Ma speriamo in un qualche momento futuro di poter godere di nuovo molte volte di quei deliziosi contatti che abbiamo avuto e nel frattempo potremo alleviare la pena della separazione intrattenendo una corrispondenza assidua e aperta. Conto su di voi per questo». Queste espressioni altisonanti Elisabeth le ascoltò con tutta l'indifferenza del sospetto. E sebbene sorpresa dalla rapidità di quella partenza, non ci vide nulla di realmente preoccupante. Non c'era nulla che facesse presumere che la loro assenza da Netherfield avrebbe impedito a Mr. Bingley di tornare. E quanto alla perdita della loro compagnia, era convinta che Jane avrebbe di certo smesso di preoccuparsene, potendo godere di quella di lui. «È una sfortuna», disse dopo una breve pausa, «che tu non sia stata in grado di vedere le tue amiche prima che lasciassero la campagna? Ma non possiamo forse sperare che il periodo di futura felicità a cui guarda Miss Bingley arrivi prima di quanto ne sappia lei? E che i deliziosi contatti che avete avuto da amiche saranno rinnovati con ancora più soddisfazione come cognate? Mr. Bingley non sarà certo trattenuto a Londra da loro». «Caroline dice chiaramente che nessuno di loro tornerà nell'Airforshire questo inverno. Te lo leggerò». «Quando mio fratello ieri ci ha lasciate, presumeva che gli affari che l'avevano condotto a Londra si potessero concludere in tre o quattro giorni, ma siamo certi che non possa essere così. E allo stesso tempo, dato che siamo convinte che una volta in città Charles non avrà nessuna fretta di ripartire, abbiamo deciso di seguirlo, affinché non sia costretto a passare le ore libere in uno scomodo albergo. Molte delle mie conoscenze sono già lì per l'inverno. Vorrei tanto poter sentire che voi, mia carissima amica, avete intenzione di far parte della compagnia, ma su questo non ho speranze. Spero sinceramente che il Natale nell'Airforshire possa abbondare di quell'allegria che in genere contraddistingue questa stagione e che i vostri beau siano talmente numerosi da impedirvi di sentire la mancanza dei tre di cui vi dobbiamo privare». «Questo rende evidente», aggiunse Jane, «che lui non tornerà più per questo inverno. Rende evidente soltanto che Miss Bingley non ha intenzione di farlo tornare». «Perché la pensi così? È solo lui a dover decidere, è padrone delle proprie azioni. Ma non sai tutto. Ti leggerò il passaggio che mi ha particolarmente ferita. Non voglio nasconderti nulla». «Mr. Darcy è impaziente di rivedere la sorella e, a dire il vero, noi non lo siamo di meno di lui. Sono davvero convinta che Georgiana Darcy non abbia uguali in fatto di bellezza, eleganza e qualità. E l'affetto che ispira a Luisa e a me è intensificato da qualcosa di ancora più significativo, dalla speranza che usiamo nutrire di poterla in futuro avere come cognata. Non so se vi ho mai parlato dei miei sentimenti in proposito, ma non lascerò la campagna senza confidarveli e credo che non li riterrete irragionevoli. «Mio fratello l'ammira già moltissimo e ora avrà spesso l'opportunità di vederla nella massima familiarità. Tutti i parenti di lei desiderano quanto noi questa unione e non credo di essere ingannata dalla parzialità di una sorella, se dico che Charles è certamente in grado di conquistare il cuore di qualsiasi donna. Con tutte queste circostanze a favore di un legame e nessuna che possa impedirlo, mi sbaglio forse, mia carissima Jane, a indulgere nella speranza di un evento che assicurerà la felicità di così tante persone.» «A che cosa ne pensi di questa frase, mia cara Lizzie?» disse Jane una volta finito di leggere. «Non è chiara abbastanza. Non dimostra esplicitamente che Carolyn non si aspetta né si augura di essere mia cognata, che è perfettamente convinta dell'indifferenza del fratello e che se sospetta la natura dei miei sentimenti verso di lui abbia intenzione, molto gentilmente, di mettermi in guardia.» «Può esistere un'opinione diversa in proposito?» «Sì, può esistere, perché la mia è totalmente diversa. Vuoi sentirla?» «Molto volentieri.» «Te la dirò in poche parole. Miss Bingley si rende conto che il fratello è innamorato di te e vuole che sposi mistarsi. Lo segue in città nella speranza di trattenerlo lì e cerca di convincerti che a lui non importi nulla di te.» Jane scosse la testa. «Davvero, Jane, devi credermi. Nessuno che ti abbia visti insieme può dubitare del suo affetto. Sono certa che Miss Bingley non possa farlo. Non è certo una sciocca. Se avesse visto metà di questo amore da parte di Miss Darcy verso di lei avrebbe già ordinato il corredo di nozze. Ma il problema è questo. Noi non siamo né abbastanza ricche né abbastanza altolocate per loro. E lei è particolarmente impaziente di ottenere Miss Darcy per il fratello perché ritiene che una volta combinato un matrimonio in famiglia avrà meno difficoltà a combinarne un secondo. In questo rivela una qualche ingenuità e credo proprio che ci riuscirebbe se Miss De Burg non fosse della partita. Ma mia carissima Jane, non puoi seriamente immaginare che siccome Miss Bingley ti dice che il fratello ammira moltissimo Miss Darcy, lui sia minimamente meno sensibile ai tuoi meriti di quando ha preso congedo da te martedì o che lei abbia il potere di convincerlo che invece di essere innamorato di te sia follemente innamorato della sua amica. Se la pensassimo allo stesso modo su Miss Bingley, replicò Jane, la tua rappresentazione dei fatti potrebbe tranquillizzarmi, ma so che i presupposti sono sbagliati. Carolyn è incapace di ingannare deliberatamente qualcuno e tutto ciò che posso sperare in questo caso è che si stia ingannando lei stessa. Giusto, non avresti potuto escogitare un'idea migliore visto che non vuoi trarre conforto dalla mia. Credi pure che si stia senz'altro ingannando. Ora hai fatto il tuo dovere verso di lei e non devi più affliggerti. Ma mia cara sorella potrei essere felice anche supponendo il meglio dell'accettare un uomo le cui sorelle e i cui amici si augurano che sposi un'altra. Devi essere tu a decidere, disse Elizabeth. E se dopo matura riflessione scopri che la pena di fare una scortesia alle sorelle è maggiore della felicità di essere sua moglie, ti consiglio senz'altro di rifiutarlo. Come puoi parlare così? Disse Jane con un debole sorriso. Lo sai che anche se sarei estremamente addolorata dalla loro disapprovazione non potrei esitare. Non credo che lo faresti e se fosse così non potrei ritenere la tua situazione degna di compassione. Ma se non torna più per questo inverno nessuno mi chiederà di scegliere. In sei mesi possono accadere mille cose. Elizabeth riteneva totalmente improponibile l'idea che lui non sarebbe tornato. La considerava solo un indizio dei desideri interessati di Carolyn e non poteva immaginare neppure per un istante che quei desideri, per quanto apertamente o subdolamente espressi, potessero influenzare un giovanotto che non dipendeva da nessuno. Espresse alla sorella, con la maggiore forza possibile, ciò che sentiva in proposito ed ebbe presto il piacere di vederne i felici effetti. Il carattere di Jane non era incline allo scoraggiamento e fu gradualmente riportata a sperare, anche se l'incertezza di quell'affetto superava talvolta la speranza che Bingley sarebbe tornato a Netherfield ad appagare tutto ciò che in corso desiderava. Si misero d'accordo di far sapere a Mrs. Bennet solo della partenza della famiglia, senza allarmarla sui motivi della condotta del gentiluomo, ma persino questa informazione parziale le diede moltissimo di cui preoccuparsi e lamentò come un'enorme sfortuna che le signore dovessero andarsene proprio quando si era stabilita una tale familiarità. Tuttavia, dopo essersene lamentata per un po', ebbe la consolazione di pensare che Mr. Bingley sarebbe presto tornato e avrebbe presto pranzato a Longbourn e la conclusione di tutto fu la confortante dichiarazione che, sebbene l'avesse invitato a un semplice pranzo familiare, avrebbe fatto preparare due giri completi di portate. Capitolo ventiduesimo I Bennet erano stati invitati a pranzo dai Lucas, e per la maggior parte della giornata Miss Lucas fu ancora così gentile da prestare ascolto a Mr. Collins. Elizabeth colse l'occasione per ringraziarla. «Lo metti di buon umore», disse, «e ti sono obbligata più di quanto possa esprimere». Charlotte rassicurò l'amica sulla gioia che provava nell'esserle utile, che ripagava ampiamente un piccolo sacrificio del proprio tempo. C'era di che apprezzarla, ma la gentilezza di Charlotte andava al di là di quanto potesse immaginare Elizabeth. Il suo scopo non era altro che quello di mettere a riparo l'amica da ulteriori proposte di Mr. Collins, attirandole su di sé. Era questo il piano di Miss Lucas, e le apparenze erano così favorevoli che quando la sera si separarono, lei sarebbe stata quasi sicura del successo, se lui non avesse dovuto lasciare l'Earth for sure così presto. Ma in questo non rese giustizia all'ardore e all'intraprendenza del carattere di lui, che il mattino dopo lo condusse a dileguarsi da Longbourn House con ammirevole destrezza e ad affrettarsi a Lucas Lodge per gettarsi ai suoi piedi. Voleva a ogni costo evitare di farsi notare dalle cugine, convinto com'era che se lo avessero visto partire non avrebbero potuto non indovinare le sue intenzioni, e lui non era disposto a rendere noto il suo tentativo fino a quando non fosse stato certo del successo, perché sebbene si sentisse quasi sicuro, e con ragione, poiché Charlotte era stata piuttosto incoraggiante, era stato reso abbastanza diffidente dall'avventura del mercoledì. L'accoglienza, tuttavia, fu estremamente lusinghiera. Miss Lucas lo notò da una finestra al piano superiore mentre si stava avvicinando a casa, e uscì immediatamente per far sì di incontrarlo casualmente sul sentiero. Ma non aveva certo osato sperare che lì l'attendessero tanto amore ed eloquenza. Nel tempo più breve concesso dai lunghi discorsi di Mr. Collins, tutto fu sistemato con soddisfazione da entrambe le parti, e quando entrarono in casa, lui la pregò con ardore di fissare il giorno che l'avrebbe reso il più felice degli uomini. E sebbene una tale istanza dovesse per il momento essere differita, la signorina non provava nessun impulso a gingillarsi con la propria felicità. La stupidità con la quale egli era stato favorito dalla natura metteva al riparo il suo corteggiamento da qualsiasi fascino che avrebbe fatto desiderare a una donna di vederlo durare a lungo, e a Miss Lucas, che l'aveva accettato solo per il puro e semplice desiderio di una sistemazione, non importava certo quanto in fretta fosse ottenuta quella sistemazione. Sir William e Lady Lucas furono rapidamente interpellati per il loro consenso, che fu concesso con gioiosa solerzia. L'attuale posizione di Mr. Collins rendeva l'unione molto vantaggiosa per la figlia, alla quale erano in grado di assegnare ben poco, e le prospettive di ricchezza per il futuro erano estremamente buone. Lady Lucas cominciò subito a calcolare, con maggiore interesse rispetto a quanto la questione ne avesse suscitato prima quanti anni sarebbero probabilmente restati da vivere a Mr. Bennet, e Sir William era risoluto nel ritenere che non appena Mr. Collins avesse preso possesso della proprietà di Longbourn, sarebbe stato estremamente opportuno che sia lui che la moglie venissero introdotti a corte. In breve l'intera famiglia era entusiasta dell'evento. Le ragazze più giovani nutrivano la speranza di fare il loro ingresso in società un anno o due prima del previsto, e i ragazzi si sentirono liberati dal timore che Charlotte morisse zitella. Charlotte era abbastanza tranquilla. Aveva raggiunto lo scopo, ed ebbe tempo per pensarci. Le sue riflessioni furono in generale soddisfacenti. Certo, Mr. Collins non era né intelligente né piacevole, era una compagna noiosa e il suo affetto puramente immaginario. Ma comunque sarebbe stato un marito. Senza aspettarsi molto dagli uomini e dal matrimonio, sposarsi era sempre stato il suo obiettivo. Era l'unica soluzione onorevole per una signorina istruita e di scarsi mezzi, e per quanto fosse incerta la felicità che se ne poteva trarre, era sicuramente il modo più piacevole per proteggersi dalla miseria. Quella protezione l'aveva ormai ottenuta, e a 27 anni, senza mai essere stata bella, era consapevole della sua fortuna. La parte meno gradevole della faccenda era la sorpresa che avrebbe suscitato in Elizabeth Bennet, alla cui amicizia teneva più che a quella di chiunque altro. Elizabeth si sarebbe stupita, e probabilmente l'avrebbe biasimata. E sebbene la sua decisione fosse ben salda, quella disapprovazione avrebbe certamente ferito i suoi sentimenti. Decise di darle lei stessa la notizia, e perciò raccomandò a Mr. Collins di non farsi sfuggire nulla di ciò che era successo di fronte a nessuno della famiglia, una volta tornato a Longbourn per il pranzo. Naturalmente la promessa di mantenere il segreto fu doverosamente fatta, ma non poteva essere mantenuta senza difficoltà di fronte alla curiosità suscitata dalla sua lunga assenza, che sgorgò prepotente al suo ritorno con domande molto dirette, che richiesero una certa abilità per essere eluse, e allo stesso tempo lo costrinsero a esercitare un grande autocontrollo, poiché aveva un forte desiderio di rendere pubblico quel suo amore così fortunato. Siccome il suo viaggio sarebbe iniziato troppo presto, al mattino, per vedere qualcuno della famiglia, la cerimonia del commiato si svolse quando le signore si ritirarono per la notte, e Mrs. Bennet, con grande gentilezza e cordialità, disse come sarebbe stata felice di rivederlo a Longbourn, ogni qual volta gli impegni gli avessero consentito di far loro visita. «Mia cara signora», rispose lui, «questo invito mi è particolarmente gradito, poiché è quello che avevo sperato di ricevere, e potete star certa che ne approfitterò non appena mi sarà possibile». Rimasero tutti stupiti, e Mr. Bennet, che non aveva nessun desiderio di un ritorno così rapido, disse immediatamente, «Ma non c'è pericolo, amico mio, di incorrere nella disapprovazione di Lady Catherine? Fareste meglio a trascurare i vostri parenti, piuttosto che correre il rischio di offendere la vostra patronessa». «Mio caro signore», replicò Mr. Collins. «Vi sono particolarmente grato per questo amichevole ammonimento, e potete star certo che non farei mai un passo del genere senza avere il benestare di sua signoria. Le cautele non sono mai troppe. Rischiate qualunque cosa, ma non la sua disapprovazione. E se vi rendete conto di poterla suscitare tornando a trovarci, il che lo ritengo estremamente probabile, restatevene tranquillamente a casa, e siate pur certo che noi non ci offenderemo». «Credetemi, mio caro signore, queste affettuose attenzioni suscitano la mia calorosa gratitudine, e potete star certo che riceverete presto una mia lettera per ringraziarvi di questo, così come di tutte le altre prove di riguardo verso di me durante la mia permanenza nell'Airfordshire. Quanto alle mie belle cugine, sebbene la mia assenza non sarà probabilmente così lunga da renderlo necessario, mi prenderò la libertà di augurare loro salute e felicità, senza escludere la cugina Elizabeth». Le signore quindi si ritirarono con gli appropriati convenevoli, tutte ugualmente sorprese nell'apprendere che lui meditasse un ritorno a così breve scadenza. Mrs. Bennet accarezzò il desiderio che volesse rivolgere le sue attenzioni a una delle figlie minori, e Mary poteva essere indotta ad accettarle. Tra tutte era quella che aveva il più alto grado di stima verso le qualità del cugino, era rimasta spesso colpita dalla solidità delle sue riflessioni, e sebbene non lo considerasse certo intelligente quanto lei, riteneva che se incoraggiato a leggere e a migliorarsi da un esempio come quello che poteva dargli lei, avrebbe potuto diventare un compagno piacevole. Ma il mattino successivo ogni speranza di questo genere svanì. Miss Lucas arrivò subito dopo la colazione, e in un colloquio a tu per tu con Elizabeth la mise al corrente degli avvenimenti del giorno precedente. Negli ultimi due giorni, la possibilità che Mr. Collins si immaginasse innamorato della sua amica era venuta in mente a Elizabeth. Ma che Charlotte potesse incoraggiarlo le sembrava un'ipotesi lontana quanto quella che potesse incoraggiarlo lei stessa. E il suo sbalordimento fu quindi in un primo momento talmente grande da andare al di là dei confini del decoro, e non poté fare a meno di esclamare «Fidanzata con Mr. Collins! Mia cara Charlotte! È impossibile!» Il contegno che Charlotte si era imposta nel raccontarle la vicenda ebbe un momentaneo cedimento nel ricevere un rimprovero così diretto. Ma visto che non era nulla di più di quanto si fosse aspettata, si riprese subito e replicò con calma «Perché mai ti sorprendi, mia cara Eliza? Ritieni incredibile che Mr. Collins possa essere capace di procurarsi la stima di una donna solo perché non è stato così fortunato da meritarsi la tua!» Ma Elizabeth si era ormai ricomposta, e facendo uno sforzo enorme fu in grado di assicurarle con discreta fermezza che la prospettiva di quel legame le era estremamente gradita e che le augurava tutta la felicità immaginabile. «So quello che provi», replicò Charlotte. «Sei sorpresa, molto sorpresa. È passato così poco tempo da quando Mr. Collins voleva sposare te. Ma quando avrei avuto il tempo di rifletterci un po' su, spero che capirai quello che ho fatto. Non sono romantica, lo sai. Non lo sono mai stata. Voglio solo una casa confortevole e considerato il carattere, le relazioni sociali e la posizione di Mr. Collins, sono convinta che le possibilità di essere felice con lui siano favorevoli quanto quella delle maggior parte delle persone che iniziano la loro vita matrimoniale». Elizabeth rispose pacatamente «Senza dubbio». E dopo una pausa imbarazzata, tornarono dal resto della famiglia. Charlotte non restò a lungo, ed Elizabeth fu quindi lasciata alle sue riflessioni su quanto aveva appreso. Ci volle un bel po' prima di riuscire a riconciliarsi con l'idea di un'unione così inappropriata. La stranezza delle due offerte di matrimonio fatte da Mr. Collins in tre giorni non era nulla in confronto al fatto che ora fosse stato accettato. Aveva sempre intuito che l'opinione di Charlotte nei confronti del matrimonio non fosse esattamente come la sua, ma non avrebbe mai immaginato la possibilità che, una volta chiamata a decidere, avrebbe sacrificato ogni suo sentimento migliore a favore di vantaggi materiali. Charlotte, moglie di Mr. Collins, era un quadro umiliante. E alla sofferenza di vedere un'amica abbassarsi e perdere la sua stima, si aggiungeva la penosa convinzione che sarebbe stato impossibile per quell'amica essere anche solo in parte felice nel destino che si era scelta. Capitolo ventitresimo. Elizabeth era seduta con la madre e le sorelle, riflettendo su quanto aveva saputo e incerta se fosse autorizzata a parlarne, quando apparve Sir William Lucas in persona, mandato dalla figlia ad annunciare il fidanzamento alla famiglia. Con molti convenevoli e molto autocompiacimento per la prospettiva di una parentela tra le due famiglie, espose la faccenda a un uditorio non solo meravigliato, ma soprattutto incredulo. Mrs. Bennet, con più perseveranza che educazione, affermò che doveva essersi completamente sbagliato. E Lydia, sempre impulsiva e spesso sgarbata, esclamò con impeto. «Buon Dio! Sir William, come potete raccontare una storia del genere? Non lo sapete che Mr. Collins vuole sposare Lizzie?» Nulla di meno che la condiscendenza di uomo abituato a corte avrebbe potuto tollerare senza irritarsi un simile trattamento. Ma le buone maniere di Sir William gli fecero superare tutto. E sebbene insistesse nell'essere certo della veridicità della sua comunicazione, ascoltò tutte le loro insolenze con la più indulgente delle cortesie. Elizabeth, sentendosi in dovere di sollevarlo da una situazione così spiacevole, si fece avanti per confermare il racconto, rivelando che lo aveva già saputo dalla stessa Charlotte, e sforzandosi di mettere un freno alle esclamazioni della madre e delle sorelle con fervide congratulazioni a Sir William, alle quali si unì subito Jane e facendo svariate osservazioni sulla felicità che ci si poteva aspettare da quel matrimonio, sull'eccellente carattere di Mr. Collins e sulla vicinanza tra Hansford e Londra. Mrs. Bennet era in effetti troppo sopraffatta per dire un granché durante la visita di Sir William, ma non appena lui se ne fu andato, diede subito la stura ai suoi sentimenti. In primo luogo si ostinò a negare l'intera faccenda. Secondo, era sicurissima che Mr. Collins fosse stato raggirato. Terzo, era convinta che non sarebbero mai stati felici insieme. E quarto, che probabilmente il matrimonio sarebbe andato a monte. Due conclusioni, tuttavia, si potevano chiaramente trarre dall'intera vicenda. Una, che Elizabeth era stata la vera causa di quel pasticcio, e l'altra, che lei stessa era stata trattata da tutti loro in modo vergognoso, e per il resto della giornata indugiò soprattutto su questi due punti. Nulla poteva consolarla o calmarla. Né si limitò a quel giorno nell'esternare il proprio risentimento. Passò una settimana prima che potesse vedere Elizabeth senza rimproverarla. Trascorse un mese, prima che potesse parlare con Sir William o Lady Lucas senza essere sgarbata. E ci vollero molti mesi prima di poter perdonare del tutto la figlia. Le emozioni di Mr. Bennet sull'accaduto furono molto più pacate. E quelle che provò furono da lui stesso dichiarate estremamente piacevoli, poiché si era sentito soddisfatto, disse, nello scoprire come Charlotte Lucas, che aveva sempre ritenuto discretamente intelligente, fosse sciocca come la moglie, e più sciocca delle sue figlie. Jane ammise di essere un po' sorpresa da quel matrimonio, ma parlò più del fervido desiderio che fossero felici che del proprio stupore. Né Elizabeth riuscì a persuaderla a considerarla una cosa poco probabile. Kitty e Lydia erano ben lungi dall'invidiare Miss Lucas, visto che Mr. Collins era solo un ecclesiastico e la vicenda non le interessava se non come una notizia da diffondere a Meryton. Lady Lucas non era certo insensibile al trionfo di poter rinfacciare a Mrs. Bennet la consolazione di avere una figlia ben maritata, e fece visita a Longbourn molto più spesso del solito, per dire quanto fosse felice, sebbene gli sguardi pieni di acrimonia e gli acidi commenti di Mrs. Bennet sarebbero bastati a scacciare qualsiasi felicità. Tra Elizabeth e Charlotte si instaurò un riservo che le portò a mantenere il silenzio sull'argomento, ed Elizabeth si convinse che tra loro non avrebbe più potuto esserci una vera confidenza. La delusione nei confronti di Charlotte la fece rivolgere con maggiore affetto alla sorella, certa che la stima che provava della sua rettitudine e delicatezza non sarebbe mai potuta venire meno, e ogni giorno più ansiosa per la sua felicità, dato che Bingley era ormai partito da una settimana e non si era saputo nulla del suo ritorno. Jane aveva mandato a Carolyn una breve risposta alla sua lettera, e contava i giorni entro i quali poteva ragionevolmente sperare di risentirla. La lettera di ringraziamenti, promessa da Mr. Collins, arrivò il martedì, indirezzata al padre e scritta con la solenne gratitudine che avrebbe potuto ispirare un soggiorno di un anno. Dopo essersi scaricato la coscienza su questo punto, procedete a informarli, con molte espressioni estatiche, della sua felicità nell'aver conquistato l'affetto della loro amabile vicina, Miss Lucas, e poi spiegò che era stato al solo scopo di godere della sua compagnia, che aveva prontamente accettato il loro cortese invito di rivederlo a Longbourn, dove sperava di poter tornare il lunedì da lì a quindici giorni, poiché Lady Catherine, aggiunse, aveva approvato così calorosamente il suo matrimonio da esprimere il desiderio che avesse luogo il prima possibile. Il che lui confidava sarebbe stato un inoppugnabile argomento, affinché la sua amabile Charlotte fissasse una data molto prossima per renderlo il più felice degli uomini. Il ritorno di Mr. Collins nell'Airfordshire non era più fonte di gioia per Mrs. Bennet. Al contrario, era molto propensa a lamentarsene quanto il marito. Era molto strano che venisse a Longbourn invece che a Lucas Lodge. Era anche molto imbarazzante ed estremamente seccante. Detestava avere ospiti in casa, mentre la sua salute era così malferma e gli innamorati erano le persone più sgradevoli di tutte. Tali erano i garbati borbottii di Mr. Bennet, che cedevano il passo solo all'estrema afflizione dovuta alla perdurante assenza di Mr. Bingley. Né Jane né Elisabeth si sentivano serene su questo argomento. I giorni passavano senza che giungesse nessuna notizia di lui, se non le voci che in breve si diffusero a Meryton sul fatto che non sarebbe tornato a Netherfield per tutto l'inverno. Voci che esasperavano Mrs. Bennet e che lei non mancava mai di bollare come scandalose falsità. Persino Elisabeth cominciava ad avere dei timori, non che Bingley fosse indifferente, ma che le sorelle riuscissero a tenerlo lontano. Restia come era ad ammettere un'idea così devastante per la felicità di Jane e così disonorevole circa la costanza del suo innamorato, non poteva fare a meno di pensarci spesso. Gli sforzi riuniti delle due insensibili sorelle e dell'amico così influente, favoriti dal fascino di Miss Darcy e dai divertimenti di Londra, potevano dimostrarsi troppo, così temeva, per la forza del suo affetto. Quanto a Jane, la sua ansia per quell'incertezza era, naturalmente, più penosa di quella di Elisabeth, ma qualsiasi cosa provasse aveva solo voglia di nasconderla, e quindi tra lei e Elisabeth non c'erano mai allusioni a quell'argomento. Ma la madre non era trattenuta da una delicatezza del genere. Difficilmente passava un'ora senza che parlasse di Bingley, che esprimesse la sua impazienza per il suo ritorno, o persino che chiedesse a Jane di ammettere che se non fosse tornato si sarebbe sentita trattata molto male. Ci volle tutta la mite fermezza di Jane per sopportare quegli attacchi con accettabile tranquillità. Mr. Collins tornò con molta puntualità il lunedì di due settimane dopo, ma non fu certo accolto a Longburn come lo era stato la prima volta. Era troppo felice, tuttavia, per farci troppo caso, e fortunatamente per gli altri le sue occupazioni di innamorato li liberarono per la maggior parte del tempo dalla sua compagnia. Quasi tutto il giorno lo passava a Lucas Lodge, e talvolta tornava a Longburn solo in tempo per scusarsi della sua assenza prima che la famiglia andasse a dormire. Mrs. Bennet era davvero in uno stato pietoso. La sola menzione di qualsiasi cosa che riguardasse il matrimonio la gettava in un parossismo di cattivo umore, e dovunque andasse era certa di sentirne parlare. La vista di Miss Lucas le era odiosa. La considerava con gelosa avversione come colei che sarebbe subentrata in casa sua. Ogni qualvolta Charlotte faceva loro visita, lei ne deduceva che stesse pregustando il momento di entrarne in possesso. E ogni qualvolta parlava a bassa voce con Mr. Collins, era sicura che stessero parlando della proprietà di Longburn e stessero decidendo di cacciare di casa lei e le figlie, non appena Mr. Bennet fosse morto. Si lamentò amaramente di tutto questo con il marito. È davvero molto duro, Mr. Bennet, disse. Pensare che Charlotte Lucas debba diventare la padrona di questa casa, che io debba essere costretta ad andarmene per lei e a vivere per vederla prendere il mio posto. Mia cara, non ti abbandonare a pensieri così tristi. Cerchiamo di sperare per il meglio, cerchiamo di illuderci che sia io a sopravviverti. Ciò non era molto consolante per Mrs. Bennet e quindi, invece di rispondere, proseguì come prima. Non riesco a pensare che debbano avere tutta questa proprietà. Se non fosse per il vincolo non ci penserei proprio. A che cosa non penseresti? Non penserei a nulla. Allora dobbiamo essere riconoscenti per il fatto che tu sia protetta da una tale indifferenza. Non potrò mai essere riconoscente, Mr. Bennet, per nulla che riguardi il vincolo. Come si può avere la coscienza di sottrarre una proprietà alle proprie figlie? Non riesco a capirlo. È tutto a beneficio di Mr. Collins per di più. Perché dovrebbe essere lui ad avere più di qualsiasi altro? Lascio a te deciderlo, disse Mr. Bennet. Capitolo ventiquattresimo. La lettera di Miss Bingley arrivò e mise fine a ogni dubbio. Già nella prima frase c'era la conferma di come si fossero tutti stabiliti a Londra per l'inverno e si concludeva con il rammarico del fratello per non aver avuto il tempo di porgere i propri omaggi ai suoi amici nell'Airflashire prima di partire dalla campagna. La speranza era svanita, completamente svanita. E quando Jane riuscì a prestare attenzione al resto della lettera, trovò poco, salvo l'affetto professato dalla scrivente, in grado di darle un qualche conforto. Le lodi per Miss Darcy ne occupavano gran parte. Le sue molte attrattive erano di nuovo in primo piano e Carolyn si vantava con gioia della loro crescente intimità e si azzardava a prevedere la realizzazione dei desideri rivelati nella lettera precedente. Scriveva anche con grande piacere del fratello ormai ospite fisso della casa di Mr. Darcy e menzionava con rapimento alcuni progetti di quest'ultimo a proposito di nuovi arredamenti. Elizabeth, alla quale Jane comunicò molto presto gran parte di tutto ciò, ascoltò in un indignato silenzio. Il suo cuore era diviso tra la preoccupazione per la sorella e il risentimento verso tutti gli altri. Alle affermazioni di Carolyn sulla predilezione del fratello per Miss Darcy non dava alcun credito. Che fosse in realtà innamorato di Jane non lo metteva in dubbio più di quanto non avesse mai fatto e per quanto fosse ancora disposta come sempre a farselo piacere, non poteva pensare senza rabbia, a malapena senza disprezzo, a quella leggerezza di carattere, a quella mancanza di appropriata fermezza che lo rendeva schiavo di amici intriganti e lo induceva a sacrificare la sua felicità al capriccio dei loro desideri. Se tuttavia fosse stata solo la sua felicità a essere sacrificata, avrebbe potuto giocarci come meglio credeva, ma era coinvolta anche quella della sorella e riteneva che lui stesso dovesse esserne consapevole. Insomma, era un argomento sul quale si sarebbe potuto riflettere a lungo, anche se forse inutilmente. Non riusciva a pensare ad altro, e sia che l'affetto di Bingley si fosse davvero spento o che fosse stato soffocato dall'ingerenza dei suoi amici, sia che fosse stato consapevole dei sentimenti di Jane o che fossero sfuggiti alla sua osservazione, in ogni caso, anche se il giudizio sarebbe stato concretamente influenzato nelle diverse ipotesi, la situazione della sorella restava la stessa, la sua pace ugualmente ferita. Passarono un paio di giorni prima che Jane trovasse il coraggio di parlare dei propri sentimenti a Elizabeth, ma alla fine, lasciati da sole da Mrs. Bennet, dopo uno sfogo più lungo del solito su Netherfield e il suo padrone, non poteva fare a meno di dire «Oh, se la mia cara madre si controllasse di più, non hai idea di quanta pena mi diano le sue continue considerazioni su di lui, ma non mi voglio lamentare, non durerà a lungo, sarà dimenticato e torneremo a essere tutti come prima». Elizabeth guardò la sorella con affettuosa incredulità, ma non disse nulla. «Tu dubiti di me?» esclamò Jane con un lieve rossore. «Non ne hai davvero motivo. Vivrà nel mio ricordo come l'uomo più amabile che abbia mai conosciuto, ma questo è tutto. Non ho nulla da sperare né da temere e nulla da rimproverargli. Grazie a Dio, quella pena non ce l'ho. Un po' di tempo, quindi, e sicuramente cercherò di fare del mio meglio». Subito dopo, con voce più salda, aggiunse «Ho questo, di conforto immediato, che non è stato altro che un errore della mia fantasia e che non ho ferito nessuno se non me stessa». «Oh mia cara Jane!» esclamò Elizabeth. «Sai troppo buona. La tua dolcezza e la tua imparzialità sono davvero angeliche. Non so che cosa dirti. Mi sento come se non ti avessi mai reso giustizia o amata come meriti». Miss Bennet rigettò con ardore tutti quei meriti straordinari e attribuì l'elodia all'affetto della sorella. «No», disse Elizabeth, «non è così. Tu ami ritenere tutti rispettabili e ti senti ferita se parlo male di qualcuno. Io voglio solo ritenere te perfetta e tu lo neghi. Non temere che io possa esagerare, che possa usurpare il tuo privilegio di considerare tutti buoni. Non ne hai bisogno. Sono poche le persone che amo davvero e ancora meno quelle che stimo. Più conosco il mondo, più ne sono insoddisfatta. E ogni giorno mi conferma nelle mie certezze sull'incoerenza della natura umana e su quanto si possa fare poco affidamento in ciò che appare merito e buonsenso. Di recente ne ho avuto due esempi. Del primo non ne parlerò. Il secondo è il matrimonio di Charlotte. È inspiegabile, inspiegabile da ogni punto di vista. Oh, mia cara Lizzie, non abbandonarti a giudizi come questi. Distruggeranno la tua felicità. Non tieni abbastanza conto delle differenze di situazione e di temperamento. Considera la rispettabilità di Mr. Collins e il carattere fermo e prudente di Charlotte. Ricordati che fa parte di una famiglia numerosa che dal punto di vista economico è un matrimonio molto vantaggioso e devi essere propensa a credere, per il bene di tutti, che lei possa provare qualcosa come rispetto e stima nei riguardi di nostro cugino. Per far piacere a te potrei sforzarmi di credere a quasi tutto, ma nessun altro potrebbe essere il beneficiario di una certezza del genere. Poiché se mi convincessi che Charlotte ha una qualsiasi forma di stima verso di lui, potrei solo avere un'opinione peggiore della sua intelligenza di quella che ho adesso del suo cuore. Mia cara Jane, Mr. Collins è un uomo presuntuoso, tronfio, gretto e sciocco. Sai che è così, quanto lo so io. E devi essere convinta, come lo sono io, che la donna disposta a sposarlo non può avere un giusto modo di pensare. Non devi difenderla solo perché è Charlotte Lucas. Non devi, per salvare una persona, cambiare il significato della rettitudine e dell'integrità morale, né sforzarti di persuadere me o te stessa che l'egoismo sia prudenza e l'incoscienza del pericolo sicurezza di felicità. Credo che il tuo modo di esprimerti sia troppo severo nei confronti di tutti e due, replicò Jane. E spero te ne renderai conto quando li vedrai felici insieme. Ma basta con questi discorsi. Hai accennato a qualcos'altro. Hai parlato di due esempi. Non posso certo fraintenderti, ma ti prego, cara Lizzie, di non farmi soffrire pensando che quella persona sia da appiasimare e dicendo che la tua stima per lui è scaduta. Non dobbiamo subito immaginare di essere stati offesi intenzionalmente. Non possiamo aspettarci che un giovanotto sia sempre così guardingo e circospetto. Molto spesso è solo la nostra vanità a ingannarci. Le donne immaginano che l'ammirazione significhi più di quanto sia in realtà. E gli uomini si danno da fare perché sia così. Se lo fanno intenzionalmente, non possono essere giustificati. Ma non credo che al mondo ci siano così tante cattive intenzioni come immaginano certe persone. Lungi da me attribuire minimamente la condotta di Mr. Bingley a cattive intenzioni, disse Elizabeth. Ma senza avere l'intento di fare del male o di rendere infelici gli altri, si può sbagliare e si può far soffrire. Non curanza, mancanza di attenzione per i sentimenti degli altri e mancanza di fermezza. Bastano e avanzano. E tu imputi quanto è accaduto all'una o all'altra di queste cose? Sì, all'ultima. Ma se proseguo ti darò un dispiacere, dicendoti che cosa penso di persone che stimi. Fermami finché sei in tempo. Allora insisti nel ritenere che siano le sorelle a influenzarlo? Sì, in combutta con il suo amico. Ma non posso crederci. Perché dovrebbero cercare di influenzarlo? Possono solo desiderare la sua felicità e se lui è innamorato di me, nessun'altra donna potrà assicurargliela. La tua premessa è falsa. Possono desiderare molte cose oltre alla sua felicità. Possono desiderare che incrementi la sua ricchezza e la sua posizione sociale. Possono desiderare che sposi una ragazza che abbia tutto il prestigio della ricchezza, delle parenteli illustri e dell'orgoglio. Senza alcun dubbio, desiderano che scelga amistarsi, replicò Jane. Ma questo può derivare da sentimenti migliori di quanto immagini tu. La conoscono da molto più tempo di me. Non c'è da meravigliarsi se l'amano di più. Ma, quali che siano i loro desideri, è molto improbabile che siano in contrasto con quelli del fratello. Quale sorella si prenderebbe la libertà di farlo, a meno che non ci fosse qualcosa di molto serio da obiettare. Se lo ritenessero innamorato di me, non cercherebbero di separarci. E se fosse così, non ci riuscirebbero. Nel supporre un affetto del genere, rendi i comportamenti di tutti innaturali e ingiusti. E rendi me infelice. Non farmi soffrire con questa idea. Non mi vergogno di essermi sbagliata. O almeno, è ben poca cosa. È nulla in confronto a ciò che proverei nel pensare male di lui o delle sorelle. Fammi vedere le cose nella luce migliore, in una luce che possa rendermele comprensibili. Elisabeth non poteva opporsi a un desiderio del genere, e da quel momento il nome di Mr. Bingley non fu quasi mai pronunciato tra di loro. Mrs. Bennet continuava ancora a meravigliarsi e allagnarsi di quel mancato ritorno, e sebbene raramente passasse un giorno senza che Elisabeth non lo giustificasse con chiarezza, sembravano esserci poche speranze di farle pensare alla cosa con meno perplessità. La figlia si sforzava di convincerla di qualcosa a cui lei stessa non credeva, ovvero che le sue attenzioni per Jane erano state solo l'effetto di una normale ed effimera simpatia, cessata quando non c'erano più state occasioni per vedersi. Ma sebbene col tempo ci fosse stata un'ammissione circa questa possibilità, lei non faceva che ripetere tutti i giorni le stesse cose. La consolazione maggiore per Mrs. Bennet era che Mr. Bingley sarebbe certamente tornato in estate. Mr. Bennet trattò la faccenda in modo diverso. E così Lizzie disse un giorno, vedo che tua sorella ha avuto una delusione d'amore. Mi congratulo con lei. Prima di sposarsi a una ragazza fa piacere avere di tanto in tanto una delusione d'amore. È qualcosa a cui pensare e le concede una certa distinzione tra le amiche. Quando verrà il tuo turno, non puoi certo sopportare di essere superata da Jane. Ora tocca a te. Qui a Meriton ci sono abbastanza ufficiali da deludere tutte le signorine nei dintorni. Wickham sarebbe perfetto per te. È una persona piacevole e ti pianterebbe con molto stile. Grazie signore, ma mi andrebbe bene anche un uomo meno simpatico. Non possiamo aspettarci tutte la fortuna di Jane. È vero, disse Mr. Bennet. Ma è consolante pensare che qualsiasi cosa ti possa capitare. Hai una madre affezionata che valorizzerà tutto al massimo grado. La compagnia di Mr. Wickham fu di concreta utilità per fugare la malinconia nella quale le ultime sfortunate vicende avevano gettato molti della famiglia di Longburn. Lo vedevano spesso e alle sue altre qualità si era adesso aggiunta quella di una completa mancanza di riservo. L'intera vicenda già esposta a Elizabeth, le sue affermazioni circa Mr. Darcy e tutto ciò che aveva sofferto a causa sua furono espresse apertamente e rese di dominio pubblico. E tutti furono soddisfatti pensando a quanto avessero sempre ritenuto antipatico Mr. Darcy prima di venire a conoscenza dell'intera questione. Miss Bennet era la sola creatura in grado di immaginare che potesse esserci qualche circostanza attenuante nella faccenda, ignota alla società dell'Airforshire. Il suo mite e fermo candore adduceva sempre delle giustificazioni e insisteva sulla possibilità che ci fossero dei malintesi, ma da tutti gli altri Mr. Darcy era condannato come il peggiore degli uomini. Capitolo venticinquesimo Dopo una settimana passata in professioni d'amore e progetti di felicità, Mr. Collins fu allontanato dalla sua amabile Charlotte dall'arrivo del sabato. Da parte sua, tuttavia, la pena della separazione poteva essere alleviata dai preparativi per accogliere la sposa, dato che aveva motivo di sperare che subito dopo il suo prossimo ritorno nell'Airforshire sarebbe stato fissato il giorno che l'avrebbe reso il più felice degli uomini. Prese congedo dai suoi parenti di Longbourn con la stessa solennità della prima volta, augurò di nuovo alle belle cugine salute e felicità e promise al padre un'altra lettera di ringraziamenti. Il lunedì successivo, Mrs. Bennet ebbe il piacere di accogliere il fratello e la moglie, che venivano come al solito a passare il Natale a Longbourn. Mr. Gardiner era un uomo assennato e distinto, di gran lunga superiore alla sorella tanto per indole quanto per educazione. Le signore di Netherfield avrebbero avuto difficoltà a credere che un uomo che viveva di commercio, con i suoi magazzini a portata di mano, potesse essere così ben educato e gradevole. Mrs. Gardiner, che aveva qualche anno in meno di Mrs. Bennet e Mrs. Phillips, era una donna amabile, intelligente ed elegante, ed era la preferita da tutte le sue nipoti di Longbourn. Un legame particolare c'era specialmente con le due maggiori, che erano state spesso sue ospiti a Londra. La prima parte degli impegni di Mrs. Gardiner, una volta arrivata, fu di distribuire i regali e descrivere le ultime novità della moda. Una volta fatto questo, ebbe un ruolo meno attivo da assumere. Era il suo turno di ascoltare. Mrs. Bennet aveva molte pene da riferire e molto da lamentarsi. Da quando aveva visto l'ultima volta la cognata, tutte loro erano state trattate malissimo. Due delle ragazze erano state sul punto di sposarsi e alla fine non se n'era fatto nulla. Non ho nulla da rimproverare a Jane, proseguì, poiché Jane, se avesse potuto, avrebbe accettato Mr. Bingley. Ma Lizzie! Oh, cognata mia, è crudele pensare che in questo momento avrebbe potuto essere la moglie di Mr. Collins, se non fosse stato per la sua ostinazione. Le ha fatto la dichiarazione proprio in questa stanza e lei lo ha rifiutato. E la conseguenza è che Lady Lucas avrà una figlia sposata prima di me e che la tenuta di Longburn è più vincolata che mai. I Lucas sono davvero persone scaltre, cognata mia. Sono sempre pronti ad arraffare tutto. Mi dispiace parlare così di loro, ma è la pura verità. Mi rende nervosa e mi fa stare male a essere contrastata in questo modo nella mia stessa famiglia e avere vicini che pensano a se stessi prima che a chiunque altro. Comunque, il vostro arrivo proprio adesso è un grandissimo conforto e sono molto contenta di sentire quello che dici sulle maniche lunghe. Mrs. Gardiner, che conosceva già gran parte di queste notizie attraverso la corrispondenza con Jane ed Elizabeth, diede una risposta vaga alla cognata e per compassione verso le nipoti, sviò la conversazione. Più tardi, da sola con Elizabeth, parlò più diffusamente di quell'argomento. Sembra che fosse proprio un matrimonio desiderabile per Jane, disse. Mi dispiace che sia andato a monte, ma queste cose succedono talmente spesso. È facile che un giovanotto come il Mr. Bingley che descrivi tu si innamori così facilmente di una bella ragazza per qualche settimana, è altrettanto facile che la dimentichi quando il caso li separa. È un genere di incostanza molto frequente. Un'ottima consolazione per certi versi, disse Elizabeth. Ma non fa al caso nostro. Non abbiamo sofferto per caso. Non succede spesso che l'ingerenza di amici riesca a convincere un giovanotto economicamente indipendente a non pensare più a una ragazza, della quale si era ardentemente innamorato solo poche settimane prima. Ma l'espressione ardentemente innamorato è così trita, così tubbia, così indefinita che mi dice ben poco. È applicata tanto a sentimenti nati solo dopo una mezz'ora di conoscenza quanto a un affetto solido e reale. Dimmi, quanto era ardente l'amore di Mr. Bingley? Non avevo mai visto un'inclinazione più promettente. Era diventato del tutto indifferente agli altri ed era completamente preso da lei. Ogni volta che si incontravano la cosa si faceva più innegabile ed evidente. Al ballo in casa sua ha offeso due o tre signorine non invitandole a ballare. E io stessa gli ho rivolto la parola due volte senza ottenere risposta. Possono esserci sintomi più chiari. Essere sgarbati con tutti non è forse la vera essenza dell'amore. Oh sì, di quel genere di amore che immagino lui provasse. Povera Jane, mi dispiace per lei perché con il suo carattere non è in grado di riprendersi subito. Sarebbe stato meglio se fosse successo a te, Lizzie. Ne saresti uscita molto presto ridendo di te stessa. Ma non pensi che la si possa convincere a venire con noi? Un cambiamento potrebbe farle bene e forse allontanarsi un po' dall'ambiente di casa sarebbe la cosa migliore. Elizabeth fu entusiasta di quella proposta ed era certa che la sorella avrebbe subito acconsentito. Spero, aggiunse Mrs. Gardiner, che non si lasci influenzare da considerazioni riguardanti il giovanotto. Abitiamo in una parte della città così diversa, tutte le nostre relazioni sono così diverse e come ben sai noi usciamo così poco che è molto improbabile che si incontrino, a meno che lui non voglia espressamente farle visita. E questo è assolutamente impossibile perché ora è sotto la tutela del suo amico e Mr. Darcy non potrebbe certo tollerare di vederlo far visita a Jane in quella parte di Londra. Mia cara zia, come potete pensarlo? Mr. Darcy potrebbe forse aver sentito parlare di un posto come Grace Church Street, ma riterrebbe che nemmeno un mese di abluzioni possa essere abbastanza per purificarlo da quell'impurità ove gli capitasse di entrarci. E si può stare certi che Mr. Bingley non si muove mai senza di lui. Molto meglio così, spero che non si incontrino mai. Ma Jane non è in corrispondenza con la sorella, lei non potrà fare a meno di farle visita. Jane troncherà definitivamente la relazione. Ma nonostante le certezze che Elizabeth fingeva di avere su questo punto, come su quello ancora più importante che a Bingley fosse impedito di vedere Jane, sentiva un'ansia sull'argomento che la convinse, riflettendoci su, a non perdere del tutto le speranze. Era possibile, e talvolta lo riteneva probabile, che l'affetto di lui potesse riaccendersi e che l'influenza dei suoi amici potesse essere combattuta con successo dalla più naturale influenza del fascino di Jane. Miss Bennet accettò con piacere l'invito della zia, e i Bingley in quel momento non occupavano i suoi pensieri, se non per la speranza che, non vivendo Carolyn nella stessa casa con il fratello, avrebbe potuto passare di tanto in una mattinata con lei senza alcun rischio di incontrarlo. I Gardiner rimasero una settimana a Longburn, e tra i Phillips, i Lucas e gli ufficiali non ci fu un giorno senza impegni. Mrs. Bennet si era occupata con così tanta cura di intrattenere il fratello e la cognata che non ebbero mai modo di sedersi a tavola per un pranzo in famiglia. Quando restavano in casa, c'erano sempre alcuni degli ufficiali, tra i quali sicuramente Wickham, e in queste occasioni Mrs. Gardiner, insospettita dai calorosi elogi che ne faceva Elizabeth, li osservò entrambi con attenzione. Senza ritenere, da quanto vedeva, che fossero seriamente innamorati, la loro predilezione reciproca era abbastanza evidente da farle nascere qualche preoccupazione. Decise quindi di parlarne a Elizabeth prima di lasciare l'Airfordshire, e di farle presente l'imprudenza di incoraggiare un simile rapporto. Nei confronti di Mrs. Gardiner, Wickham aveva un motivo per rendersi gradito, non legato alle qualità che gli erano generalmente riconosciute. Circa dieci o dodici anni prima, quando non era ancora sposata, aveva trascorso un periodo abbastanza lungo proprio in quella parte del Derbyshire dalla quale lui proveniva. Avevano quindi molte conoscenze in comune, e sebbene Wickham fosse rimasto poco da quelle parti dalla morte del padre di Darcy, cinque anni prima, era ancora in grado di darle notizie più aggiornate su amici di vecchia data, rispetto a quelle che aveva avuto modo di procurarsi lei. Mrs. Gardiner aveva visto Pemberley, e conosceva perfettamente la reputazione del defunto Mr. Darcy. C'erano perciò argomenti inesauribili di conversazione. Facendo il confronto tra i suoi ricordi e le dettagliate descrizioni che era in grado di fornire Wickham, e concedendo il suo tributo di lodi alla reputazione del defunto proprietario, faceva piacere a lui e nello stesso tempo a se stessa. Una volta messa al corrente del trattamento riservato gli dall'attuale Mr. Darcy, cercò di ricordarsi qualcosa di quanto si dicesse al tempo in cui era un ragazzino, che potesse concordare con quel racconto, e alla fine fu certa di ricordarsi di aver sentito parlare in passato di Mr. Fitzwilliam Darcy come di un ragazzo molto orgoglioso e di pessimo carattere. Capitolo ventiseiesimo Le raccomandazioni di Mrs. Gardiner a Elizabeth furono fornite puntualmente e con garbo alla prima occasione utile di parlarle a tu per tu. Dopo aver detto con onestà ciò che pensava, la zia continuò così. Tu sei una ragazza troppo assennata, Lizzie, per innamorarti solo perché ti si dice di non farlo, e quindi non ho paura di parlarti apertamente. Sul serio, vorrei che tu stessi in guardia, non farti coinvolgere o non cercare di coinvolgere lui in un affetto che la mancanza di mezzi renderebbe così tanto imprudente. Non ho nulla da dire contro di lui, è un giovanotto molto interessante e se avessi avuto la fortuna che meritava di avere avrei pensato che non potevi fare una scelta migliore. Ma dato che le cose stanno così, non devi lasciarti trasportare dalla fantasia. Hai buonsenso e tutti noi ci aspettiamo che tu ne faccia uso. Tuo padre fa affidamento sulle tue decisioni e sulla tua condotta, ne sono certa. Non devi deludere tuo padre. Mia cara zia, sembra davvero una cosa seria? Sì, e spero di vederti altrettanto seria. Beh, allora non c'è bisogno che vi mettiate in allarme. Avrò cura di me stessa e anche di Mr. Wickham. Non si innamorerà di me, se posso evitarlo. Elizabeth, ora non sei seria. Vi chiedo scusa, proverò ancora. Al momento non sono innamorata di Mr. Wickham. No, sicuramente non lo sono. Ma lui è, senza possibilità di confronto, l'uomo più piacevole che abbia mai conosciuto. E se si affezionasse sul serio, credo che sarebbe meglio di no. Mi rendo conto dell'imprudenza di tutto questo. Oh, quell'abominevole Mr. Darcy. L'opinione di mio padre mi onora moltissimo e per me sarebbe una sventura deluderla. Mio padre, tuttavia, ha un debole per Mr. Wickham. In breve, mia cara zia, mi dispiacerebbe molto rendere infelice chiunque di voi. Ma dato che tutti i giorni siamo testimoni del fatto che dove c'è affetto i giovani sono raramente trattenuti dalla mancanza di mezzi e impegnarsi in un fidanzamento, come posso promettere di essere più saggia di così tanti dei miei simili se fossi tentata? O come faccio a sapere se sarebbe davvero saggio resistere? Tutto quello che posso promettervi perciò è di non avere fretta. Non avrò fretta nel credermi il suo principale pensiero. Quando sarò in sua compagnia, non mi farò venire il desiderio di esserlo. In breve, farò del mio meglio. «Forse sarà anche bene scoraggiarlo dal venire qui così spesso. O almeno non dovresti rammentare a tua madre di invitarlo». «Come ho fatto l'altro giorno», disse Elizabeth con un sorriso colpevole. «Tutto vero. Sarà saggio da parte mia a stenermi dal farlo. Ma non dovete immaginare che sia qui così spesso. In questa settimana è stato invitato così di frequente a causa vostra. Conoscete le idee di mia madre sulla necessità che ci sia costantemente compagnia per i suoi ospiti. Ma sul serio e sul mio onore cercherò di fare quello che riterrò più saggio. E ora spero che siate soddisfatta». La zia le assicurò di sì. E dopo che Elizabeth l'ebbe ringraziata per la gentilezza dei suoi suggerimenti, si separarono. Uno straordinario esempio di consiglio dato su un tema del genere senza suscitare risentimento. Mr. Collins tornò nell'Airflashire subito dopo la partenza dei Gardiner e di Jane, ma dato che aveva preso alloggio dai Lucas, il suo arrivo non arrecò troppo disturbo a Mrs. Bennet. Il matrimonio si stava avvicinando rapidamente e ormai era talmente rassegnata da ritenerlo inevitabile. E disse persino, in tono maldisposto, che si augurava che potessero essere felici. Il giovedì sarebbe stato il giorno delle nozze e il mercoledì Miss Lucas fece la sua visita di addio. E quando si alzò per prendere congedo, Elizabeth, vergognandosi degli auguri sgarbati e stentati della madre mentre lei era sinceramente commossa, l'accompagnò fuori dalla stanza. Mentre scendevano le scale, Charlotte disse, conto di avere molto spesso notizie da te, Eliza. Le riceverai senz'altro. E ho un altro favore da chiederti. Verrai a trovarmi? Ci vedremo spesso, spero, nell'Airflashire. È improbabile che possa lasciare il Kent prima di qualche tempo. Promettimi, quindi di venire a Hansford. Elizabeth non poteva rifiutare, anche se prevedeva che la visita le avrebbe arrecato ben poco piacere. «Mio padre e Maria verranno a marzo», aggiunse Charlotte. «E spero che accetterai di essere della compagnia. Davvero, Eliza, per me sarai la benvenuta quanto loro». Le nozze ebbero luogo. La sposa e lo sposo partirono per il Kent direttamente dalla chiesa, e tutti, come al solito, ebbero molto da dire e da ascoltare su quell'argomento. Elizabeth ebbe presto notizie dall'amica, e la loro corrispondenza fu regolare e frequente come prima. Che fosse ugualmente confidenziale era impossibile. Elizabeth non avrebbe potuto più rivolgersi a lei senza sentire che tutta la gioia dell'intimità era ormai svanita, e sebbene decisa a non rallentare quella corrispondenza, le scriveva per ciò che era stato, più che per ciò che era. La prima lettera di Charlotte fu accolta con molta impazienza. Non poteva non esserci la curiosità di sapere come avrebbe parlato della sua nuova casa, come le era sembrata Lady Catherine, e fino a che punto avrebbe osato dichiararsi felice. Ma una volta letta la lettera, Elizabeth si rese conto di come Charlotte si espremesse su tutto, esattamente come lei avrebbe potuto prevedere. Scriveva in modo gioioso, sembrava circondata dalle comodità e non menzionava nulla che non fosse degno di elogio. La casa, il mobilio, il vicinato, le strade, tutto era di suo gusto, e il comportamento di Lady Catherine era molto amichevole e cortese. Era il ritratto di Hansford e di Rosings, fatto da Mr. Collins opportunamente ammorbidito, ed Elizabeth capì che avrebbe dovuto aspettare di andare là di persona per conoscere il resto. Jane aveva già scritto qualche rigo alla sorella per annunciare di essere arrivata sana e salva a Londra, e quando scrisse di nuovo, Elizabeth sperava che sarebbe stata in grado di dire qualcosa dei Bingley. La sua impazienza per la seconda lettera fu ripagata come generalmente avviene con l'impazienza. Jane era da una settimana in città senza aver né visto né sentito Carolyn. Tuttavia giustificava la cosa supponendo che la sua ultima lettera da Longbourn all'amica fosse per qualche motivo andata smarrita. «La zia», proseguiva, «andrà domani in quella zona di Londra e io coglierò l'occasione per far visita a Grosvenor Street», scrisse di nuovo dopo aver fatto quella visita e aver incontrato Miss Bingley. «Non ho trovato Carolyn di buon umore», furono le sue parole, «ma è stata molto contenta di vedermi e mi ha rimproverata per non averla informata del mio arrivo a Londra. Era vero, quindi, che non aveva mai ricevuto la mia lettera. Naturalmente le ho chiesto del fratello. Sta bene, ma è talmente impegnato con Mr. Darcy che in pratica non lo vedono mai». Ho scoperto che Miss Darcy era attesa per pranzo. Mi sarebbe piaciuto poterla incontrare. La mia visita non è stata lunga, dato che Carolyn e Mrs. Arst stavano uscendo. «Credo proprio che verranno presto a trovarmi». Elizabeth scosse la testa sulle parole di quella lettera. La convinse che solo per caso Mr. Bingley avrebbe potuto sapere della presenza in città della sorella. Trascorsero quattro settimane e Jane non seppe nulla di lui. Cercava di convincersi a non provare alcun rammarico, ma non poteva più a lungo restare cieca di fronte alla non curanza di Miss Bingley. Dopo averla aspettata ogni mattina per quindici giorni e avere scogitato ogni pomeriggio una scusa nuova, alla fine l'ospite apparve. Ma la brevità della visita e, ancora di più, il cambiamento nei suoi modi non permisero a Jane di ingannarsi oltre. La lettera che scrisse alla sorella in quell'occasione era una prova di ciò che sentiva. «La mia, carissima Lizzi, sarebbe incapace, ne sono certa, di esultare a mie spese per aver giudicato meglio, se confesso di essermi completamente ingannata circa il riguardo di Miss Bingley verso di me. Ma, mia cara sorella, sebbene gli eventi ti abbiano dato ragione, non credermi ostinata se continuo ad affermare che, considerato quale era stato il suo comportamento, la mia fiducia era naturale quanto i tuoi sospetti. Non riesco a capire i motivi che ha avuto per voler essere in rapporti così stretti con me. Ma se si verificassero di nuovo le stesse circostanze, sono sicura che sarei di nuovo ingannata. Carolyn non ha ricambiato la visita fino a ieri e nel frattempo non ho ricevuto nemmeno un biglietto, nemmeno un rigo. Quando è venuta era molto evidente come non provassi alcun piacere in quella visita. Mi ha fatto delle scuse frettolose e formali per non essere venuta prima, senza dire una parola per augurarsi di rivedermi. Ed era sotto tutti gli aspetti una persona talmente diversa che quando se n'è andata ero già fermamente decisa a non proseguire oltre in questa amicizia. La compatisco, anche se non posso fare a meno di biasimarla. Ha sbagliato davvero molto a mostrare quella predilezione verso di me. Posso dire con sicurezza che tutti i tentativi di intimità sono iniziati da lei, ma la compatisco. Perché deve rendersi conto di come abbia agito male e perché sono sicurissima che la causa è stata la preoccupazione per il fratello. Non c'è bisogno che mi dilunghi oltre. E anche se noi sappiamo che questa preoccupazione è del tutto superflua, il fatto che lei la provi spiega il suo comportamento nei miei confronti. E lui merita talmente di essere caro a sua sorella che qualunque preoccupazione lei possa provare è naturale e dettata dall'affetto. Non posso che stupirmi tuttavia delle sue paure attuali, perché se lui fosse stato davvero interessato a me ci saremmo dovuti incontrare da molto, molto tempo. Lui sa che sono in città, ne sono certa da delle cose che ha detto lei. Eppure mi è sembrato, dai suoi modi di esprimersi, come se volesse convincersi che il fratello nutra davvero una predilezione per misdarsi. Non riesco a capire. Se non temessi di giudicare in modo affrettato, sarei quasi tentata di dire che in tutto questo c'è un bel po' di apparente doppiezza. Ma devo fare tutto il possibile per bandire ogni pensiero penoso e pensare solo a ciò che può rendermi felice, il tuo affetto e l'immutabile gentilezza dei miei cari zii. Fatti sentire prestissimo. Miss Bingley ha detto qualcosa sul fatto che lui non tornerà a Netherfield, che lascerà la casa, ma senza alcuna certezza. Meglio non parlarne. Sono molto contenta che tu abbia ricevuto un resoconto così piacevole dai nostri amici di Hansford. Ti prego, vai a trovarli con Sir William e Maria. Sono sicura che ti troverai molto bene là. Tua, eccetera. Questa lettera rattristò un po' Elizabeth, ma si consolò pensando che Jane non sarebbe stata più ingannata, almeno dalla sorella. Tutte le speranze nei confronti del fratello erano ormai completamente svanite. Non si augurava nemmeno che ci fosse una qualche ripresa delle sue attenzioni. Il suo carattere perdeva valore a ogni nuovo esame. E come punizione per lui, così come a possibile beneficio di Jane, sperava seriamente che sposasse davvero la sorella di Mr. Darcy, visto che da quanto ne aveva detto Wickham, gli avrebbe abbondantemente fatto rimpiangere ciò che aveva gettato via. Più o meno in quel periodo, Mrs. Gardiner rammentò a Elizabeth la promessa che aveva fatto circa quel gentiluomo e chiese notizie. Elizabeth ne aveva di notizie da mandare, ma erano tali da far piacere alla zia più che a lei. L'apparente predilezione di lui si era smorzata, le sue attenzioni si erano dileguate. Ora corteggiava un'altra. Elizabeth era abbastanza vigile da vedere tutto, ma poteva vedere e scriverne senza soffrirne concretamente. Il suo cuore era stato toccato in modo blando e la sua vanità fu soddisfatta dalla certezza che lei sarebbe stata la prescelta se i mezzi economici l'avessero permesso. L'improvviso arrivo di 10.000 sterline era l'attrattiva più considerevole della signorina alla quale lui stava cercando di rendersi gradito. Ma Elizabeth, forse meno lucida in questo caso rispetto a quello di Charlotte, non trovava nulla da ridire sul suo desiderio di indipendenza economica. Al contrario, nulla poteva essere più naturale. E mentre poteva supporre che rinunciare a lei gli sarebbe costato qualche sforzo, era pronta a considerarla una scelta saggia e desiderabile per entrambi, ed era in grado di augurargli con molta sincerità di essere felice. Tutto questo fu portato a conoscenza di Mrs. Gardiner e dopo aver riferito i fatti, Elizabeth proseguiva così. Ora sono convinta, mia cara zia, di non essere mai stata molto innamorata, poiché se avessi davvero sperimentato quella passione così nobile e pura, adesso dovrei detestare perfino il suo nome e augurargli ogni male. Ma i miei sentimenti sono non solo cordiali verso di lui, sono perfino obiettivi verso Miss King. Non mi sento affatto di odiarla o di essere minimamente restia a ritenerla un'ottima ragazza. In questo non può davvero esserci amore. La mia prudenza è stata efficace e sebbene sarei sicuramente stata più interessante agli occhi dei miei conoscenti, se fossi stata follemente innamorata di lui, non posso affermare di rammaricarmi per questa mia relativa insignificanza. La fama talvolta si paga troppo cara. Kitty e Lydia hanno preso a cuore la sua defezione molto più di me. Sono inesperte delle cose del mondo e non ancora consapevoli della mortificante realtà che i giovanotti belli debbano avere qualcosa per vivere, esattamente come quelli brutti. Capitolo 27. Con avvenimenti non più significativi di questi e con non maggiori diversivi delle passeggiate a Meryton, a volte nel fango e a volte nel gelo, la famiglia di Longbourn passò i mesi di gennaio e febbraio. Marzo doveva condurre Elizabeth a Hansford. Dapprima non aveva pensato seriamente di andarci, ma Charlotte, scoprì presto, ci teneva molto e lei stessa cominciò gradualmente a considerare la cosa con maggior piacere e maggior certezza. La separazione aveva accresciuto il desiderio di rivedere Charlotte e attenuato l'avversione per Mr. Collins. Il progetto prometteva novità e dato che, con una madre del genere e sorelle di così poca compagnia, in famiglia non mancavano certo i difetti, un piccolo cambiamento non le era di per sé sgradito. Il viaggio inoltre le avrebbe premesso di fare una capatina da Jane e in breve, all'avvicinarsi di quel momento, un eventuale ritardo le sarebbe dispiaciuto molto. Tutto comunque andò per il verso giusto e il viaggio fu stabilito secondo il piano iniziale di Charlotte. Lei avrebbe accompagnato Sir William e la sua seconda figlia. La brillante idea di passare una notte a Londra fu aggiunta per tempo e così il progetto divenne perfetto quanto può esserlo un progetto. L'unica pena era quella di lasciare il padre, al quale sarebbe certamente mancata e che quando venne il momento era così dispiaciuto di quella partenza da chiederle di scrivergli e fece quasi la promessa di rispondere alle sue lettere. Il congedo tra lei e Mr. Wickham fu assolutamente amichevole, specialmente da parte di lui. Il suo attuale obiettivo non poteva fargli dimenticare che era stata Elizabeth la prima a suscitare e a meritare le sue attenzioni, la prima a sapere e a compatire, la prima a essere ammirata. E nel modo di dirle addio, augurandole di divertirsi, rammentando le cose dovesse aspettarsi da Lady Catherine de Bourgh e confidando che il loro giudizio su di lei, il loro giudizio su chiunque, sarebbe stato coincidente, c'era una sollecitudine, un interesse, che le fece capire come gli sarebbe stata sempre legata da una stima sincera e si separò da lui convinta che, sposato o celibe che fosse, sarebbe sempre rimasto il suo ideale di uomo amabile e piacevole. Il giorno successivo i suoi compagni di viaggio non erano del tipo da farle ritenere lui meno gradevole. Sir William Lucas e la figlia Maria, una ragazza cordiale ma con la testa vuota come il padre, non avevano nulla da dire che fosse degno di ascoltare e lei li stava a sentire più o meno con lo stesso piacere del rumore della carrozza. Elizabeth amava le assurdità, ma conosceva Sir William da troppo tempo. Non avrebbe potuto dirle nulla di nuovo sulla sua presentazione a corte e sul cavalierato e le sue gentilezze erano consunte quanto i suoi argomenti. Era un viaggio di sole 24 miglia e partirono così presto da essere a Grace Church Street per mezzogiorno. Mentre si avvicinavano a casa di Mr. Gardiner, Jane era alla finestra del salotto, in attesa del loro arrivo. Quando entrarono nel corridoio era là a dar loro il benvenuto ed Elizabeth, scrutandola ansiosamente in volto, fu contenta di vederla sana e bella come sempre. Sulle scale c'era una truppa di ragazzini e ragazzine che erano troppo impazienti di vedere la cugina per starsene ad aspettare in salotto e troppo timidi, dato che non la vedevano da un anno, per scendere più in basso. Tutto era gioia e tenerezza. La giornata trascorse molto piacevolmente, il mattino trandi rivieni e spese e la sera in uno dei teatri. Qui Elizabeth riuscì finalmente a sedersi accanto alla zia. Il primo argomento fu la sorella e fu più addolorata che stupita nel sentire, in risposta alle sue dettagliate domande, che sebbene Jane si sforzasse sempre di farsi coraggio, c'erano periodi di depressione. Era tuttavia ragionevole sperare che non sarebbero continuati a lungo. Mrs. Gardiner le raccontò anche i particolari della visita di Miss Bingley a Grace Church Street e le riferì le conversazioni che c'erano state tra lei e Jane in tempi diversi, che dimostravano come quest'ultima avesse, in cuor suo, rinunciato a quell'amicizia. Poi Mrs. Gardiner stuzzicò la nipote sulla diserzione di Wickham e si complimentò con lei per averla presa così bene. Ma, mia cara Elizabeth, aggiunse, che tipo di ragazza è Miss King? Mi dispiacerebbe pensare al nostro amico come a un mercenario. Potreste dirmi, mia cara zia, che differenza c'è in ambito matrimoniale tra motivi mercenari e prudenti? Dove finisci la cautela e inizia l'avidità? Lo scorso Natale avevate paura che sposasse me, poiché sarebbe stato imprudente. E ora, poiché sta cercando di prendersi una ragazza con sole 10.000 sterline, trovate che sia un mercenario? Se solo mi dicessi che tipo di ragazza è Miss King, saprei che cosa pensare. È una bravissima ragazza, credo. Non so nulla di negativo su di lei. Ma lui non le ha prestato la minima attenzione, fino a quando la morte del nonno non l'ha resa padrona di quel patrimonio. No, perché avrebbe dovuto, se non gli era permesso di conquistare il mio affetto, poiché non avevo denaro. Che cosa avrebbe potuto farlo innamorare di una ragazza di cui non gli importava nulla e che era ugualmente povera? Ma mi sembra indelicato l'aver rivolto le sue attenzioni verso di lei subito dopo l'accaduto. Un uomo messo alle strette non a tempo per tutte quelle eleganti convenzioni che altri sono in grado di osservare. Se lei non ha nulla da obiettare, perché dovremmo farlo noi? Il fatto che lei non abbia obiezioni non giustifica lui. Dimostra soltanto che le manca qualcosa in buonsenso o sentimento. Beh, esclamò Elisabeth, prendetela pure così. Lui è un mercenario e lei una stupida. No, Lizzie, non è così che la prendo. Mi dispiacerebbe, lo sai, pensare male di un giovanotto vissuto così a lungo nel Derbyshire. Oh, se è solo per questo, io ho una pessima opinione dei giovanotti che vivono nel Derbyshire e i loro amici intimi che vivono nell'Earthforshire non sono molto meglio. Non ne posso più di tutti loro. Grazie al cielo domani andrò in un posto dove troverò un uomo che non ha nessuna qualità gradevole, che non ha né modi né buonsenso che lo possano raccomandare. Dopotutto, gli uomini stupidi sono i soli che valga la pena di conoscere. Stai attenta, Lizzie. Queste parole sanno molto di delusione. Prima di separarsi a conclusione dello spettacolo, Elizabeth ebbe l'inaspettata felicità di un invito ad accompagnare gli zii in un viaggio di piacere che avevano intenzione di fare in estate. Non abbiamo ancora deciso del tutto quanto ci porterà lontano, disse Mrs. Gardiner, ma forse fino alla regione dei laghi. Nulla poteva essere più gradevole per Elizabeth, che accettò l'invito immediatamente e con molta gratitudine. «Oh, mia cara, carissima zia!» esclamò rapita. «Che delizia! Che felicità! Mi ridate nuova vita e nuova forza! Addio alla delusione e alla malinconia! Che cosa sono gli uomini in confronto alle rocce e alle montagne? Oh, che momenti di estasi passeremo! E quando saremo di ritorno non sarà come con gli altri viaggiatori, incapaci di fornire un resoconto accurato di alcunché. Noi sapremo dove siamo stati, rammenteremo quello che abbiamo visto. Laghi, montagne, fiumi non saranno confusi nella nostra immaginazione. Né, quando cercheremo di descrivere un qualche paesaggio particolare, ci metteremo a discutere su dove fosse situato. Sapremo esprimere le nostre emozioni in modo meno insopportabile di quanto faccia la maggior parte dei viaggiatori.